Grazie a tutti. Grazie. Abbiamo già una lista di oratori che ringraziamo di essere presenti, di parlare per conto di comunità, istituzioni, organizzazioni e che ringraziamo perché porteranno la parola delle varie istanze di libertà che sono presenti nei vari posti del mondo. Questa infatti è la nostra novità, oggi riusciamo finalmente a collegarci anche da vari posti simultaneamente. Quindi però oltre a questa lista abbiamo una scaletta aperta nel senso che potete iscrivervi sulla chat dando mano a mano il vostro nome e prenotandovi a parlare. Secondo poi vi raccomandiamo, siccome siamo tanti, penso una quarantina, di limitarvi a cinque minuti se è possibile. Vi avverto che per gli interventi dall'inglese, dal francese e dal tibetano ci sarà una traduzione consecutiva. Vi invito, come vi diceva Marco prima, a chiudere i microfoni quando non parlate e ovviamente a ricordarvi di attivarli nel momento in cui prendete la parola, che vi sarà data dal presidente Vincenzo Lita. Infine, per chi ancora non ricevesse le nostre newsletter di Società Libera, vi invitiamo a darci sempre tramite la chat il vostro indirizzo email. Lo ridico brevemente in inglese. Ok, in inglese, just a few technical notes. Ok, we have already you on schedule, all the people who are here, but we were inviting other people to enroll using the chat. We recommend that you speak five minutes or just a little bit more, because we are many to speak. There will be a consecutive translation from French and from English and from Tibetan. So we kindly ask you to stop every one, two minutes, please. And then we invite you also to switch off your microphones when you're not speaking and of course to remember to switch them on when you're going to speak. And also, if anyone of you doesn't receive our newsletter and wishes to receive them, please give us your email address using the chat. So thank you to everybody and good conference. Grazie a tutti. Buona marcia per la libertà e adesso cedo la parola al Presidente di Società Libera, il Dottor Vincenzo Lita. Allora, chiedo a tutti di mutare i microfoni, altrimenti Marco dovresti mutarli tu e successivamente Vincenzo ti devi smutare. Va bene. E allora, vi ringrazio anch'io per essere venuti e per aver partecipato a questa strana marcia, strana tredicesima marcia per la libertà. Certamente è diverso, non è così emozionante stare chiusi in una stanza rispetto ai cinque chilometri almeno che abbiamo fatto negli ultimi cinque anni, negli ultimi tre anni scusatemi, gli ultimi cinque chilometri che abbiamo fatto sulla Via Francigena a Campagnano. Però ci accontenteremo anche di questo. Tanto più che anche grazie ai mezzi e alla piattaforma che abbiamo utilizzato, molto probabilmente non l'avremo visto a Campagnano, ma oggi abbiamo anche, tra tanti amici che già conoscevamo, anche un nuovo amico che ci parla della situazione di Hong Kong e ci parla direttamente da Taiwan. Molto probabilmente, dicevo a Campagnano, avremo avuto difficoltà a farlo venire. Se vogliessimo dare, come dire, un titolo a questa marcia, oggi io direi che è l'anno zero per la difesa dei diritti umani nel mondo. E perché? Perché dal 13 ottobre, cioè da appena dieci giorni or sono, nel Consiglio ONU per i diritti umani, tra gli altri, sono intervenuti, sono entrati a far parte del Consiglio ONU, la Cina, la Russia e il Pakistan. Voi capite che diventa difficile occuparsi da oggi in poi, almeno per le Nazioni Unite, dei diritti umani con la presenza di tre nazioni che in qualche modo, dal punto di vista dei diritti umani, hanno tanto da farsi perdonare o tanto da nascondere. E quindi, questo sicuramente è stato, per l'amore di Dio, una elezione democratica fatta in piena regola, per cui l'Assemblea Generale ha votato come doveva votare, evidentemente però si avverte una crisi della governance, sia dell'ONU, sia dell'organismo del Consiglio sui diritti umani che ha sede a Ginevra. Evidentemente è una governance da cambiare nel corso del tempo, perché se si vota per blocchi compatti rispetto ad aree geografiche ben precise, voglio dire, l'Asia vota per tre rappresentanti asiatici e evidentemente lì la Cina la fa da padrone e così di seguito. Quindi è una crisi della governance dell'ONU. Possiamo sicuramente, per quanto mi riguarda, parlare di tramonto della difesa dei diritti umani, perché da oggi in poi diventa anche molto più difficile occuparsi di alcune cose. E chi farà mai fronte alla situazione di centinaia e centinaia di milioni di persone che oggi nel mondo scontano la non libertà o d'azione o di religione o di possibilità di esprimere le proprie libertà individuali? Diventa tutto molto più difficile. Vedete, in questi giorni io sono stato particolarmente colpito da quello che è successo in Cina dopo l'ennesimo accordo tra Vaticano e governo cinese a proposito della nomina dei Vescovi in Cina. Questa lotta che in altri tempi nel mondo occidentale e in Europa si sarebbe chiamata per le investiture tra papato e imperatore l'abbiamo avuto per tanti anni negli ultimi decenni tra governo cinese e Vaticano. Oggi è superato perché l'accordo c'è stato con dei risvolti veramente poco piacevoli sul terreno dei diritti umani. Bene, vi è un arcivescovo ben voluto, molto ben voluto, un vescovo dalla popolazione cinese, o qui mi sono appuntato il nome, che è Guo Xi'an, che dal Vaticano a seguito degli accordi è stato retrocesso da vescovo a vescovo ausiliare della sua provincia. E quello che era stato un vescovo che era... Non ti sentiamo più Vincenzo, ti sei mutato, prova a... Mi sentite adesso? Sì, siamo arrivati al vescovo che è stato retrocesso. Al vescovo retrocesso e a suo posto è stato nominato il vescovo Zan, che in passato era stato scomunicato dal Vaticano perché amico del governo cinese, filo cinese, filo governativo. Voi capite che allora se giochiamo anche sui vescovi a metterli a toglierli a secondo delle convenienze degli accordi politici, e questo avviene anche nell'ambito di una religione, chi si preoccuperà ancora seriamente dei diritti umani nel mondo? Volevamo, ne abbiamo lavorato molto con Maria, con Marco Marchese in questi ultimi tempi perché dopo che il vescovo Zan, che è la cardinale di Hong Kong, poi ce ne parlerà meglio evidentemente, il nostro amico di Hong Kong, era venuto a Roma per farsi ricevere dal Papa e per spiegare la triste situazione del cattolicesimo in Cina e non è stato ricevuto e quindi è ritornato indietro. Abbiamo provato ad averlo in questa stanza questa sera, ma siamo arrivati un po' tardi e la cosa non si è realizzata. Ci auguriamo di realizzarla in seguito. Comunque, al di là, quell'esempio del Vaticano è un esempio, come dire, eclatante, poiché non ci si aspetta da quella versante comportamenti di questo tipo nel momento in cui bisogna difendere i diritti umani. Ma al di là di questo, io vorrei parlare molto altrettanto chiaramente. Vedete, a mio avviso quanto un organizzatore, quanto un'associazione, quanto qualsiasi organismo organizza qualcosa, quasi per principio si dichiara molto soddisfatto del proprio operato, del proprio impegno e così potrebbe essere anche per Società Libera. Lo è per altre cose, per altri aspetti Società Libera, non lo è su questo versante. Siamo poco soddisfatti e non propriamente, come dire, contenti dell'azione di questi anni portata avanti. Non a caso oggi dobbiamo festeggiare, festeggiamo la tredicesima marcia internazionale, vuol dire che per tredici anni ci siamo dedicati annualmente ad occuparci dei diritti umani e delle marci in Europa. L'abbiamo fatto in contemporanea, abbiamo realizzato anche degli obiettivi significativi che erano, come dire, l'idea iniziale, erano la base dell'idea iniziale delle marce di Società Libera. Uno ha potuto imparare a marciare insieme. Io non avevo mai marciato a Roma o a Parigi insieme agli amici vietnamiti, laudiani, iraniani, cambogiani, tibetani, uguri, tutti insieme. Perché la gente nel mondo è abituata a marciare ognuno per il proprio conto, ognuno a difendere le sue cose, la sua terra, il suo spazio di autonomia, evidentemente. Beh, se qualcosa si può ringraziare a Società Libera è quello di, come dire, di aver imparato insieme a quei tanti amici del mondo a marciare tutti insieme, a dimostrazione che la libertà è una nel mondo, non ci sono tante libertà. Detto questo, quindi un obiettivo raggiunto e via dicendo, raggiunto anche l'obiettivo, come dire, di mettere insieme e capire ben bene che i diritti umani hanno una loro universalità. Mi sentite ancora? Si è bloccata la trasmissione. Cioè? Marco, ecco, ti risentiamo, sì. Sì, ti risentiamo. Fin dove sono arrivato? Marciare per i diritti? Marciare per i diritti è un'universalità, non è un fatto, come dire, divisibile per etnie o per nazioni e via dicendo. Dicevo questo. Ci siamo, questo dal punto di vista delle positività raggiunte con queste marce e con l'impegno di Società Libera. Poi ci sono una serie di fallimenti, ecco, per cui, dicevo all'inizio, non mi piace decantare solo alcuni obiettivi raggiunti. Abbiamo provato per parecchi anni con il Parlamento europeo a far sì che il Parlamento europeo si facesse carico della giornata europea per i diritti dei popoli e delle minoranze oppresse. Qualcuno, qualche personaggio, qualche parlamentare ci ha dato ascolto, altri ci hanno preso in giro. Non è particolarmente sentito l'argomento al Parlamento europeo. Io ho sempre detto, come dire, che è stato più facile al mondo mettere su la giornata del cane anziché la giornata dei diritti umani nel mondo. Perché quella del cane esiste, quella dei diritti umani in Europa non ha avuto cittadinanza, per meglio dire. L'altro fallimento è stato complessivamente il silenzio dell'Occidente. Interessa ben poco all'Occidente, basta che arriva qualche cinese da queste parti e ci parla della Via della Seta, come se fosse, come dire, un grande miraggio, una grande cosa da realizzare, in cui tutti possono vivere felici nel momento in cui avremo attivato la Via della Seta, che in alcuni governi europei, per non dire il nostro in primis, evidentemente ci cascano abbondantemente. Poi senza rendersi conto che cosa ha significato l'imperialismo e significa l'imperialismo cinese, qui a pochi passi da noi, cioè nel continente africano. Su 54 paesi che compongono il continente africano, praticamente la presenza in alcuni stati, massiccia presenza della Cina, si avverte in 48 di questi paesi, o perché costruiscono delle cose, o perché costruiscono delle città, o perché hanno costruito e si sono diventati padroni di porti che sul piano del commercio internazionale, via di cento, oscurano qualsiasi tipo di attività europea. Io dico sempre che un giornalista, quanto cadde il ponte di Genova, c'era un giornalista disperato che diceva perché abbiamo perso un hub, perché dovete capire, un giornalista di Rai 1, dovete capire che il porto di Genova muove annualmente 2 milioni di containers. Quindi la parola 2 milioni lo rallegrava, gli riempiva la bocca, ma mai nessuno gli aveva spiegato evidentemente al povero giornalista che i cinesi in Tanzania, a posto di dare salam, hanno costruito un porto che muove 20 milioni di containers l'anno. Ma questo all'Occidente o fa finta di non saperlo, o non lo sa perché nessuno glielo dice, evidentemente. Vado avanti velocemente perché sono passati già 8 minuti. Il silenzio dell'informazione. Se tante cose, poi gente come noi non ne riesce a farle, evidentemente perché parla nel deserto, perché l'informazione non si occupa di problemi di questo tipo. Posso fare due esempi eclatanti che riguardano una testata, non dirò il nome dei giornalisti per carità di patria, l'attestata è il Corriere della Sera. Tre volte Rebbia Cader, leader spirituale degli Uuguri nel mondo, è venuto a guidare a Roma la Marcia di Società Libera. E quanto è venuto, l'ultima volta era ancora vivo il povero Marco Pannella. Ci mettiamo d'accordo e facciamo fare anche un'intervista da parte di un quotidiano importante, come può essere il Corriere della Sera, a Rebbia. Se ne occupò Marco Pannella, facemmo in un albergo romano questa intervista a Rebbia, dove uscire il giorno dopo, dopo due giorni, cioè il giorno in cui faceva la marcia Società Libera, la mattina andammo a comprare il giornale e ci accorgemmo che l'intervista non c'era. Marco chiamò il giornalista del Corriere di Roma e via dicendo, il quale molto candidamente gli disse a Milano non me l'hanno fatto passare questa intervista, perché la Rebbia ha premuto troppo in funzione anticinese nel momento in cui ha fatto l'intervista. Voi capite qual è il livello di libertà della nostra informazione. E questo, fino al ridicolo di qualche mese fa, qualche mese fa la nostra amica Stefania Fuscagni, mi segnalò un pezzo sul Corriere della Sera una mattina in cui c'era un valente giornalista di primo piano del giornale che aveva fatto un bell'articolo sugli uguri, tutto scandalizzato perché diceva ah, gli uguri hanno grossi problemi in Cina, vengono mandati nei campi di concentramento, è molto strano che in questo paese mai nessuno parli, abbia mai parlato degli uguri. E quindi tutto contento lui che ne faceva promotore di questa segnalazione. Come Società Libera le abbiamo scritte, una bella lettera, documentando che erano 12 anni che facevamo le marci, documentando che per tre anni il Biacader è venuto a Roma a guidare la marcia e via dicendo, documentando quante cose avevamo fatto insieme a Marco Pannella, e prima di Società Libera Marco Pannella aveva fatto per gli uguri e via dicendo. Lo invitavamo, non sapevamo che dovevamo fare questa marcia online, pensavamo di ritornare a Campagnano e via dicendo, l'abbiamo invitato a venire a vedere come erano organizzate le marce di Società Libera con le comunità. Sapete, non c'è manco risposta. Tanto il suo mestiere l'aveva fatto, l'aveva fatta a bella figura con un articolo. Cose misere e inutili, andiamo avanti velocemente. Certo, se l'informazione, come dire, è un'informazione che io amo dire, è un'informazione sempre di corte, un'informazione che va dietro a delle cose politicamente interessanti per la politica nazionale e internazionale, non si può occupare poi dei diritti umani o del fatto che, tanto per utilizzare il ragionamento sugli uguri, gli uguri vengono letteralmente massacrati oggi come oggi e rinchiusi nei campi di concentramento come avete visto, da qualche parte. Terzo fallimento, ed è l'ultimo, il silenzio del liberalismo in questo Paese, un liberalismo che è solo chiacchierato, molto chiacchierato e che si occupa di libertà, quanto deve occuparsi e deve parlare di fatti domestici, quanto deve occuparsi e parlare di quale saranno le posizioni delle liberali nelle prossime elezioni per vedere di occupare qualche scanna in Parlamento o in qualche consiglio regionale. Di diritti umani e di liberalismo è stato sempre, come dire, relegato dal mondo liberale al mondo fantasioso, che dico, di un certo tipo di sinistra, che in qualche modo non arriva però né ad occuparsi, non è mai arrivato ad occuparsi, né delle stragi dei cristiani nel mondo, né di quello che succede in Venezuela con Nicolás Maduro, né quello che succede in alcune popolazioni, come dire, dimenticate completamente, i cui diritti vengono calpestati continuamente come se nulla fosse, una per tutti, i mapuce nella Sud America e via dicendo. Non si occupano più di cose che sono politicamente corrette. E allora mettete insieme questi tre fallimenti, allora voi capite che... Mi sentite ancora? Mi sentite? Sì, sì, sì. E voi capite, come dire, anche perché c'è uno certo scoramento anche da parte nostra. Io faccio una proposta agli amici non di società libera, qualcuno che non è di società libera presente qui, e poi Maria è pregata, come dire, di allargarla, anche agli amici delle comunità che non parlano l'italiano e via dicendo. Noi dobbiamo farci portatore di una stesura, di un avvio, di una piattaforma in cui l'anima e lo spirito liberale di questa piattaforma sia ben presente, che non va avanti con il politicamente corretto, ma che si occupa dei diritti umani indipendentemente se questi diritti umani vengono calpestati dalla Cina o dagli Stati Uniti d'America, dove vengono calpestati, se vengono calpestati popolazioni di un certo tipo di colore di pelle o popolazioni che hanno un altro colore di pelle. E questo significa realmente, in maniera neutra, universalistica, occuparsi dei diritti umani. E quindi questa piattaforma del mondo liberale sui diritti umani speriamo di lanciarla appena è possibile muoversi più facilmente all'interno di questo Paese e affinché sia, come dire, il prodotto che potremo e possiamo, e mi auguro che potremo portare il prossimo anno alla quattordicesima marcia per la libertà dei popoli e delle minoranze. Io mi fermo qui perché ho rubato già troppo tempo, sono 35, ho parlato 14 minuti e comincio subito a passare la parola a chi di dovere. Noi pensavamo, questa mattina anche con Maria, perché abbiamo in collegamento, le abbiamo visti prima, tre monaci che in qualche modo rappresentati anche da Ghesh, Dorje, Wokung, che è un po' la guida spirituale dell'Istituto Samandabhadra di Roma. L'Istituto Samandabhadra di Roma è un vero centro di studi della religione buddista, quindi del buddismo. E in qualche modo lascerei la parola a Ghesh e contemporaneamente le pregherei, visto che sono in tre, anche di una piccola preghiera in tibetano, rivolta da questa Marcia Internazionale per la Libertà e da noi tutti, in onore di tutti i martiri dei diritti umani nel mondo, dovunque essi siano caduti. Grazie. Io non sento nulla. Allora, vi dovete smutare, da Ghesh dovrebbe levare il microfono muto. you should unmute you because I can see you are still mute so we can't hear you. Hello. Yes, your microphone is mute. Marco, puoi provare... Wait a minute, wait a minute because we still can't hear. Marco, puoi provare a smutare tu? Si, provo. Yes, is there anybody that can unmute a microphone? Allora, chiedo un attimo anche all'interprete... Chiedo anche di iPad di microphone. Grazie. Dari Mendoza. Taci e c'è una nota. Dì, ma ora di iPad di microphone. Grazie. Ok. Ok. Iniziami. Yes, calm e good. Niengidu. Ah. Niengidu, niengidu. Oh, ya, ya. 않agne. Niengidu. Niengidu, disayguari. Niengidu, disayguari. Niengidu. Tuo,שig crease. Noff, niengidu. Diakanu eodus. S tasted. President. Or au NYZAG. Niengidu, disayguari. Niengidu. Ukyabyo. Hoa dinegrise guiana. Niengidu. Maacchya,? Maacchya, disayguari. Niengidu. Maacchya. Oni chiche. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Oggi sono presenti qui con voi tre monaci dell'Istituto Samantabhadra di Roma e l'intervento di cui si fa portavoce Geshe Dorji Wanchuk è su come richiesto prima, sarà per la sua preghiera, quello che si farà dopo sarà per una preghiera di beneficio per quello che sta accadendo oggi in tutto il mondo, per le guerre che sono per i conflitti, per le situazioni difficili che stiamo vivendo anche a causa del Covid e che hanno piutturato la situazione. Geshe là, è molto contento che si sia in questa occasione organizzato un evento a favore delle minoranze, di tutti coloro che ovviamente non hanno alcuna libertà, alcun diritto, nemmeno diritto di culto, libertà di culto. e soprattutto se si considera quella che è la situazione attuale in Tibet, laddove molte persone si battono per i diritti e la libertà del popolo tibetano e molte persone sono morte e hanno subito grandi sofferenze, grandi difficoltà per tutto quello che sta accadendo in Cina. C'è una lunghissima storia su questo che molti di voi conosceranno e che dimostra le grandi sofferenze, le grandi perdite del popolo tibetano, i morti, tutti coloro che si sono impegnati per la libertà e per i diritti e che tuttora si impegnano per la libertà e per i diritti. Geshe là chiede, quello che lui fa una richiesta, a tutti coloro che hanno il potere di agire in qualche modo per portare un miglioramento, una risoluzione di queste condizioni politiche avverse, di fare qualcosa, di guardare la situazione tibetana che è lasciata da parte, abbandonata. In effetti i politici non si occupano come dovrebbero di quella che è la situazione tibetana attuale. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. A partire dal 1959 fino ad oggi, sono trascorso moltissimo tempo, moltissimi anni, la situazione politica è sempre più precipitata e non parliamo insomma di quelli che sono gli avventi storici che tutti sappiamo quelli che sono accaduti in passato, ma basta guardare a quello che è accaduto più di recente, a tutte quelle persone che per poter essere ascoltate, tutti quei tibetani per poter essere ascoltati, hanno deciso di fare gesti eclatanti, addirittura di togliersi la vita ardendosi i pipi, ecco. Questi gesti estremi sono un gesto di richiesta dell'attenzione che il popolo tibetano chiede al mondo, di guardare a quello che sta accadendo in Tibet, quindi molti tibetani si sono privati della cosa preziosa, della loro vita stessa, con gesti eclatanti, bruciando il loro corpo in pubblico. E questo è proprio una richiesta, una forte richiesta a tutti quanti al mondo, guardate quella che è la situazione del Tibet, quello che accade in Tibet, rivolgete la vostra attenzione a quello che sta accadendo in Tibet, tutt'ora accade in Tibet. E anche su Santitente Ibeda Lama, ovviamente spesso nei suoi discorsi fatto riferimento, ha chiesto appunto a tutti di una collaborazione, o comunque di rivolgere a tutti i politici la loro attenzione a quanto accade in Tibet. E c'è una grande speranza che Geshella muta, una grande speranza, speranza condivisa da tutto il popolo tibetano, quella che l'attenzione necessaria è che tutti essi richiedono sia effettivamente corrisposta, che tutti guardino in qualche modo a quello che sta accadendo in Tibet. Grazie a tutti. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ci sono due elementi fondamentali su cui dobbiamo far leva per portare un cambiamento radicale in quella che è la situazione che riguarda tutti quanti al mondo. L'amore altruistico e la compassione, che sono due cardini fondamentali della condotta morale buddista, ma che in realtà sono due elementi essenziali su cui devono far leva tutti i politici. Tutti quelli che si occupano di politica, che si interessano di politica per indurre un vero cambiamento in quella che è la situazione che riguarda tutti, devono considerare importanti anche questi due aspetti, al di là delle finalità meramente politiche. Perché è arrivato il momento di fare conti con quello che sta accadendo, i conti con quello che loro fanno, con le loro azioni, che quanto possiamo vedere mancano totalmente di questi due aspetti. Non sono spinti da altruismo, non sono spinti da compassione nella maggior parte dei casi e ne faremo le conseguenze anche in futuro. Quindi affinché ci possa essere un cambiamento reale, siamo tutti chiamati a riflettere su questo. Perché questi non sono soltanto dei principi cardine di una tradizione religiosa quale quella buddista, ma sono importanti per tutti i cittadini del mondo affinché ci sia la pace nel mondo, ci possano essere risoluzioni dei grandi problemi che affreddano l'umanità. Ed è per questo che tutti i policisti sono chiamati ora a riflettere sull'importanza dei loro gesti e sull'importanza di dar spazio a questi aspetti che devono muovere il loro pensiero e le loro azioni. Quindi l'altruismo, l'amore verso il prossimo e la compassione. Gescela dice adesso non c'è molto tempo, non si può dilungare oltremodo nei discorsi, ma come aveva accennato all'inizio e come gli era stato chiesto, lui e gli altri monaci qui presenti con noi faranno una preghiera che sia di beneficio per tutti quanti, affinché ci possa essere la pace nel mondo, affinché ci possa essere una risoluzione per tutti i conflitti, le guerre che affliggono l'umanità e anche che possa essere di beneficio per tutti coloro che soffrono per le malattie, anche per la condizione della pandemia che ci riguarda tutti da vicino. E quindi la preghiera che saranno avrà questo scopo. E quindi la preghiera che sanno avrà questo scopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i presenti in questa riunione per la marcia dei diritti di tutti quei popoli oppressi. Grazie a tutti. Ci posso essere una soluzione di tutte le problematiche. Grazie a tutti. Libero, tibet free. Adesso io darei immediatamente la parola a Stefania Fuscagni, già presidente di Società Libera, come dire, che in qualche modo, molto velocemente, come nel suo stile, ci farà guadagnare anche qualche minuto. Vai Stefania. Pronto? Grazie a tutti. 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 dei difenders e i guests. 2019 was a difficult year for Hong Kongers and also for those who uphold the principle of human rights. Over the year, from summer to winter, we've learned to radicalize, to really face the reality that we have to fight. That fighting within the institution alone will not shake CCP. That we have to fight in the street against police violence but the result was cruel after one year now what we have is national security law in force press freedom and academic freedom are in further danger we fought a beautiful war but we didn't win Hong Kong was such an important city between China and the world our movement got the media attention we expanded our movement from the legislature to the streets sorry we can't hear you I think the connection is blocked some way okay can you hear me now yes now I can hear you Hong Kong being half between western world and of course and about the movements right can you can you hear me see yes we can hear you okay yeah stopped right okay now I can hear you yes good very good I mean Hong Kong was indeed an important city between China and the world and our movement got the media attention last year we've expanded our movement from legislature to the streets with two millions of people and from the streets to international arena further doing international advocacy for human rights for Hong Kong and we saw hope that the United States that Italy that Germany and France and Sweden Australia and many other countries will make an effort to help Hong Kong to do something to change the human rights situation but COVID-19 was such a good strategy by China to keep everyone else occupied Hong Kong's protests has died down we need to rest now and to get prepared for the next waves and now we also lost media attention the world now focuses on Thailand well that's understandable because Thailand's situation is not better than Hong Kong and while Hong Kong supports Thai people with our hearts to fight for freedom but we don't want the world to forget about us and nor do we want the media to forget about Tibet and East Turkestan and Iran and many other places ok can I interrupt you just one minute for translation of course thank you e allora ringrazio Società Libera i difensori dei diritti umani e tutti voi presenti il 2019 e il COVID 2019 sono state in una situazione particolare per Hong Kong perché innanzitutto in Hong Kong abbiamo cominciato a capire che dovevamo radicalizzar radicalizzarci in un certo senso dovevamo veramente combattere perché le cose non sarebbero cambiate e abbiamo capito che non bastava più combattere all'interno delle istituzioni ma bisognava scendere in strada e dopo un anno però di queste manifestazioni cosa abbiamo ottenuto che solo che la legge sulla sicurezza nazionale venisse addirittura rinforzata le libertà di espressione di stampa sono state schiacciate e insomma non abbiamo vinto e Hong Kong era diciamo metà strada fra la Cina e il mondo e i media le davano attenzione e diciamo anche il mondo siamo passati dalle strade siamo scesi in strada e poi abbiamo cominciato ad ottenere anche l'attenzione dei media internazionali e del lettore internazionale e noi speravamo che gli Stati Uniti l'Italia ma la comunità internazionale in generale ci guardasse e facesse uno sforzo per aiutarci per sostenere il nostro la nostra azione per sostenere i diritti umani e per cambiare la situazione dei diritti umani in realtà però il Covid-19 è stato in un certo senso una strategia cinese è una buona strategia perché ha distratto l'attenzione del mondo le proteste adesso sono finite noi diciamo ci dobbiamo in qualche modo mettere a riposo e abbiamo però perso l'attenzione dei media e della comunità internazionale noi non vogliamo però invece che il mondo e la comunità internazionale si dimenticano di noi ma non solo si dimenticano del Tibet si dimentichino del Turkestano orientale thank you Maria at the beginning of the movement people didn't really want to connect to well to be associated with Tibet and East Turkestan for one these areas were framed as separatists in our education and we thought if we connected to them if we were associated with them we might hurt our international image and the world might hesitate to support us and now when we look back at this as hesitation we found that that's exactly what the CCP wants to split the dissidents to prevent us from uniting now that many representatives of victims of China are here today I'd like to say Hong Kong doesn't want to become Tibet in the past nor do we want to become East Turkestan in the past that gets international attention and that's it we need action and we want to make changes we want to win together to win our homes back instead of having sympathy many countries still kowtow to China today Bishop Zen's visit to the Vatican is a very good example it was not received by the Pope for Hong Kongers especially for the Catholic community in Hong Kong the church betrayed us the church betrayed human rights just to keep good relationship with China to trade for money and their own benefits all'inizio il nostro movimento di Hong Kong non voleva essere associato nell'immaginario collettivo con il Tibet e con il Turkestan orientale perché in base a quello che ci era stato trasmesso culturalmente questi popoli erano dei separatisti non volevamo essere associati con loro temevamo che altrimenti la nostra immagine internazionale ne sarebbe stata lesa e che il mondo ci avrebbe considerato in questo modo e ora se ci riguardassimo invece indietro a quello che ha successo ci renderemmo conto anzi ci rendiamo conto che è proprio quello che voleva il partito comunista cinese voleva dividerci dividere noi dissidenti gli uni dagli altri per impedirci di unirci ora se ci rendiamo conto che siamo stati tutti vittime di questa strategia ma noi come Hong Kong non vogliamo diventare come diciamo il Tibet o come adesso il Turchestano orientale abbiamo bisogno di agire abbiamo bisogno di vincere insieme per riavere tutti quanti la nostra casa patria molti paesi purtroppo portano avanti una politica di amicizia nei confronti della Cina e il caso del Vescovo Zen è un ottimo esempio di questo infatti i cattolici di Hong Kong si sentono traditi dalla Chiesa sentono che la Chiesa ha tradito noi ha tradito i diritti umani perché per mantenere buone relazioni con la Cina per mantenere interessi economici e per mantenere i propri benefici money talks China ha money now and China bribes many countries to make them stand on its side and we need to tackle China's economic imperialism in Europe in Asia in Africa and in the Americas we welcome some European countries who are doing a good job in not choosing Huawei for the 5G and we welcome Germany's new Indo-Pacific strategy that aims to tackle the influence of the single market of China over Germany but Tibetan monks set fire to themselves and we Hong Kongers radicalize to resist the violence of police but we are not terrorists we try to stay peaceful when never possible in fact in Hong Kong we've tried that for over 30 years and we try to solve problems through dialogues but it's the government that refuses to have dialogue and just now when Europe has the chance to have dialogue with China but dialogue alone wouldn't move China so further action is needed especially on each country's trade relationship with China economic circle based on shared values is needed to make changes Germany can't do that alone Italy can't do that alone and Taiwan can't do that alone and that's why we should continue our fight in solidarity and we should win our homes back together fight for freedom send with Hong Kong La Cina dà soldi a molti paesi per farseli amici ed è per questo che noi dobbiamo combattere e affrontare a viso aperto l'imperialismo economico della Cina. Noi siamo felici delle decisioni prese da alcuni paesi come per esempio la Germania che ha portato avanti la strategia sull'India e sul Pacifico per continuare a gestire il controllo del mercato. E così come siamo contenti dell'iniziativa di alcuni paesi che hanno resistito a Huawei. Vediamo che i tibetani sono costretti spesso a darsi fuoco e noi di Hong Kong da parte nostra siamo stati costretti a radicalizzare la nostra azione per resistere contro le violenze della polizia. Ma non vogliamo essere chiamati terroristi, non lo siamo. Noi cerchiamo di ottenere i nostri obiettivi pacificamente e cerchiamo di risolvere i problemi con il dialogo, il problema che il governo cinese rifiuta il dialogo. Anche l'Europa da parte sua cerca di dialogare con la Cina ma il dialogo non sposterà la Cina, non la muoverà. E' per questo che dobbiamo agire con una strategia economica, lo devono fare la Germania, l'Italia. E' così che riusciremo finalmente a raggiungere i nostri obiettivi, è così che riusciremo a riavere le nostre case, è così che riusciremo ad avere la libertà per Hong Kong. Grazie a tutti. Vincenzo, devi riattivare il tuo microfono. Sì. Adam Abregadir, presidente della comunità sudanese. Sei in sala. Adam. Allora, Marco Controlli, se è entrato forse è in waiting room? No, no, in sala d'attesa non c'è nessuno. Allora, io sono convinto che dobbiamo cambiare continente e darei la parola ad Alain Philippe del Camerum, membro del Free African Movement Italia. Prima di dare la parola ad Alain Philippe, per piacere, volevo dire una cosa, rispondere un attimo al nostro amico di Hong Kong. Figuriamoci, noi come società libera, sin dal primo momento, abbiamo manifestato anche nelle scorse marce per voi di Hong Kong e via di via, però a differenza di altre situazioni siamo molto preoccupati per voi. Ok, abbiamo Alain Philippe, le chiedo un attimo di mutarsi, c'è la risposta di Vincenzo Lita a Icmo Wong e poi le diamo la parola. Un minuto, un minuto. Ok, bene. Siamo molto preoccupati perché non è la stessa situazione che abbiamo riscontrato in questi ultimi decenni in altre situazioni. Faccio l'esempio. Quanto alcune repubbliche dell'Unione Sovietica, la Lettonia, l'Estonia, la Lituania, cercavano prima l'autonomia e poi l'indipendenza, in qualche modo l'hanno avuto e l'hanno presa immediatamente perché dall'altra parte avevano un impero in disfacimento, da una parte, e avevamo anche un sistema politico che in qualche modo era decadente. La stessa cosa non vale per la Cina. La Cina non è un imperialismo decadente, anzi, come dire, si propone come prima potenza mondiale, ha un sistema economico potente, mai e poi mai concederà in qualche modo, a seguito delle vostre manifestazioni, indipendenza e né troppa autonomia ad Hong Kong, perché se no si aprirebbe il discorso su Macau, si aprirebbe discorsi sul Turkestan orientale e via dicendo. Quindi noi siamo molto preoccupati. Dovete stare molto attenti in qualche modo, ma qui entra in causa l'Europa e l'Occidente in qualche modo, che devono loro fare delle pressioni, anche di tipo economico-commerciale, sulla Cina, affinché noi riusciamo, noi, a salvaguardarvi e a guardarvi le spalle. Maria traduce e poi andiamo su Alain Filippo veloce. Ok, as I was saying, since the beginning, we of Società, I would like to answer to Mr. Mo Wong. Since the beginning, Società Libra have been fighting also for Hong Kong with its march, but this is a special situation we are very worried about, because it's not the same situation as all other situations we have been talking about. I will give you some examples. When we talk about Estonia, Lithuania and Lektonia, they were fighting for autonomy and independence, and they actually had it, because immediately, because the empire they were facing was actually going into pieces and so was the political system. But now there is a totally different situation, because China is not an empire in decadence, but it's the first economic power in the world. It's got a very powerful economic system, and it will never and ever allow you independence, because otherwise, a process would start which would also lead to Macau situation, the Turkestan situation and so on. And this is why we are very worried about this particular situation. We want to be careful about it, but who has really to be careful is Europe and Western world, who should actually really make economic pressures on China. And this is how we will be able to safeguard you of Hong Kong. This is the only way. Grazie, thank you. Grazie. La parola a Alan Philippe, prego. Grazie a tutti, preferisco parlare un po', parlerò un po' più in francese che in italiano, per farmi comodo. Maria traduce il tuo francese. Vi anticipo che Adam Abdergadir è rientrato, quindi dopo questo intervento in poi sarà disponibile. Va bene. Ok. Allora, io parlerò un po' più in francese, per essere un po' più a lese all'interno della mia pensiera. La francese di La francese è la definizione del francese, per l'aff Ceci. La francese è la francese. La francese di Fuernici è la francese di San Paolo di Hwani, per l'affolto di Hwani. che hanno colonizzato l'Africa, come l'Angliettere, gli Etats-Unis, la Francia, che hanno una mano abbastanza lourda sulle richieste dell'Africa. E questo si mostra con i dictatori o i presidenti che sono al governo, e il baione della democracia, e soprattutto l'esploitazione illimitata di loro richieste o detrimento della popolazione. Potrei tradurre? Sì, certo. Allora, il Movimento per l'Africa ha iniziato per combattere contro l'imperialismo in Africa. Perché, infatti, la nostra ambizione è quella di permettere agli africani di vivere delle loro ricchezze. perché noi sappiamo che l'Occidente e i paesi che hanno colonizzato l'Africa, in particolare l'Indaterra, gli Stati Uniti, la Francia, hanno avuto la mano pesante sulle ricchezze africane. E ne sono la prova i presidenti in carica e la democrazia che, diciamo, balla le democrazie che sono molto instabili. E abbiamo assistito a uno sfruttamento illimitato delle ricchezze a svantaggio delle popolazioni africane. Allora, l'una delle conseguenze di tutto questo è il problema dell'immigrazione in Italia, dove siamo. Io sono venuto qui, bene, non sono venuto per la mer, sono venuto per la voce normale. Io sono venuto nel centro dell'immigrazione. Io ho capito la mafia che ci ha tra l'Italiano e l'Italiano, tutta la mafia che ci ha avanti, per sfruttare il più possibile le risultato finanziere che sono messi a disposizione. Quindi, in partenza, e non comprendo perché il problema della Libia non arriva a essere risolato, perché più la Libia è instabile, più gli africani sono entrerci, e perché, justement, chacun fuirà la misera da un paese, in esperanza di trovare un Eldorado in Europa. E questa è una delle conseguenze, delle conseguenze di questa souffrazione, in Africa, che fa che, oggi, in Italia, abbiamo un affluo massifo di rifugiati. La mia luce principale è di ammettere gli italiani, perché, di ammettere gli italiani a comprendere il senso delle preoccupazioni degli africani. Abbiamo visto, gli africani hanno visto, che 90% dei problemi a la televisione italiana, è di dire che che il problema dei italiani, sono gli africani e gli ingri. Ora, abbiamo visto che ci sono gli italiani o gli africani che possono apportare qualcosa di ciò. Inizialmente, per fare più breve, c'è che c'è tutta una conspiration di ammettere l'Africa con tutti gli italiani, con tutto ciò che gli occidentali facendo, e anche ciò che vengono, che riuscano a venire qui, tutta una conspiration a livello della televisione per ammettere davantage il mondo a avere una distanza vis-à-vis degli africani. E io vorrei d'abord, Maritela, non so se potete traduire. Allora, dunque, una delle conseguenze di questa situazione è il problema dell'immigrazione in Italia. Io stesso sono immigrato, per fortuna mia, non sono venuto dal mare, ma per una via più normale. Però ho vissuto nei centri di immigrazione e so bene quale mafia esiste fra lo Stato italiano e tutto quello che esiste intorno, che sta lì per, diciamo, succhiarsi tutte le risorse finanziarie che girano intorno a queste realtà. Quindi, si capisce bene perché la Libia rimane così instabile e che più la Libia rimane instabile, più africani entrano in Italia che si può girare la miseria sperando di ottenere un euro. Comunque, la conseguenza di tutta questa situazione è che in Italia c'è la più massiccia delle immigrazioni. La mia lotta è quella di fare innanzitutto capire agli italiani qual è il senso delle preoccupazioni degli africani. Quando io guardo la televisione io vedo che per un 90% c'è questa idea che il problema per gli italiani sono gli africani. Però noi sappiamo in realtà che ci sono degli africani invece hanno qualcosa da portare all'Italia. Per farla breve, io penso che ci sia un po' tutta una cospirazione sia a livello dell'Africa e sia anche a livello dell'Occidente. Cioè tutto quello che fa l'Occidente e tutto quello anche che trasmettono le televisioni sono parte di una specie di grande cospirazione complotto per creare una distanza tra il mondo e gli africani. ha subito una luce ferozata in questo momento con tutte le puissanze occidentali. Au Nigeria, il y a dei problemi, au Cameroun, il y a dei problemi, in Corte d'Ivoire, un certo numero di paesi, nel gulofo di Guinea, perché questa parte del continente ha molto, molto di risorse. Dopo qualche tempo, le ONG hanno messo in avanza. Human Black Watch, come si chiamano tutte queste organizzazioni che luttono contro, diciamo, luttono contro le dottore dell'uomo che sono baffiati. Quindi sappiamo che queste organizzazioni sono finanzate per i finanziari di questo mondo, soprattutto le TORUS, e tutto ciò che le finanziere, per poter stabilizzare le paesi africano. Oggi vediamo il caso del Nigeria, dove ci sono informazioni che abbiamo, ci sono iniziative a imparare un certo numero di condizioni per il Presidente Bouhari, del Nigeria, che non arriva a ceder a loro condizioni. Allora le mette, la mette è semplice, e c'è quello che noi non arriviamo a comprare. Le mette semplice, infiltrare l'opposizione, financer l'opposizione, per incitere la popolazione a se rivolter contro le instituzioni, e, petit a petit, ammere il governo a fare delle marche, a accepter delle marche pacifiche. S'il non accepte le marche pacifiche, ce sono ancora qui, ci sono i mediati che ci sono i dictati, ma pertene, c'è che, che dietro queste marche, l'opposizione domanda, la mano dell'Occidente, la mano dei finanziari, dei gruppi finanziari come le Soroceo, per stabilizzare i nostri paesi. E oggi, on lo vedo ancora nel Nigeria, nessuno non può explica profondamente le ragazzo per cui il Nigeria è a fuori in questo momento. Il y a dei problemi un po' a poco in Africa, e io ti ho detto ancora una volta, c'è perché la mano dell'Occidente è dietro, e noi lo sappiamo tutti. Io mi provo a cuore, grazie. Grazie. Dunque, adesso vediamo che in Africa ci sono truppe militari dappertutto, ma in realtà non è possibile cavare che sempre c'è un problema di mafia. Guardiamo il voto della Guinea, che è un punto di riferimento per tutta l'Africa centrale ed occidentale, è molto ricco, ed è per questo che è oggetto di una lotta per orre da parte delle attenzioni occidentali. Se guardiamo il Niger, il Camero, la Costa d'Avorio, Vediamo che sono oggetto di grandi contrasti perché in realtà in essi ci sono tantissime risorse e in questo caso vengono anche, come dire, messe avanti le ONG, le Human Rights Watch, eccetera, che dicono di difendere i diritti umani, ma in realtà sappiamo da chi sono finanzati, dai grossi gruppi finanziari come Soros e così via, che hanno l'obiettivo di destabilizzare i paesi africani. Prendiamo il caso della Nigeria, sono state poste alcune condizioni al Presidente che non riusciva a metterle in pratica, il metodo attuato è semplice, è quello di infiltrare degli oppositori, di finanziare gli oppositori per incitare la popolazione alla rivolta e poco a poco far accettare ai Presidenti dei passi che gli vengono, diciamo, imposti e se no, se questo non succede tutti i media, come dire, salgono, si indignano, e sono qui. In realtà però dietro c'è la mano dell'Occidente e di questi grossi gruppi finanziari che non vogliono fare altro che destabilizzare l'Africa, se no altrimenti non si potrebbe spiegare veramente bene quello che sta succedendo in Nigeria. Io vi domande potreste di concludere. Grazie. 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 Grazie mille Grazie a tutti. tutto questo, è il rinforzamento della misera al centro della popolazione, perché quando si tratta, con il minimo di riscaldi che abbiamo, questo crea davantage di misera, perché i budgeti dell'Etat non possono già supportare la popolazione e sviluppare il paese. Se si tratta davantage di riscaldi, questo permette ai occidenti di s'enracinare davantage, perché si propongono dei modi e si prendono i presidenti in ottaglio, in modo che non puissano marchere solo per il loro buon valore. Allora, la grossa conseguenza è che la miseria aumenta sempre di più, perché già le risorse che sono nel budget degli Stati sono al minimo. Se poi in più si viene dall'esterno a distruggere ancora di più le risorse, si capisce che la miseria aumenterà ancora di più e l'Occidente invece si radicherà ancora di più, perché porterà i suoi mezzi finanziari e prenderà, tra virgolette, controllerà i presidenti. Vi ringrazio. Sì, Vincenzo ti devi smutare. Darei velocemente la parola all'amico Enzo Meani, repubblicano milanese, uomo laico da sempre, aperto però evidentemente al nuovo, tanto è vero che poi è aderito anche a Società Libera. Vai Enzo. Grazie per l'invito. Forse sono un po' un intruso in questa situazione perché non ho partecipato... Mi sentite? Sì. Sì, ecco, non ho partecipato alle marce in precedenza, un po' perché l'età avanza, un po' per impegni anche di lavoro, forse per qualche pigrizia anche. Devo dire che sto ascoltando, sto imparando anche, ma qualche concetto vorrei introdurlo. Per esempio, si parla di minoranze oppresse e lo sono. Lo sono Hong Kong dove vogliono la libertà, lo sono i uguri, lo sono i tibetani dal 59. Sappiamo tutte queste cose perché sono abbastanza vecchio e abbastanza appassionato di storia, non sono contemporanea. Il problema è un altro però, che in realtà sono le maggioranze a loro volta oppresse dei paesi che opprimono. Perché questo che dobbiamo considerare è che ci sono nel mondo, sieno un quarto dei paesi che hanno una forma di democrazia non perfetta ma che tutela almeno formalmente determinati diritti e sostanzialmente un po' anche li garantisce. Quindi la Cina che opprime i tibetani e anche i giovani di Hong Kong che abbiamo visto tutti in televisione ci siamo commossi per la loro lotta è una Cina che a sua volta ha con il benessere magari raggiunto in parte più nelle grandi città che nelle campagne di fatto presso la conoscenza e lo spirito di libertà da parte dei propri cittadini. Quindi se guardiamo e purtroppo l'Africa sappiamo che è una continente nel quale il colonialismo prima diciamo politico militare e poi quello finanziario tuttora domina, magari oggi la Cina fa la parte del leone, ma la verità è anche che purtroppo la dirigenza di molti di questi paesi, la dirigenza politica non è stata all'altezza per potersi non dico opporre ma anche soltanto far crescere la consapevolezza dei propri popoli. Queste cose viene a dire, lo dico anche a Monsieur Philippe Tangat, che a un certo momento non si può mai guardare le cose solo da un lato. Resto però su un concetto più generale e cioè che la libertà è insidiata oggi anche in Occidente e quindi meno libertà ci sarà in quei paesi come il nostro che credono di essere liberi, meno libertà ci sarà potenzialmente per i paesi che già o per i popoli che hanno meno libertà oggi formalmente. E cito un esempio, c'è stata sempre la lotta dei prepotenti per sottrarre risorse a chi era meno forte, l'acqua, il cibo, le risorse energetiche. Ci sono sempre state oligarchie date dalla politica, allora dalla religione fondamentalista o da altri tipi di consorterie che hanno tolto libertà a molte altre popolazioni meno forti, magari soltanto forti militarmente. L'ignoranza però dei popoli e quindi la mancanza di cultura o la tenere i propri popoli nell'ignoranza è stato lo strumento che fin dai tempi dell'antica Grecia e sicuramente ai tempi dell'antica Roma serviva di più a controllare il fatto che non si discutesse democraticamente, diciamo, quello che veniva deciso. Oggi le cose non migliorano, peggiorano, perché abbiamo una discrasia, per esempio, fra il livello istituzionale anche in Europa politico, democratico e la capacità, per esempio, delle multinazionali di passare sopra le leggi dei singoli stati e non solo per la fuga fiscale o le comodità fiscali ma addirittura per il condizionamento che hanno, più che lobbistico, delle scelte politiche. Abbiamo poi un altro aspetto. Noi oggi siamo intasati di notizie e poco informati sulle cose che contano. Mentre una volta si cercava di far sapere meno, oggi si fa sapere troppo di inutile per non fare sapere ciò che è necessario per ciascuno per farsi un'idea consapevole. ultimo inganno, o il penultimo, è quello di diffondere l'idea che la tecnologia ci renda da sola di per sé stessa più liberi. Certo, i social fa circolare le idee, ci sono tutta una serie di altri meccanismi positivi, ma la tecnologia da sola è solo uno strumento a qualche volta di controllo, non necessariamente di libertà. Relegare infine a una questione di elite solamente. La cultura e la conoscenza, e oso dire l'amore anche per la bellezza dell'ambiente artistico, è lo strumento con il quale passare a livello popolare il messaggio che in fin dei conti sia abbastanza senza bisogno di occuparsi di cose superiori di cui minoranze si occupano meglio. La pandemia del Covid-19 ha peggiorato le cose. Anche in Europa assistiamo alcune tentazioni che non sono tutte rivolte al benessere della salute, lo dico da medico, del popolo, ma sono rivolte talora a fare controllo che può servire anche per altre occasioni, anche quando passerà e passerà la pandemia del Covid-19. Nuove tentazioni forse autoritarie. In realtà il problema di fondo che è rivale per tutti i popoli quelli oppressi maggioritari che a sua loro volta quei loro dirigenti opprimono le minoranze è un problema di cultura, conoscenza e scuola. Cosa possiamo fare? Non so se le marce risolvono i problemi. Sono convinto di una cosa. Più circolano le idee, più si conosce, più si aiuta e si favorisce anche con proprie risorse chi non ne ha perché salga la cultura, la conoscenza e la consapevolezza meno è facile conculcare, portare via libertà ai popoli sia ai nostri sia a quelli che ancora ne hanno meno in questo momento. Diceva Francesco Bacone che la conoscenza è potere. Io dico che per un liberale la conoscenza è prima di tutto libertà e la libertà, mi era appuntato, che deve essere a casa propria difesa strenuamente per poterla davvero in modo democratico trasmettere ad altri che ad oggi ne soffrono la mancanza. La libertà, si diceva, è come l'aria. Ce ne accorgiamo dell'importanza solo quando ci manca. Grazie per avermi lasciato un piccolo spazio e scusate se ho abusato del vostro tempo. Grazie a te Enzo, non hai abusato del tempo, anzi sei stato perfettamente dentro i tempi. Poi avremo modo di parlare anche in separata serie di queste cose perché ne avete molte giuste alcune. Adesso io darei velocemente la parola anche perché siamo maledettamente in ritardo perché vedo 16.34 in un'ora e venti minuti abbiamo parlato in sette e quindi passiamo adesso sempre in Europa possiamo dare la parola ad Elisa Maicao-Lifung, rappresentante della comunità laotiana in Francia e vicepresidente del movimento laotiano per i diritti umani. Noi, noi doniamo la parola a Elisa Maicao-Lifung, rappresentante della comunità laotiana per i diritti umani e rappresentante della comunità laotiana per i diritti umani. Potremmo potetevi reattivare il vostro microfono perché non l'entendamo? Sì, ma stagione. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Le valeur di libertà e dei diritti umani sono niente e bafogato in Laos della comunità in la popolare della Repubblica Dmocrafici Populare Laos. Laos non è un Etat di Dio, ma è un Etat di diritto da un Etat di diritto di diritto di diritto di umani. Il Partito Unico tiene tutte le regno del governo. Il n'y'a pas de pluralismo, pas d'alternance politica, pas d'élections libres, pas de libertà d'expression, pas de libertà de manifestazione. La presse, les opposants, les cyberdissidents restent muselés, les chrétiens sont encore harcelés et harassés pour leur foi. En cette treizième marche de la liberté, je pense notamment à une jeune femme de 30 ans arrêtée en septembre 2019 dans le sud du Laos pour avoir exposé sur Facebook les lacunes et les lenteurs administratives des autorités pour secourir la population lors des inondations survenues deux semaines auparavant dans sa région. Elle a été accusée de faire de la propagande contre le gouvernement. Je pense à cette activiste lao disparue à Bangkok, très probablement victime d'une coopération accrue entre le gouvernement thaïlandais et ses homologues régionaux pour éradiquer leurs dissidents respectifs en exil. Je pense à Lodkham, Sampong et Sukan, condamnés à 20 ans, 16 ans et 20 ans de prison pour avoir parlé des corruptions, des injustices au Laos sur Facebook. Je pense bien sûr à Sambat Sampong, victime d'une disparition forcée depuis bientôt 8 ans. Et à deux jours, aujourd'hui nous sommes le 24 octobre, donc à deux jours du 26 octobre, je pense au leader du mouvement étudiant d'octobre 1999, emprisonné pour une manifestation pacifique et dont nous ne sommes pas sûrs qu'il soit encore en vie. Je tiens encore à remercier, j'en profite encore pour remercier Olivier Ducuy, Bruno Mélano, Sylvia Menzi, Massimo Lenzi et Nikolai Kramov. Non, la névrogatie n'existe pas au Laos. Et oui, mes compatriotes continuent à être arrêtés ou à disparaître à chaque fois qu'ils cherchent à communiquer des vérités qui dérangent. Est-ce que je peux traduire déjà ? Oui, oui, merci. Allora, in Laos i valori della libertà e i diritti dell'uomo sono negati. Non esiste lo stato di diritto, ma abbiamo invece uno stato repressivo. Non c'è pluralismo, alternanza, libere elezioni, libertà d'espressione o di manifestazione. La stampa, l'opposizione, i dissidenti sono imbavagliati, i cristiani sono perseguitati per la loro fede. Vi faccio l'esempio di una donna di 30 anni che nel settembre 2019 è stata arrestata perché su Facebook aveva semplicemente denunciato le lentezze amministrative dei governanti per soccorrere le vittime delle inondazioni. Ecco, è stata arrestata con l'accusa di propagare, di aggredire il governo. Penso anche a altri attivisti che sono stati uccisi o arrestati in Thailandia, Bangkok, per la cooperazione tra questi due stati per arrestare i rispettivi dissidenti rifugiati politici. Penso poi ai casi di altre ragazze che sono state ingiustamente condannate a 20 anni di carcere o 16 o 20 perché avevano denunciato ingiustizia e corruzione. Penso alle sparizioni forzate, penso ancora all'anniversario che sarà dopodomani del movimento studentesco del 99 in cui sono arrestati tantissimi ragazzi manifestanti che manifestavano pacificamente e non sappiamo ancora se sono ancora vivi. E poi ringrazio degli italiani che hanno combattuto attivamente per la libertà in Laos e che hanno denunciato che non esiste la democrazia in Vietnam e che ancora vengono imprigionate delle persone solo perché dicono delle verità scomode. Chiedo di mutarvi, chiedo a tutti di... grazie. Ok, vi, 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 vi. Grazie. Auprès dell'ONU, la Laos sans complexe ha ratificato importanti conventioni internationali relativi ai drogi dell'homme senza se souciere di applicare, ni di accepter le recommandazioni cruciale lors dei UPR de 2005, 2015 e 2020. Ase un'è una di complexità economica, commerciale e politica, noi constatiamo che il è molto malato di vedere che dopo 2005, le dialogo sui dei drogi dell'homme tra l'Unione europea e il Laos siano timidi e infructuati. Ce che ci si chiama a spostare se l'aide internationale non è complice di la répression Laos. Una répression che impi non effettano tutti gli accessi dei sottotrii di sabato. Quindi se la libertà e la démocratie s'imposeremo un giorno per la volontà, il coraggio e il sacrificio dei activisti dell'interno, noi che abbiamo la chance di vivere in un paio libero, noi deviamo continuare insieme e solidari a le supporto con le moyens democratiche che ci sono dato in questo paio d'Etat, di droit e di libertà. Allora, per quanto riguarda le istituzioni internazionali, purtroppo l'ONU ancora non fa tanto perché gli accordi per la democrazia, le convenzioni non vengono rispettate. Per quanto riguarda il dialogo fra Unione Europea e Laos sui diritti umani in Laos, purtroppo sono dei dialoghi molto timidi, molto deboli. Quindi noi chiediamo invece l'aiuto della comunità internazionale perché finisca la repressione dei diritti umani in Laos e perché nel Laos viga finalmente il diritto alla conoscenza. E se riusciremo un giorno a far sì che la libertà e la democrazia si impongano in Laos, sarà perché noi, porti della nostra libertà, qui e fortunati, per la nostra condizione fortunata, riusciremo, continueremo a sostenere il movimento per la democrazia in Laos usando i nostri mezzi democratici. Quindi concludo dicendo insieme usiamo la nostra libertà per difendere la loro libertà. Grazie. Vincenzo non ti sentiamo? No, mi sentite? Stavo pensando di... Lasciamo la parola a Dechen Kersang, presidente della comunità tibetana in Italia. Oltretutto è un presidente di nuova nomina, qui facciamo gli auguri per il suo lavoro nei prossimi anni. Mi avete capito? Ecco, adesso sì. Deci Dele e buongiorno a tutti. Sono Kersang Dechen, la presidente della comunità tibetana in Italia. Perdonate, mi interrompo, non vediamo il video. Sentiamo benissimo, però non la vediamo. Tanto stesso. Vorrei ringraziare a tutti quanti presenti a nome dell'intera comunità tibetana italiana per aver preso l'iniziativa per rompere il silenzio sulla difesa dei diritti umani. Come sappiamo da ormai decini in Cina vengono opprese sistematicamente le minorenze come tibetana, mongola e Hong Kong e anche il popolo uguro sta affrontando la repressione religiosa da parte del governo cinese. La repressione religiosa che purtroppo i tibetani stanno convivendo dal 1959 e tutt'ora i tibetani nella propria terra tibet sono oppresi. Non solo religiosamente ma anche culturalmente. E' arrivato il tempo di rompere il silenzio e alzare la voce contro la violenta azione ripressiva del governo cinese verso le minorenze e difendere il principio di libertà intesa come diritto individuale e di autodeterminazione dei popoli. e uno speciale ringraziamento alla AS Libera e signora Maria per organizzare questo riunio. E tibet libero e grazie mille. Grazie a te Presidente, io darei la parola, anche perché il sindaco di Campagnano non ci ha potuto raggiungere neppure via email, all'amico membro del Comitato Scientifico di Società Libera, Marco Patriarca, che viene da Campagnano ed è stato dai promotori degli ultimi tre marci che abbiamo svolto a Campagnano. A te la parola Marco. Mi sentite? Marco, a te la parola. Regia, mi aiuti? Allora, Marco Patriarca ci sente? Dunque. C'è il microfono spento, però mi guarda. Non la sentiamo, dovrebbe andare col mouse giù in fondo finché compare in fondo a sinistra il disegnere del microfono e lì ci deve schiacciare. Lo chiamo un attimo, eh? Molto bello! Chi è che parla? Sì, sono la Stefania, che volevo solo trasmettere la mia felicità per questo incontro. Approfittato del silenzio. Approfittato che Marco non si muove, è immobile. Marco? Ecco, un attimo lo sto chiamando ma cade la linea. Allora, chi provvede a Marco io direi di passare oltre. Diamo la parola a Gianni Davalle, responsabile a Cipera Agolai. L'Augai. Allora, ti ringrazio caro Vincenzo. E io vorrei un attimino approfondire il discorso che tu hai accennato per quanto riguarda il giornalismo. È l'influenza che ha il giornalismo in questo settore. Sappiamo tutti che il mondo sta affrontando problematiche legate alla pandemia globale del Covid-19. Ma contemporaneamente il mondo è stato assalito dalla disinformazione globale, che io considero come una pandemia che ha i suoi effetti malvagi su un'ampia fetta della comunità. È una pandemia che colpisce al cuore la democrazia. La disinformazione è dilagante. È una propaganda raffinata, mirata a forviare la realtà dei fatti, la verità per gli interessi politici e economici in ogni settore. E questo atteggiamento si può notare in particolare nei regimi autoritari. Abbiamo scolto questa opportunità per essere legittimati a proseguire nei loro progetti criminali. Governi, istituzioni, segmenti di società sono stati investiti da tanta sfacciataggine e si sono dimostrati impreparati a contrastare queste fake news in modo efficace. I regimi autoritari utilizzano sempre più l'operazione di influenza digitale. Come metodo di censura e manipolazioni in tutti i social e anche con notizie del tutto infondate, inondando lo spazio delle informazioni con narrazioni false e fuorvianti. Progettate anche per minare voci indipendenti, magari le meno influenti oppure più scomode, come siamo noi di Archipelago Laodai in memoria di Eriu. Il loro intento legittima e favorisce l'operato della tirania, come quella della Repubblica Popolare Cinese, Russia, Iran, Arabia Saudita, Venezuela e altri. Mentre i governi democratici non hanno ancora la capacità di contrastare questo triste fenomeno, i regimi autoritari usano l'attuale momento caotico per mettere a punto i loro giochi globali e sfruttare il loro vantaggio. Siamo chiaramente in un periodo crescente di sfiducia nelle istituzioni e di perplessità sulla capacità della democrazia di attivarsi con fatti concreti e risultati. I regimi autoritari non si accontentano più di reprimere le rivolte democratiche all'interno dei propri confini, ma in modi sottili, palesi ed efficaci stanno evadendo lo spazio globale dell'informazione per prendere di mira i valori e le istituzioni dei paesi democratici. Cosa fa questo? Le indebolisce. Io mi domando, ma quali saranno i valori base del futuro se non si prende consapevolezza di questa tendenza maligna? È ovvio che i governi democratici dovrebbero aggiornare i propri sforzi per aumentare la loro resilienza e la capacità di combattere questi attori anti-umanità. tempo fa c'era, ne erano andati in onda, su una nota emittente italiana non voglio fare qui nomi, ma potrete chiaramente risalirne a sostegno di tutti gli editori e affermava, leggo testualmente l'ho presa pari pari dalla loro pubblicità. L'informazione influenza la nostra vita, le notizie sono una cosa seria professionisti dell'informazione, professionisti, scegli editori responsabili scegli la responsabilità, scegli la serietà. A me pare che nei confronti di questo regime, parlo del regime cinese queste verità non vengono poi tanto rispettate. Adesso voglio fare quattro domande un po' provocatorie, se me lo consentite. In base a quali decisioni e organizzazione viene scelto di parlare poco o nulla dei crimini del Partito Comunista cinese? Molti giornalisti appaiono decisamente assoggettati. Hanno ancora a costoro una dignità professionale o solo l'obbligo di prendere ordini da qualcuno? In Italia esiste ancora la vera libertà di stampa e di espressione? Perché ci sono dei professionisti che fanno di tutto per oscurarla? Esprimo una mia opinione. Questo tipo di giornalisti, tradendo la propria professione, sono così asserviti da non avere il coraggio di non dedicare nemmeno una prima pagina. Un misero speciale. Costoro hanno assassinato il giornalismo. Mettono in cattiva luce questa professione. E l'Italia ha perso di credibilità e affidabilità. Penso che ci sia da parte di responsabili di alcuni giornali che ce ne sono un'intervista o articoli perché ritenuta scomoda. E concludo che il silenzio ostinato del mondo libero di fronte a violazioni così gravi e diffusi è senza precedenti. Gli interessi politici ed economici con la Cina hanno causato il declino degli standard morali. Il giudizio su ciò che è giusto e sbagliato è stato gradualmente sostituito dal calcolo del guadagno. Hanno conosco le coscienze e corrompendole, ciò che era immorale diventa giustificabile e ciò che era condannabile diventa incomiabile. Quindi questi comportamenti sono i comportamenti irresponsabili che aiutano le violazioni dei diritti umani di tutti i regimi, in particolare quello del regime cinese. Grazie per avermi ascoltato. Grazie a tutti. Grazie. Vincenzo deve sempre attivare il microfono, ricordati. Grazie a lei. Dicevo, grazie a te Gianni. Con quanto riguarda il giornalismo penso di averti risposto come Società Libre quanto ho fatto l'esempio del Corriere della Sera. Sì, infatti mi hai anticipato un pochettino. Grazie. Io darei la parola adesso, visto che prima non era stato possibile, all'amico Marco Patriarca del Comitato Scientifico di Società Libera, non solo, ma abitante di Campagnano di Roma, a che dobbiamo ancora ringraziare per le ultime tre edizioni della marcia che si sono svolte sui cinque chilometri di quella via francigena. A te Marco la parola. Fingi. Adesso parla. Pronto? Pronto. Si sentiamo benissimo. Si sentiamo. Bene, bene, bene. Intanto sono felice di vedervi tutti quanti insieme e mi rallegro molto di questa novità di fare una riunione di questo genere con lo Zoom. E malgrado che abbiamo potuto farla a Campagnano, credo che questo sia il modo di inaugurare qualche cosa che potrà avere un seguito molto, ma molto interessante. Si potrà raggiungere migliaia e migliaia di persone e diventare, essere imitati da altre organizzazioni che potrebbero fare lo stesso mestiere che in questo momento stiamo facendo. Anche perché, come giustamente ha sollevato tu Vincenzo, la posizione delle organizzazioni internazionali, l'OSCE, le Nazioni Unite, la conferenza dei diritti umani, Helsinki, tutto questo si è rivelato completamente inutile per quello che riguarda le minoranze. E quindi, invece, attraverso questo sistema Zoom si potrà raggiungere migliaia e migliaia di persone. Il racconto delle ritorsioni che i cinesi sono capaci di fare, non soltanto nel capo dei diritti umani, ma anche in campo commerciale, in campo industriale, in campo intellettuale. Libertà non c'è proprio da nessuna parte. C'è la prepotenza assoluta e molto, ma moltissimo danaro. E il danaro è una cosa molto pericolosa. Anche perché questo danaro è danaro nostro. Lenin diceva che i capitalistici venderanno l'accordo con cui noi li impiccheremo. Invece i cinesi hanno recuperato, anche onestamente, migliaia e miliardi di dollari e di euro con cui ci compreranno. E' cosa che stanno già facendo. Quindi il tema della libertà è quello assolutamente fondamentale e bisogna che l'Europa si muova e dobbiamo aiutare i movimenti europei all'interno di svolgere un'azione che non può essere soltanto mediatica, ma alla fine dovrà trasformarsi anche in un'azione politica. Quindi, per esempio, coinvolgere istituti neutrali che possono essere il giornalismo, che possono essere le università, che possono essere per esempio l'IDLO, International Development Law Organization, che fa praticamente una specie di avvocati senza frontiere che svolgono un lavoro molto importante. Hanno svolto in Afghanistan, hanno svolto in Vietnam e in molti paesi e sono uno strumento che potremmo avvicinare per ottenere qualche cosa interessante. Vi lascio subito, vi ringrazio per questo bellissimo evento e a presto. Grazie. Grazie a te Marco, grazie a te. E allora io direi, Maria, se sei d'accordo, anche pronta con la traduzione, di dare la parola a Michel Tranduc, membro francese Viettan TAN, organizzazione che è per la democrazia nel Vietnam. Ok, allora noi doniamo la parola a M. Michel Tranduc, che è membro di Viettan, che è un'organizzazione che agisce in Francia per la democrazia nel Vietnam e che è anche membro della comunità vietnami in Francia. E io ho provato per aggiungo che il movimento della O, e anche Viettan, e anche la comunità tibetana di Paris, che oggi ha parlato, hanno sempre partecipato a Marche pour la Liberté, che hanno avuto l'occasione a Paris. Approfitto anche per dire che la Viettan, l'organizzazione di Michel Tranduc, ma anche MLDH, di cui fa parte Elise, Micao, che abbiamo sentito prima, hanno sempre partecipato alle edizioni parigine della marcia, che si sono tenute in vari anni, e in particolare noi ricordiamo il 2015, in cui siamo stati tutti a Parigi e c'è stata una marcia grandissima. La parola a M. Michel Tranduc. Grazie Maria. Buongiorno, mesdames e messi e, io cercherò di fare delle frasi courte, così Maria ti puoi traduire più facilmente. Grazie M. Olita. La seconda è molto bene. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 politicamente sensibili dal regime. Voi sapete che Facebook, al Vietnam, c'è più della popolazione viennami che utilizzano Facebook perché non c'è la libertà della presse e che le persone si servono di Facebook come un modo di esprimere in line le loro opinione. Il regime viennami ha fatto di più e più pressione su Facebook per censurare il contenuto politico dei posti ma anche fermer i conti dei facebookers che hanno un po' troppo d'influenza all'interno della comunità in line. Il governo viennami utilizza anche molti troll, dei servizi, dei servizi del regime. Stiamo il numero di 10.000 persone che il principale è di inondare il reso di messaggi sia a la gloire del regime sia a l'inversi uterciere, denigrere, injurier tutti ciò che s'opposano contro il regime. Principalmente ci sono dei trolli viennamiens ma anche ci sono dei trolli che agiscono nelle lingue stranze come l'angolese, le francese e che non hésiti a mettere dei commenti elogio per il governo viennami sui siti di informazioni in Europa e a l'inversi critiquare n'importe quel articolo che all'interno all'interno la repressione dei drogi dell'uomo in Vietnam o la corruzione in Vietnam. In Vietnam la libertà di espressione viene ripressa sotto molte forme ne citerò solo tre e vedrete che più o meno sono molto simili a quelle di cui parlava Elise Mikao dalla comunità laotiana. La prima forma è l'arresto e la condanna arbitraria di molti attivisti. Dal 1 gennaio a oggi già 30 persone sono state arrestate oppure condannate arbitrariamente solo perché avevano si erano espresse liberamente con la loro parola o online o per strada e l'ultima è stata una giornalista molto conosciuta che due settimane fa è stata arrestata e aveva ricevuto tra l'altro il premio reporter senza frontiere il 2019 il premio Volterne e appunto è stata arrestata. La seconda forma è quella di esercitare pressioni ricatti e di censurare i contenuti politicamente sensibili su Facebook. In Vietnam lo usano tantissime persone più o meno metà della popolazione proprio perché non c'è la libertà di stampa e quindi viene usato Facebook per esprimere le proprie opinioni ma c'è sempre maggiore pressione e censura nei confronti di questi contenuti politicamente sensibili oppure vengono chiusi degli account perché diventano un pochino troppo popolari nella comunità online. Inoltre il governo usa i cosiddetti troll che sono diciamo dei impiegati da parte del governo sono circa 10.000 si ritiene che inondano la rete di commenti o per la gloria del regime oppure per criticare tutti i messaggi di opposizione. si tratta soprattutto di persone vietnamite ma anche di persone che agiscono che scrivono in altre lingue dal di fuori del Vietnam e scrivono dei commenti o che elogiano l'operato del governo oppure che criticano gli articoli che denunciano della ripressione della libertà Il y a un troisième moyen di pressione c'è anche un moyen di pressione contro gli altri che sono all'estranger io prendo il caso per esempio di un blogger exilato in Allemagna un blogger che è molto conosciuto da una comunità vietnamiana il ha dovuto annonare qualche anno l'array perché il regime vietnamese ha fatto pressione su sua famiglia resta in Viettina quindi è un modo di exportare la censura al delà delle frontiere di Vietnam che è molto grave un terzo mezzo utilizzato dal governo è quello di fare la pressione della pressione contro le famiglie degli attivisti che sono esiliati all'estero c'è l'esempio di un blogger che si era esiliato rifugiato in Germania e che è stato obbligato a chiudere il proprio blog perché la sua famiglia rimasta in Vietnam e aveva subito delle pressioni quindi questo è un modo per esportare la censura dell'Unione europea ha tutto intere a fare pressione sul Viettina per migliorare per migliorare la situazione dell'unione altra parte il y a anche qualche giorno una lettera comuni di 15 diputti americani per s'elever contro il del giro 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 in cui la poliz ha fatto esportare la polizia di dei del giro 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 di del giro lonti non sono le norme internazionale e che il progetto è stato attaccato da molte irregularità. A conto di questa lettera signata da 15 deputati europei, possiamo notare anche una lettera comune signata da 103 politici, delle ONG internazionale e delle personnalità nel mondo per chiedere anche un progetto equitativo e che rispettano le norme internazionale. Dunque, un terzo... no, questo l'abbiamo detto. Allora, malgrado questa situazione che ci delinea, questi esempi che ci delineano un quadro piuttosto oscuro, ci sono anche alcune buone notizie. Per esempio, 64 deputati del Parlamento europeo che il 16 settembre hanno firmato una lettera affinché l'Unione europea avesse una politica più ferma, più decisa, contro la violazione dei diritti umani, contro il regime vietnamita, affinché questo rispettasse i diritti umani. Questo soprattutto dopo che fosse stato concluso l'accordo sul libero scambio di cui vi parlavo prima. E poi la lettera di 15 deputati statunitensi che si sono espressi in merito a un processo contro alcuni contadini di un paese, di un villaggio del Vietnam, che erano stati espropriati della propria terra. Avevano protestato ed erano stati tutti arrestati e addirittura il processo si era concluso con la condanna a morte di molti di loro e sappiamo bene che innanzitutto il sistema legale non è del tutto a norma e che poi sono state commesse varie irregolarità da un punto di vista giuridico. Sempre su questo argomento c'è stata anche la lettera di 103 politici, membri di organizzazioni non governative internazionali e di personalità famose in tutto il mondo affinché questo processo fosse effettuato un secondo grado di appello in questo processo nel quale però ci fosse un processo equo e venissero seguite delle norme regolari. Un'altra buona notte, e io finirò su, è che abbiamo rammarco attualmente una sorta di coalizione anti-China, in particolare anti-Pékin, che si organizzano anche anche a livello dei Stati, quindi ci sono stati che sono stati opposti contro la Chine, come l'Australia, l'Inde, il Japon e gli Stati Uniti, ma anche a livello della comunità, delle associazioni, delle organizzazioni, c'è una sorta di coalizione che si crea per domandare più di loro in Chine, perché ci sono capito che è la Chine che tirano un po' di ficelle in tutta la regione dell'Asia del sudeste, sia o Laos o al Vietnano. E rèccemente, par esempio, il 1er octobre dernier, c'è un movimento lancato per i giovani studenti tibetano che diceva «Résiste a China». Quindi c'è un movimento, in realtà, sui molti paesi, dove le persone di diverse comunità si sono uniti per dire che si resistono a la Chine. E io penso che è una buona cosa per se fiedere come quella. E qualche parte, c'è un po' grazie a la Società Libera che ci ha fatto in 2020, perché, come vi ho detto Maria, noi facciamo parte della Fiederno dei Poi Asiatiche per le Dore di l'Homme e la Fiederno dei Poi Asiatiche per le Dore di l'Homme a partecipato alla Marche per la Démocratia che organiza la Società Libera depuis 2011. Quindi, depuis neve anni, noi abbiamo l'habitude di lavorare insieme, tra i tibetani, ughuri, laotiens, pinamniens, rongkongli, taiwanais. E' questa dynamica è che ha fatto che noi continuiamo ancora a nos battere insieme per la Démocratia in i nostri paesi respectivi, ma anche nel mondo. Quindi, bisogna continuare a mangiare questa pandemia che ci ha tutti, che ci ha permesso di essere riuniti fisicamente, ma bisogna continuare a se mobilizzare, a alerter, a mangiare la luce sulle situazioni di violenza dei bambini, in Vietnam, ma anche in altri paesi, in Asi, in questa perioda in cui tutto il mondo è preoccupato per la pandemia. Quindi, grazie a tutti per essere presenti e grazie per la vostra mobilizzazione. Continuiamo insieme a lavorare sui diritti umani, che sia in Asi, ma anche ailleurs in il mondo. C'è ciò che abbiamo bisogno. Grazie a tutti. Un'altra buona notizia è che si è creata una coalizione anti-Cina, anti-governo di Pechino, e questo non solo a livello di Stati, come per esempio l'Australia, il Giappone, negli Stati Uniti, ma anche a livello di associazioni che hanno fatto una sorta di coalizione per richiedere una maggiore applicazione dei diritti dell'uomo in Cina, perché si sa che la Cina è quella che tira un po' le fila in Occi in Oriente. Il primo ottobre è nato anche un movimento di giovani studenti tibetani resistere contro la Cina. E io penso che questo sia un'ottima notizia, cioè che ci dobbiamo effettivamente unire tutti quanti per resistere, e questo è avvenuto già anche grazie a Società Libera, perché, come dicevate prima, la mia associazione fa parte della Federazione dei Paesi Asiatici per i diritti dell'uomo, che agisce in Francia, e che dal 2011 ha partecipato alla Marcia della Libertà. e quindi, infatti, da nove anni tibetani, uiguri, lautiani, vietnamiti, l'Associazione Hong Kong Libera, taiwanesi, si sono uniti per questa marcia e questa dinamica, secondo me, deve continuare. Dobbiamo ancora combattere per la democrazia, dobbiamo ancora continuare, malgrado questa pandemia che ci tiene separate fisicamente, ma dobbiamo continuare ad essere uniti nello spirito per lottare per la libertà e per fare luce su tutte queste situazioni in Vietnam, ma anche altrove. Quindi ringrazio tutti, ringrazio tutti i presenti, gli organizzatori, e ecco, continuiamo allora a lavorare, perché si affermino i diritti umani non solo in Asia, ma anche in tutto il mondo. Grazie. Va bene, devo parlare. Va bene, grazie. Grazie anche per aver ricordato quello che ha fatto Società Libera nelle prime marce, quindi, come dicevo all'inizio del nostro ragionamento, questo pomeriggio, un obiettivo l'avevamo raggiunto, cioè quello di far marciare insieme comunità che non avevano mai marciato insieme, non avevano mai manifestato insieme. Adesso, una questione di ospitalità, perdonatemi, anche perché in Estremo Oriente, cioè, dando per buono che l'Estremo Oriente sia anche la Thailandia, Bangkok, io darei la parola a Francesco Radiccioni, che è il corrispondente di Radio Radicale per il sud-est asiatico, che appunto ci parla da Bangkok e ci parlerà di Taiwan. Io ho avuto modo di conoscere Radiccioni proprio quando è venuta a Roma la Rebia Kader, e abbiamo fatto un lunghissimo pomeriggio, io, la Rebia e Marco Pannella, e Radiccioni ci stimolava con le sue domande. Prego, Francesco, se mi hai ascoltato. Francesco? Dov'è? Io non lo vedo. Lo vedo mutato, eh. Si dovrebbe smutare. Si sente? E come facciamo a farlo smutare? Credo che non ci senta, perché non... Si, per... Per togliere il muto può farlo solo lui. Alessandro, telefona lì se c'è il telefono. Provo, ci provo. Ah, tempi morti. Un po' vedo chi è arrivato, Sergio Rovasio, vedo bene? Presente, buongiorno Presidente. Ciao. Grazie per essere qui. Grazie a voi. E allora come facciamo? Saltiamo Radicione? Farà notte a Bangkok, fa lo stesso, parlerà di notte. Ah no, lo facciamo parlare dopo adesso. Vabbè, sì, facciamo un altro intervento e poi parlerà Radicione. Infatti, infatti, infatti. Allora io darei la parola a un vecchio amico delle marce di Società Libera, perché non se ne è persa una, che è Esmail Muadess, membro autorevole della resistenza iraniana. Mi senti, Esmail? Sì, ti sento, Vincenzo. Vai, parla. A te la parola. Ciao a tutti e un abbraccio. Allora, nelle iniziative nobili come questa, dove si parlerà dei diritti umani, soprattutto dei diritti dei popoli, si può cadere nella retorica, per me insopportabile. Provo a non caderci. Ecco, io inizierei le mie parole con un basso profilo. C'è uno spettro che si aggira per il pianeta. L'1% della popolazione in un angolo del pianeta e in nome della globalizzazione domina il mondo e intende eschiavizzare, ha schiavizzato il resto dell'umanità, il 99%, noi tutti. Sta distruggendo il pianeta e sta sulla buona strada. Lo spettro ha reso la politica inutile. Ha trasformato i politici in mediocri e la schiuma sopra la melma. Ha omologato il giornalismo e i giornalisti che sanno bene cosa scrivere e soprattutto cosa non scrivere. I 130.000 vittime della Covid-19 in Iran evidentemente non è una notizia. La razza privilegiata non ha dimenticato i paesi colonizzati. No, in questi luoghi ha continuato la sua funesta politica, ha causato e spinto milioni di nuovi schiavi verso i paesi ricchi per sfruttarli e per distruggere diritti conquistati dei lavoratori in questi paesi. La razza privilegiata vuole una società aperta al suo servizio però. L'1% del mondo ha mutato le Nazioni Unite di cui oggi è la giornata della sua fondazione nell'ufficio del bollettino e mette bollettini dove esprime le sue forti preoccupazioni per le disgrazie trasformate le organizzazioni hanno trasformato organizzazioni umanitarie e difese dell'uomo in formiche che spostano la montagna. La razza prediletta l'1% nella sua controversia ha un punto fermo che ha ereditato dall'intelligenza europea l'innamoramento per Khomeini e per la teocrazia iraniana. Se la sinistra europea nel 79 ha trovato in Khomeini il suo messia i nuovi padroni del mondo l'1% l'impero che domina il mondo ha inglobato la sinistra e la teocrazia iraniana in sé. La sinistra ha fatto conclave con cui distrugge distruggere i diritti soprattutto diritti dei più deboli e con l'integralismo islamico di Teheran ha costruito una formidabile macchina generatrice di paura e di morte. Ecco perché dove troviamo oggi le forze di sinistra che quando non sono reazionarie sono sicuramente conservatrici. Preciso che io sono di sinistra. Mentre un professore viene decapitato in Francia da un integralista Macron la punta di diamante del globalisti versa lacrime di cocordillo e sogna di negoziare con Teheran. Il 90% il 99% è addestrato non vada alle radici delle cose si indigna e versa lacrime delle vittime dell'integralismo islamico però partecipa allegramente al balletto dove si elemosina l'apertura ai padrini di Teheran. Il 99% bene addestrato dimentica la causa della fuga dei poveri disgraziati dall'Africa molti seppelliti nei mari mediterranei. Noi siamo in balia dell'1% noi siamo omologati e indifferenti o peggio ancora anestetizzati alla nostra insaputa. In questa nuova e spietata guerra del razzismo dell'1% contro il 99% vengono sacrificati i diritti l'umanesimo donne uomini e i bambini evidentemente noi non siamo noi siamo per la globalizzazione però basata sui diritti e sulla giustizia dove a governare siano le esigenze dei popoli dove si è liberi da si può essere liberi di l'1% che domina il mondo non vuole lo stato di diritto è la democrazia nei luoghi dove ci sono e svuota e distrugge e non vuole e ostacola dove deve ancora essere attuato. Concludo dicendo questo è stato chiesto al saggio chi è più distruttivo dell'1% ha risposto i servi al servizio dell'1% grazie scusa avevo il telefono il microfono chiuso ti ho detto grazie a te è sempre caustico nelle tue conclusioni nelle tue belle conclusioni grazie allora io riproverei sempre con radicioni se qualcuno gli ha fatto qualche segnale per farlo per farlo aprire il microfono se ne hanno notizie gli ho mandato un messaggio Vincenzo aspettiamo un attimo e poi vediamo quando rispondo va bene sì e allora Giulia Simi c'è? non c'è Giulia Simi adesso prima che arrivo io Vincenzo io allora una Giulia la vedo e sono io ecco qua ecco c'è Giulia c'è Giulia spondi aveva il microfono spento ecco apri il microfono e apri il video su anche il video vuoi? sì ti devo guardare sono piuttosto bruttina va bene ho aperto il video per i diritti umani questo ed altro va bene va bene d'accordo allora mi sentite? sì ma vediamo vediamo solo i capelli però aspettate mi tiro un po' più su brava Giulia oh bravo allora senti allora innanzitutto vi saluto tutti e ringrazio credo che questa marcia virtuale online sia stata molto interessante e credo che forse Vincenzo potrebbe essere anche l'occasione di organizzare prossimi incontri tra di noi online potrebbe essere interessante anche per costruire questa manifesto di cui tu parlavi crisi dei diritti umani vabbè io hanno parlato moltissimo in particolare della Cina dove probabilmente non ci rendiamo conto come la Cina in questo momento stia prendendo cioè potere non solo in Europa ma in Africa ormai io direi che l'ha quasi occupata completamente l'altro giorno sentivo in Cambogia in Asia eccetera quindi forse basta vedere anche l'organizzazione mondiale della sanità come è stata gestita anche questa situazione del covid quindi ci dobbiamo forse rendere conto che veramente è un grosso problema la Cina come un grosso problema per quanto riguarda i diritti dei popoli dei tibetani degli auguri del falungon se pensate ai falungon che che vengono addirittura io due o tre anni fa ero a Cambridge c'era una manifestazione di falungon perché in in Cina queste persone che sono considerate persone sane persone molto per la vita che fanno vengono sequestrate uccise per utilizzare gli organi per poterli vendere in occidente e ai paesi ricchi ma vedete io vorrei parlare anche un'altra cosa Vincenzo sì perché ne hanno parlato già tutti dell'Iran di quello che succede beh c'è la Russia c'è la Turchia c'è l'Iran c'è quello che succede nell'America del Sud ma abbiamo anche un grosso problema qui proprio in occidente molto vicino secondo me cioè in questo momento con questa Covid abbiamo una crisi profonda della democrazia nei paesi cosiddetti tra virgolette direbbe pannella a suo tempo nei paesi cosiddetti democratici si sta con la paura con la mancanza di conoscenza con la mancanza di informazione si sta distruggendo sempre di più le democrazie nei cosiddetti paesi democratici e questo è un problema che dobbiamo tenere presente e quindi io credo anche questo cioè non solo io credo che sia veramente grave questa situazione che sta avvenendo in Italia in tutti i paesi questo risolvere sempre le questioni con l'emergenza con la paura e con la mancanza di conoscenza ed è chiaro che in questo momento i paesi cosiddetti occidentali sono presi dai loro piccoli problemi e non si stanno e questo è un altro problema che abbiamo in questo momento dai problemi ma non di democrazia perché forse nessuno parla della democrazia parlano poco della conoscenza rimango stupita che oggi non ci sia neanche un politico qui presente non ci siano politici non ci siano parlamentari non ci siano parlamentari europei parlamentari italiani e questo è molto triste Vincenzo ma credo che io credo che noi quindi c'è da una parte la democrazia qui in Italia la democrazia negli Stati Uniti la democrazia in Francia questi sono bisogna stare molto attenti e nel contempo dobbiamo tenere conto che l'Occidente preso dal loro piccolo mondo dalle loro piccole paure non si stanno più preoccupando dei diritti umani non si stanno più preoccupando si preoccupano poco di quello che succede in Cina di quello che succede in Asia di quello che succede in Africa di quello che succede nel Venezuela e questo è veramente cioè questo secondo me è il momento come dici te dell'anno zero ma l'anno zero per partire insieme come società libera e con tutti quelli che vogliono stare insieme a questa cosa e approfittare proprio in questo momento di queste possibilità tecniche per ritrovarsi per discutere per organizzare per fare manifesti per non so che cosa ecco perché è grave la situazione dei popoli oppressi e purtroppo anche dell'Occidente questo è quello che volevo dire e grazie tanto grazie a te Giulia anche per la sinteticità del tuo messaggio io darei la parola se sei in sala diciamo a Steve Emeryu presidente della comunità nigeriana del Lazio e coordinatore del movimento degli africani di Roma c'è Steve pronto? non lo vedo lo chiamo però è indisciplinato il nostro amico nigeriano va sempre fuori quindi non troveremo mai va bene intanto libertà è come l'aria intanto andiamo avanti con la presente in sala Adam Abdelgadir presidente della comunità sudanese sì sono Adam presidente oh che bello vai Adam ciao a tutti grazie di Maria con i suoi colleghi per questo questo member ringraziamo tutti per questo riunioni e parlare per il diritto umano in tutto il mondo questo è un bel momento perché il mondo hanno tutti i casini per questo umanità come noi sudanese in Italia abbiamo fatto tante cose per il diritto umano anche con voi come società libera siamo venuti dal vostro ufficio siamo parlati di tante cose ma voi molto bravi discutere sempre di questa umanità parlo direttamente diritti umani nel mio paese sarebbe un argomento di discutere per lungo tempo perché parliamo di un paese dove esiste finora la violenza dal diritto umano di tempi dell'indipendenza dalle paese nel 1956 la violenza dal diritto umano esiste sulla discriminazione riziale e intanto dal paese tra diverse etnie dal popolo sudanese che fino ad ora non hanno imparato con la vievenza civile con la vievenza civile e il rispetto dalla diversità anzi va voluta positivo richiesta ma purtroppo va considerata come un tubo del terrore sopra violenza sopra violenza attraverso tutti criminali e di conflitti terribili e sociali e perché come noi sudanese siamo fatti grandi rivelazioni di 2018 è cambiato un grande dittatore che si chiama presidente del sudan Umar al-Bashir quello presidente un fatto un massato più di 3-4 mille persone in Darfur e siamo cambiato questo presidente ma fino adesso siamo siamo stiamo come non non cambiato niente perché il nostro il popolo ha cambiato il presidente ma le stesse le persone stanno fanno la violenza del don da tutto il popolo in Darfur in tutte le altre città come il nostro porto sudan in porto sudan tra tre o cinque giorni fa e la violenza del popolo è uscita per la protesta contro il crimine che stanno fino adesso quelle persone che comandano il sudan fino adesso stanno loro comandano come noi al Burhan in Himetti quelle che comandano il paese soldati quelle che ha fatto un problema in nostre regioni in Darfur quelle che massati gente più di 4 mille persone fino adesso loro comandano il paese come troviamo il diritto umano o la libertà dal sudan è troppo difficile perché perché parliamo del diritto umano perché il diritto umano è molto importante per tutto umano senza il diritto umano senza la libertà il paese non cresce più non cresce più perché la democrazia la democrazia è molto importante per il nostro paese senza la democrazia non facciamo niente non integriamo con altri paesi ringraziamo di società libera di questo momento ma grazie tanto tanto non parlo tanto ma grazie voi grazie hai parlato benissimo stiva è rientrato e ora c'è lo vedo volevo ringraziarlo ha parlato benissimo e ha parlato con il cuore per cui io ritengo che penso che appena ci vediamo a Roma abbiamo la possibilità di incontrarci a Roma di fare una riunione con lui per parlare della situazione nigeriana qui tengo molto grazie e allora parla gli diamo la parola finalmente grazie grazie a Steve Emeru presidente comunità nigeriana e coordinatore del movimento degli africani di Roma c'è? Steve ti vedo non ti sentiamo eccolo ti abbiamo sentito un attimo ti abbiamo sentito per un attimo ti puoi smutare perché ti sei hai rispento il microfono? ecco ecco si sente male e perché si sente male? eccolo sto parlando ma non mi vedo non mi sento no non ti vediamo però ti sentiamo bene sentiamo bene si ad accendere la telecamera se no ti sentiamo molto bene adesso camera perché io ci sto parla no così è spento il microfono perché si sentiva così bene se parlava pronto? no parli ti sentiamo parla parla ora sto parlando pronto pronto mi dispiace parlo si oh my god sentiamo benissimo adesso mi ma c'è scritto che il video è interrotto non ti vediamo aspetta scusate scusate allora Steve la telecamera ti consiglio di tenerla chiusa perché la tua linea diciamo in questo momento non va molto bene quindi prova a parlare altrimenti se sei con un telefonino ti invito a spostarti in modo che il telefono possa prendere meglio prova a parlare sto con il telefonino sto con il telefonino sto sto con il telefonino io sto con il telefonino si si benissimo ti devi soltanto spostare in un posto dove c'è più linea perché sono andato sono andato fuori come ho aspettato molto bene moltissimo adesso va benissimo puoi fare il tuo intervento ora si sente bene ci sente ma non mi si vede comunque non fa niente va bene così ok allora ho seguito un po' tutte le argomentazioni per quanto riguarda i diritti umani purtroppo qualcuno che mi ha preceduto che parlava di gofo di guinea ha detto alcune cose di quali non sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda la nigeria in nigeria cari amici di libera in nigeria ha un problema grosso per quanto riguarda la libertà di espressione in nigeria hai il diritto di parlare la libertà di parlare ma non è assicurata la tua libertà quando hai finito di parlare questa è la cosa più tragica molti giovani che sono usciti per la loro per la loro vita per il loro futuro che in questi giorni hanno manifestato in tutte le città della nigeria dal nord del sud senza colore della politica senza città senza nessun problema che riguarda la religione sono andati in strada per parlare del loro futuro dovete sapere che in nigeria per poter difenderti o hai soldi o sei morto in prigione tanta gente sta in prigione a marcire anni e anni aspettando la prima udienza per quale non si sa di cosa sono stati accusati i giovani nigeriani che lavorano guadagnano una miseria ma i politicanti nigeriani tutti i politici nigeriani guadagnano una cosa abominevole cioè un senatore nigeriano il suo salario mensile annuo per poter guadagnare quanto guadagna un politico nigeriano un professore universitario deve lavorare 118 anni 118 anni per guadagnare cosa guadagna quanto guadagna un senatore nigeriano vi pare una cosa giusta i giovani che hanno manifestato il fratello che mi ha preceduto quando parlava di Soros ha detto delle menzogne per quanto riguarda la nigeria non c'entra niente un potere esterno che ha scatenato la rivolta dei giovani non esiste non è vero non è vero niente i giovani hanno fatto questa marcia questa rivoluzione la chiamiamo così perché molti di loro sono disoccupati molti di loro non stanno in futuro non hanno niente e la polizia nigeriana è una polizia terribile io non so con chi posso comunicare le foto ma non sapete quanti sono morti in questi dieci giorni della rivolta in nigeria molti giovani sono stati trucidati sono stati ammassati bruciatele dai militari e poliziotti loro chiedevano soltanto che la polizia nigeriana va rinnovata perché è una polizia che non dà i diritti umani non rispetta quello che la Nazione Unita ha ammesso da anni a anni come la carta della Nazione Unita il diritto umano non esiste per i poliziotti nigeriani militari perciò i giovani che sono andati a manifestare nessuno li ha pagato per andare a disturbare un governo dormiente il governo nigeriano non sta facendo nulla per il popolo non c'entra niente di colore politico o religioso in questa manifestazione che hanno fatto i giovani non so se mi si sente sì benissimo allora grazie mille perché mi sembrava di parlare da solo allora quello che io volevo dire anzi devo ringraziarvi perché il massimo medio occidentale sono zittiti sono tutti zitti nessuno ha fatto nulla per quanto riguarda la sofferenza dei giovani nigeriani in questi giorni il presidente della nigeria buhari ha parlato soltanto ieri sera dicendo cose ignobili parlava come uno che non sa manco dove sta sembrava uno che sta sognando diceva delle cose azzurde un presidente della repubblica nigeriana un paese di 200 più milioni di abitanti dove il futuro per i giovani non c'è dove la libertà di espressione viene censurato se tu parli la polizia ferma le persone per strada ogni giorno da anni che buhari sta a governo questo gruppo di poliziotti SARS che è una squadra che dovrebbe essere anticrimine che deve proteggere la popolazione cosa fa? prende il tuo telefono il tuo scusate prende il tuo telefono e apre per vedere se tu hai comunicato qualcosa contro lo stato nigeriano se hai detto qualcosa contro il governo sei finito ti portano via e non si sa più che fine farai molte persone in nigeria escono di casa non sanno se tornano perché se ti ferma la polizia per strada è una cosa dire in 5 minuti è troppo poco perché la libertà significa che la tua libertà finisce dove inizia la mia invece in nigeria non esiste non hai la libertà di avere il telefonino di avere il pc la polizia ti sequestra e sequestra tutto quello che tu hai perché? perché si vuole controllare cosa hai dentro il tuo telefono qui non c'è la libertà assolutamente non c'è perché dire che Soros che ha amato questi giovani di andare a manifestare contro il governo è una falsità è una falsità che non posso non so non ho parole adatte per poter dire che il fratello ha detto delle bugie inaudita chiedo scusa perché il problema della nigeria un paese che ha il petrolio ha il gas naturale il paese che è potenzialmente più ricco di tutta l'Africa come continente ma è soltanto i pochi i pochi ovviamente insieme a multinazionali di petrolio e petrodollare è quello che vive in nigeria è quello che funziona in nigeria perché l'ENI SIPEN AGIP in nigeria la fa da padrona la società italiana in nigeria la fanno dalla padrona non c'entra niente il soros qua non c'entra niente che i giovani sono stati pagati da qualcuno assolutamente io dico di no invece abbiamo bisogno che l'occidente l'Italia dissesse qualcosa perché i giovani oggi della nigeria saranno i grandi di domani il futuro della nigeria bisogna aiutare i giovani come diceva il nostro grande Nelson Mandela bisogna fare i giovani andare a scuola l'istruzione è l'arma più potente per cambiare il mondo e quando i nostri governanti in nigeria in molti paesi africani fanno finta di non vedere che il futuro dell'umanità è nelle mani dei giovani ovvio che i giovani si arrabiano un giorno e diventa una carnificina perché loro non guardano la libertà di espressione non guardano la libertà di manifestazione di manifestare il tuo dissenso queste cose sono parole per la politica nigeriana di oggi sono le parole che non devono esistere chiedo scusa se ho parlato un po' a lungo per il tuo intervento ecco infatti sì prego ne faremo tesoro ecco se non ci come non ci vediamo non sapevo quando lei interveniva comunque io vorrei concludere ringraziando l'associazione libera per avermi dato questa opportunità di poter dire società libera scusami società libera come ha detto libera è l'associazione dei preti di Don Mazzi ma è certo che conosco ho seguito anni e anni anche da lontano ciò che avete fatto in questi anni perché alcune società sono per azione alcune società sono per guadagno ma quello che ho visto in questi anni di libera ovviamente non so come ringraziarvi questa è una cosa che è molto importante per me sentivo prima quando avete nominato Marco Panela Marco Panela ci ha dato come comunità africana ci ha dato lo spazio a Radio Radicale dove ogni venerdì sì venerdì no due settimane in un mese dove trasmettiamo voci africane dove tutti gli africani possono venire a parlare della realtà del loro paese della realtà dell'associazionismo africano in Italia e questo l'ha fatto Marco Panela per noi quando ho sentito nominare il suo nome prima mi venivano brividi vuol dire che Marco è morto ma è sempre vivo ma c'è tanti amici come vedi c'è tanti amici Marco infatti altro che laico lui è proprio di tutti Marco d'accordo grazie davvero grazie grazie e allora se l'amico Francesco Radiconi è in sala a Bangkok mi darei la parola se no il tempo avanza a Bangkok diventa sempre più tardi ci sei Francesco Francesco non c'è non lo vedo Alessandro non l'ha raggiunto no non mi ha non mi ha risposto purtroppo no e va bene ma è bello che è arrivato qui è stato qui io l'ho visto sulla sullo schermo e poi dopo non si è più visto va bene e allora io direi di non perdere tempo e direi mi piacerebbe ascoltare un vecchio amico immediatamente in attesa che poi faremo tutto un pezzo di radicali come dire l'amico Massimo Livotti se c'è ancora ci sei Massimo? si ci sono ancora oh che bello si si vi ho seguito con un grande interesse e sono convinto della positività di questa iniziativa che Società Libera sta mantenendo attiva anno dopo anno attraverso le diverse stagioni che abbiamo attraversato e sono convinto di due notazioni in particolare che sono emerse dagli interventi da alcuni interventi precedenti la prima riguarda il rischio geopolitico rappresentato dall'egemonia cinese che ormai ha allargato i suoi raggi d'azione su tutti i continenti dobbiamo ricordarci che è una vicenda imperiale a stampo comunista con un mix formidabile di antiche tradizioni e profondità culturali che quella civiltà messe in connubio con il peggiore risultato della modernità nell'occidente che ha dominato l'ultimo secolo quindi questo connubio di marxismo comunista nel senso più stretto del termine con la visione imperiale io penso che questo debba essere un elemento da tenere strettamente in considerazione come anche tu ci hai indicato con il comportamento criticabile della chiesa di Roma nel gioco dei vescovi e della propria delegazione in loco la seconda questione che mi sembra giusto enfatizzare è il contributo che ci hanno dato ci ha dato il lama tibetano nel primo intervento perché io sono convinto che c'è la necessità non solo di presidiare accuratamente la sfera economica e la sfera politica ma bisogna aprire il confronto e la discussione fra le culture che sono così rappresentate qui in modo così interessante così ampio proprio sulle vicende spirituali cioè noi riusciremo a contrastare una visione imperiale della Cina o anche una visione deteriore imperialista dell'Occidente nel capitalismo più becero se avremo la capacità di elevare il nostro pensiero anche sui temi spirituali quindi rendere ricchezza la diversità che c'è fra le tradizioni religiose fra le tradizioni spirituali dei diversi popoli se non presidiamo questo versante appunto il versante dell'amore il versante della compassione che in qualche modo accumuna molte delle fedi potrei dire tutti nella versione migliore noi non riusciremo a combattere attivamente perché non basta il presidio dell'economico e del politico io sono convinto che si debba spendere pensiero e passione anche sul versante spirituale grazie della possibilità di aver detto ciò e ringrazio tutti i presenti e coloro che hanno testimoniato le loro battaglie straordinarie che sono di tutti noi grazie grazie a te massimo e spero di poter chiacchierare a breve un po' con te volentieri volentieri io abito sempre qui a Milano ok il mio numero di telefono è sempre lo stesso quindi mi chiami a parte il braccio rotto di oggi va bene volentieri e allora io vorrei sapere se un elemento di primordine come è Francesco Radacioni che conosce a mena dito tutto l'estremo oriente e via dicendo non ci debba parlare che è venuto a farci una visita ha fatto una girata e se ne è andata dov'è non ci hanno notizie no eh va bene e allora daremo la parola in attesa ci riscalderemo l'animo con il Venezuela chiamando la nostra amica Bianca Briceno frontadice di ARZEN gruppo di sostegno internazionale alla resistenza in Venezuela e aderente a società libera nella doppia veste ci sei Blanca lavorate tutti contro di me no Blanca c'è Blanca l'ho vista fino a poco adesso Blanca ci sei ti devi smutare Blanca Blanca devi solo attivare il microfono ok grazie 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 Vincenzo vado velocissima siccome non ci sarà la traduzione allo spagnolo all'italiano insomma colgo l'occasione allora sinceramente in primis in primis ovviamente sono Blanca Briceno di AIRES VEN appoggio internazionale alla resistenza venezolana e ringrazio Società Libera a cui spero poterla sostenere per tanto tempo mi sono caduti i bigliettini di cui avevo bisogno per la partenza AIRES VEN vuol dire appoggio internazionale alla resistenza venezolana e rappresenta nel suo piccolo un'alterità di pensiero sociopolitico cristiano e fratallico che coltiva come l'Emma e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi di Gesù da cui parte anche del profeta Amos il diritto alla conoscenza vi ringrazio tutti i presenti e per non prolungare comunque tutto il nostro dolore di patria personale è compensato dalle nostre battaglie non violente e dalle speranze di vedere le nostre terre e i nostri popoli liberi farò una specie di come chi dice diapositive perché non ho modo di approfondire in così breve tempo i concetti comunque ne abbiamo parlato da sempre dell'olocausto l'odomo lo sterminio la fame morte povertà miseria ignoranza e pensiero unico a sostegno dei privilegi dei tirani e loro seguito è frutto del vecero comunismo indipendentemente dal nome che lo maschera a questo sommiamo l'ecidio delle popolazioni indigene depredate dalle loro ricchezze perché Cina Iran Russia Turchia e altri paesi depredano la nostra Amazzonia con in atto i più crimini orrendi torture e desaparizioni per qualsivoglia dissidenza che sia politica o che sia di rivelione a quella schiavitura abbiamo parlato molte volte dei fattori socioentropici l'odio la menzogna il terrore con la quarta gamba che è fondamentale capire che è la pseudo opposizione collaborazionista ed elettoralistica che impedisce assolutamente qualsiasi modalità di transizione verso una democrazia liberale la tenalia che ci opprime è potente guerra fra imperi che trovano nel campo nel nostro territorio trovano scampo per depredarlo e continuano a sostenere la tirannide e poi sostengono pure il continuismo del socialismo del ventunesimo secolo abbiamo in questa tenalia c'è un altro potere che il Vaticano e l'Unione Europea non rimane indietro con la richiesta di elezioni verso una realtà che è solo non solo continuismo ma eccessivamente corrotta si scrive Borrell e si legge Iran si scrive Vergoglio e si legge comunismo il diritto alla vita è assolutamente inviolabile e oltre allo stato di diritto il rispetto di tutti i diritti umani la città dello Stato responsabilità verso il creato la democrazia che ambiamo non può non transitare verso il rispetto e difese delle proprie minoranze abbiamo denunciato tante bond che i bambini i giovani nel Venezuela 9 milioni 200 mila persone in grave situazione di denutrizione lì i bambini e i giovani sono il nostro futuro e veniamo depredati da ciò dagli adulti perché sono la forza produttiva e di responsabilità verso una migliore umanità e ovviamente gli anziani che rappresentano indiscutibilmente la memoria continuo a partire da questa marcia sempre in movimento verso la libertà e quindi giustizia giusta pace e responsabilità la battaglia non violenta per l'universalità dei diritti umani che essendo il numero finito determinano universalità e individualità unicità diversità e differenziazione parafrasando Isaia Berling questa organizza questa omogenizzazione di un'umanità verso un'unità di monopensiero di sistema politico comunistoide religione unica di ispirazione islamica ci porta a distruzione e o a saltare il percorrere verso l'essere profondamente umano verso una postumanità che non può che essere apocalittica diceva Isaia Berling l'unificazione è distruttiva molto più di cent'anni fa il poeta tedesco Heine ammonì i francesi a non sottovalutare il potere delle idee diceva virgolette i concetti filosofici coltivati nella quiete dello studio di un professore possono distruggere una civiltà saremo ovviamente il controesempio non posso come cristiani che siamo non dire che abbiamo sui nostri cieli e nella nostra concezione una guerra spirituale e quindi non moliamo anche nella verticalità di questa perché il Venezuela per il suo rimanente evangelico aveva ricevuto la profezia che sarà lo vedremo da qui o da là un centro di risveglio dello Spirito Santo vive il Venezuela libero democratico e cosciente di oggi federazione desentrata il mio Dio vi benedica ciascuno di voi e ci vendica i vostri e i nostri popoli amén grazie 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 Blanca amén grazie io darei la parola all'amico Luise Giovanni pietra miliare di società libera poi si tratta di vedere se sei una pietra d'angolo come dice il Vangelo o una pietra che va resa d'angolo Gianni non ti sentiamo hai ancora il microfono mutato ecco adesso si do il mio modesto contributo tra le mille difficoltà soprattutto degli anni passati quando le attività di società libera erano molto più intense e rimane comunque società libera con chiunque si parla l'unico baluardo l'unico posto l'unica occasione l'unico spunto di parlare di questi argomenti in modo serio e concreto senza i chiacchiericci da salotto ai quali non siamo invitati ovviamente perché la prima domanda che ci fanno quando interpelliamo qualcuno o qualche personaggio anche della politica eccetera ci chiedono sempre che cosa facciamo a chi apparteniamo e poi scappano tutti quanti sanno che apparteniamo a noi stessi e ai principi ai quali crediamo moltissimo in modo sincero e sviscerato però siamo felici di accogliere e di dare luogo spazio a tutte queste comunità che altrimenti non saprebbero dove trovarsi dove accasarsi e credo che sia come diceva Vincenzo l'unica grande occasione che queste comunità tra loro si incontrino e si crea questo circuito positivo molto positivo che fa ben sperare in un futuro anche negli organismi internazionali che probabilmente questi signori questi rappresentanti queste persone possono avere dalle esperienze vissute con società libera con la marcia internazionale con altri pochi eventi che purtroppo siamo riusciti a realizzare all'estero sperimentato che è possibile che le comunità insieme quindi si possano rafforzare certi argomenti la battaglia per certi argomenti anche in certi in certe situazioni in certi ambienti politici internazionali che abbiamo capito che servono a poco però è l'unica occasione che c'è che diversamente non si potrebbe fare e quindi sono contento che anche quest'anno con un mezzo nuovissimo siamo riusciti io è abbastanza scettico ho sempre creduto a sporcarsi i piedi le scarpe e a battere la strada come abbiamo sempre fatto dal primo giorno sbagliando ma abbiamo imparato tantissimo e adesso abbiamo dovuto deviare il percorso nuovamente in questi nuovi mezzi che ci consentono comunque di fare ulteriori esperienze e devo ringraziare chiaramente Vincenzo che non si ferma davanti a nessuno davanti a niente senza di lui non so come si sarebbe potuto realizzare tutto questo grazie microfono Vincenzo microfono grazie a te Giovanni e non aggiungo altro rispetto a quello che tu hai detto adesso poi abbiamo in arrivo un gruppo di nessuno tocchi caino e di radicali cioè Isabetta Zamparuti Sergio Delia e Rita Bernardini perché stanno a Milano hanno finito di fare una cosa e poi si collegano a Prifotterei ci sono due amici come dire che vengono da quell'ambiente uno è Sergio Ravasio e l'altro è Alessandro Massaro chi parla prima di voi due prima che arrivano gli altri ex radicali o presuntitali facciamo parla prima Sergio Ravasio e tu dai ancora la caccia al tailandese Alessandro certo certo prima Sergio allora prima Sergio che saluto ciao Sergio Sergio e che saluto pure io con tanto affetto benissimo e allora a te la parola dici tutto quello che pensi e anche quello che non pensi pensi possibilmente eh sì il problema è che io nell'elenco non lo vedo e probabilmente è caduto quindi mi sa che tocca prendere la parola a Massari oddio poco fa c'era sì però le linee purtroppo sono ballerine spesso e quindi potrebbe essere caduto io nella stanza di attesa in questo momento è vuota la sala d'attesa e quindi suggerirei di far parlare Alessandro Massari e anche la la mia amica donata guerrieri di Milano da qualche parte perché era arrivata ho visto sì ho seguito tutto tutto l'incontro con molto piacere veramente con molto piacere di tue parole da Milano su quello che hai sentito e tutto quello che ti è piaciuto o non ti è piaciuto ma direi che piaciuto tutto più o meno tutto tutto e sento molto come dire il peso del tanto che c'è da fare le nostre forze le nostre motivazioni sono determinanti ammirevole è la forza che noi ci mettiamo che insomma gli ospiti sentiti oggi ci mettono ma anche proprio il tanto 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 il pondus di quello che c'è da fare la questione cinese insomma non è quella di una piccola tirannia è un po' più grande di noi più grande di noi sì come anche tutto quello che riguarda l'Africa personalmente ho intimamente delle forme di ottimismo forse così istintivamente però non possiamo solo pensare che in qualche modo se ci impegniamo si vada in una certa direzione anche perché anche in Africa la Cina c'è farà meglio farà peggio del vecchio colonialismo insomma sì purtroppo è una potenza che ha aspetti marxistico capitalistici negli aspetti peggiori come ha detto qualcuno senza nulla di cultura liberale che in definitiva oggi è dominante nel mondo cosa si può fare bisogna fare dobbiamo parlare parlare bisogna parlare però si sente veramente che la sfida è veramente di quelle pesanti storiche insomma c'è una dimensione enorme di questi problemi c'è una dimensione enorme e sì poi condivido molto anche le perplessità su l'oggi in Italia non mi era mai capitato di sentire anche qui in Italia come dire la mancanza di una possibilità di esprimersi cioè io in qualche maniera ho questa sensazione che sicuramente nella delicatezza sanitaria che va sempre ricordata sottovalutata però c'è qualcosa che ci sta allontanando anche proprio nella quotidianità ci sta allontanando e quindi temo che sia anche un ripiegarsi in una passività che pensavamo in qualche maniera di poter insomma contenere in certi limiti ma insomma alcune preoccupazioni ce le ho onestamente come ho sentito da parte della relatrice che in cui mi sono proiettata molto precedente alcune perplessità con cui con il dottor Olito ho avuto modo di parlare anche in passato riguardo a una tradizione liberale debole in Italia sembra che ci sia proprio un ributtarci all'indietro più che una vera seria attenzione sanitaria informazione scientifica dovuta medica dovuta ci sia un come dire un qualche cosa che adesso tocca anche la credibilità del diciamo di quello che è la possibilità di esprimersi la un conformismo che io vedo nell'informazione più che prima più che prima se non abbiamo mai avuto magari un giornalismo salvo qualcuno di eccezionale qualità non lo so io adesso sento un conformismo veramente incredibile mi sembra più spettacolo giornalistico che giornalismo per cui si sente proprio il bisogno di staccarsi più delle volte dalla televisione e gli incontri sono su zoom le lezioni sono su zoom altre forme di incontro non ci sono non lo so e questo è un livello della insomma della della convivenza libera del intendiamo questo per libertà insomma le oltre a tutto quello che sembra schiacciarci di enorme nei suoi termini fuori dall'Europa personalmente ho dei timori e credo siano condivisi anche da molti presenti proprio a riguardo anche a quel poco che davamo di acquisito anche come come società democratica come prassi democratica anche anche in Europa ringrazio moltissimo comunque le persone presenti e la dedizione che è veramente ammirevole di fronte a come dire le sfide l'entità la dimensione delle sfide sì grazie ci ho visto un po' di pessimismo che praticamente poi è connaturato un po' a tutti noi a via di cento però poi abbiamo anche una forza volontà di volontà che qualcuno si è capace di reagire a certe cose si reagisce con la cultura con l'intelligenza politica la filologia su certe cose quindi la cosa migliore è non guardare televisione non leggere giornali vabbè su questo siamo assolutamente d'accordo in qualche modo però le battaglie sono impegnative devono essere fatte dobbiamo farle sono impegnative realisticamente sono impegnative e per questo vanno anche fatte sicuramente senti noi ci vediamo vedremo presto a Milano organizzare qualche cosa tipo questa o se siamo ancora meno una cosa proprio ridotta la possiamo organizzare a Milano ringrazio molto ringrazio molto per l'invito e dalle tre che ha seguito tutti gli interventi con grandissimo piacere e in questi momenti sono anche di grande conforto di grande di particolare importanza perché diciamo che è stata una videoconferenza particolarmente corposa perché abbiamo avuto come hai visto una serie infinite di comunità abbiamo spaziato sui quattro continenti e le informazioni ne abbiamo raccolte tante e le indicazioni ne abbiamo anche date vedremo vedremo mi interessa un attimo Vincenzo noi non ti vediamo non so se vediamo qui ai teletra ecco adesso sì 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 bene allora grazie Daniela grazie a voi grazie veramente grazie adesso sono arrivati ho visto gli amici di Elia eccomi e altri ma volevo sapere abbiamo notizia di Francesco Radicioni sì sì sto facendo il bravo segretario finalmente grazie a Facebook ci sono ci sono riuscita a parlare più che col cellulare si è ricollegata aveva avuto un impegno imprevisto di lavoro stava scrivendo una cosa e quindi Vincenzo intanto se possiamo intervenire noi sì no volevo sapere da Alessandro non lo vediamo più sì sì lo vediamo dopo sì va bene e allora chi vuole la parola a voi Sergio ma posso iniziare io poi c'è Elisabetta ora vediamo anche Rita che è nei paraggi diciamo di venire allora intanto Vincenzo se riuscite ad ascoltarmi credo di sì sì intanto volevo chiederti prima proprio di iniziare a che punto siamo di questa maratona non possiamo più chiamarla marcia perché avviene in maniera virtuale o comunque questa marcia dei popoli non rappresentati che di solito facevamo a Campagnano con anche la presenza la presenza fisica siete in in trasmissione da quanto Vincenzo? esattamente dalle 3 meno 10 dalle 4 3 meno 10 beh complimenti sono 3 ore e mezzo io posso soltanto rinnovare il nostro impegno come nessuno tocchi caino come radicali nel sostenere iniziative come questa la tradizione un po' ha avuto una pausa di continuità nel senso che non è più una marcia una fisica avviene in questo modo ma tu sai in questi tempi bisogna ma io credo in genere poi nella vita bisogna fare sempre di necessità di necessità virtù la virtù di questa giornata è che appunto sia stata mantenuta come tradizione e non sia stata annullata l'appuntamento fra un anno sarà quello tradizionale lavoreremo per questo noi non avremmo potuto oggi essere fisicamente se fosse avvenuta in presenza perché come tu sai avevamo questo impegno su Milano che prima doveva essere nel carcere di opera per i nostri laboratori spesso con traspen e nell'occasione avevamo anche organizzato una 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 riunione qui ora ci troviamo alla corte alla corte dei brutto rispettando tutte le regole sei persone per tavolo comunque comunque la faremo la cosa che voglio dirvi è questa l'ho detto spesso anche nelle nostre marce degli anni precedenti il pregio della tua organizzazione di società libera a cui mi onoro di essere di essere iscritto è che riesce ogni anno a mettere insieme direi quasi lo so che tu sei un laico magari anticlericale eccetera ma io lo uso in termini antipapista no anticlericale antipapista beh anticlericale non è una bestemmia è una cosa no no ma mi piace di più antipapista non vuol dire antireligioso anzi io volevo dire esattamente questo che c'è qualcosa di religioso nella tua organizzazione e anche nelle marce che noi abbiamo fatto nel senso letterale del termine il religioso si contrappone a diabolico se noi ragioniamo sull'etimologia di questi termini religioso significa tenere insieme da religio quindi tenere insieme che succede Maria Perrone qualcuno ci spiega che succede Sergio penso che si sia persa la linea Sergio non so se tu riesci a sentirci mi è andata fine la macchina della Foscagna ecco ti abbiamo ripreso Sergio no no ma io non sono professoressa Foscagna devo invitarsi perché sennò ero in macchina con i piedi stagli per terra i piedi ma con i piedi c'è qualcuno invece che si sta inserendo dovrebbe togliere il microfono infatti vedo qualcuno che si sta inserendo non è che ora devo fare pure la regia no no Sergio abbiamo quello che sta accadendo che mentre io parlo ecco mentre io sto parlando c'era qualcuno col microfono aperto in una macchina non sono io anche perché quella era del tutto io era piena di capelli seppure grigi io non ce n'ho manco uno quindi io sto parlando e io credo che voi mi state ascoltando perché io vi sto sentendo non stavo dicendo la religiosità di società libera consiste nel fatto di tenere insieme ma è la storia questa di Marco Pannella e del partito radicale le realtà più diverse le storie più diverse le persone più diverse i vissuti soprattutto delle persone più diverse alle marce di società libera non solo quelle con Pannella ma anche quelle degli anni successivi a cui noi come nessuno tocchi Caino un anno anche come partito radicale abbiamo partecipato invece c'erano le storie più diverse e c'erano i vietnamiti e c'erano gli uguri e c'erano gli iraniani e c'erano i montagnani c'erano i tibetani ecco l'insieme di storie diverse è la transnazionalità che noi dobbiamo salvaguardare che la la religiosità nel senso letterale del termine non c'è nessuna lotta in nessun contesto in nessun luogo fisico del mondo dove si vive il regime autoritario e omicidiario che nega i diritti umani che possa essere sostenuta quella lotta tutto vinta ma nel senso sempre pannelliano che si vince davvero quando si convince qualcuno quella lotta avviene negli stretti confini nazionali già il solo fatto di riunire che sia Roma che sia Campagnano che sia oggi attraverso questa piattaforma più storia da realtà più diverse quindi trasnazionale ma soprattutto è l'insieme che fa la forza non l'unità che fa la forza è l'unione delle cose più diverse che fa la forza e quanto più sono diverse tanto più messe insieme sono forti e la ricchezza della diversità questa va sempre salvaguardata è illusorio pensare di fare la propria libertà che sia del proprio vissuto personale del proprio popolo del proprio paese nei confini stretti di quel vissuto individuale della propria organizzazione del proprio del proprio paese quindi l'insegnamento che viene da occasioni come questa se pure ripeto virtuali ma c'è della virtù nella necessità di doverle fare in questo in questo modo l'indicazione l'insegnamento ecco l'esempio che viene che noi riusciamo ogni anno a ritrovarci con realtà storie vissuti persone facce colori completamente diversi l'uno dall'altro è la nostra forza è il nostro è il pregio delle cose che noi facciamo quindi bene che non siano movimenti di liberazione naziale direi sono movimenti di liberazione individuale personale stare per dire anche spirituale perché lo spirito è creativo di cose Giordano Bruno ce lo insegnava ce lo diceva non è la materia che crea la realtà è la mente che crea la realtà non è l'opposto che la realtà e poi trasnazionale che raccoglie l'insieme di storie di cose diverse io credo questa è la nostra forza forse direi ancora più forte quest'anno perché non è fisica non è l'incontro fisico non è una marcia fisica in cui ci si appunto allena in cui ci si mette alla prova qui noi stiamo mettendo alla prova la nostra volontà la nostra mente il nostro pensiero dell'insieme di diversi che noi siamo e quindi Vincenzo ancora una volta non c'è che da ringraziarti per questa tua per questa tua opera sappia Società Libera ripeto alla quale sono iscritto orgogliosamente che potrà contare nella nostra radicalità di associazione fondata dal partito radicale di nessuno che siamo puoi contarci perché so che con te riusciremo ad affermare questa visione che è del mondo ma anche di trasformazione di cambiamento del mondo partendo dal cambiamento di noi Gandhi si innanzitutto tu il cambiamento che vuoi vedere negli altri che vuoi vedere nel mondo ecco se noi opereremo in questo modo quindi cambiando le nostre abitudini guai ad avere sempre la stessa abitudine essere sempre gli stessi cambiamo e cambieremo anche le cose in cui noi in cui noi crediamo quindi se io concludo qui c'è Elisabetta che voleva intervenire approfittiamo del fatto che lei è qui accanto a me e le passo il microfono poi ti rispondo ciao Elisabetta ciao ciao Vincenzo ciao saluto a a tutti i partecipanti di questa marcia in questa forma di tutta evidenza diversa e che però non impedisce intanto di esprimerci e già il fatto di poter parlare già il fatto di poterci confrontare è un fatto positivo è un fatto che ha un valore e quindi cerchiamo di dare sempre più e ancora maggior valore a quello che facciamo io molto brevemente il mio pensiero lo voglio dedicare a un popolo oppresso in particolare che è il popolo iraniano perché questo regime sanguinario ormai quarantennale che sta opprimendo devastando un popolo con forme crudeli dalla pena di morte a punizioni davvero inconcepibili al giorno d'oggi estrazione degli occhi amputazione di arti ecco un paese che peraltro so sta anche vivendo nel silenzio generale un'emergenza sanitaria considerevole perché sappiamo che dove c'è regime c'è oscurità e quindi non c'è conoscenza io credo che la riflessione sull'iran su come ci relazioniamo rispetto a questo regime dice molto anche del regime in cui noi stessi poi ci troviamo a vivere perché l'iran non è un paese qualsiasi è un paese che gioca un ruolo cruciale in tutto il Medio Oriente quindi a livello planetario riconoscerne la natura sanguinaria la natura misogina la natura repressiva e oppressiva è fondamentale quindi non parliamo di un popolo in particolare parliamo proprio di un'intera popolazione che deve essere liberata attraverso la loro liberazione io so che partecipano sempre a questa manifestazione anche gli amici della resistenza iraniana che se ci sono io saluto calorosamente Ismail benissimo Ismail ed è questo il sentimento che mi lega in particolare a voi in questa giornata pur sapendo quanto siano molti e numerosi le situazioni di cui ci dobbiamo occupare ecco io credo che se c'è un'emergenza sanitaria è proprio quella della salute democratica di cui dobbiamo occuparci e di imporre anche questo tema rispetto a un'informazione che è davvero la grande malata dei nostri tempi perché dice certe cose non ne racconta di molte altre se noi soltanto confrontassimo le vittime dei regimi ci renderemo conto che la vera emergenza dei giorni d'oggi non è quella sanitaria ma è quella democratica la strada è intensa da percorrere noi ci siamo io vi saluto vi abbraccio e vi ringrazio di questa possibilità che ci avete dato di esprimerci e passo a un altro componente del consiglio direttivo di Nessuno Tocchicaino a Maria Brucale la parola per anche lei un saluto va bene buonasera a tutti è sempre bello esserci questa volta siamo costretti a vederci a distanza senza bracci senza sguardi diretti senza sorrisi diretti che per noi sono sempre importantissimi però quella energia che abbiamo condiviso è con noi e non si sposta mai da noi l'impegno è sempre fortissimo e anzi forse nella distanza diventa più forte perché troviamo delle energie nuove per sentirci per sentirci uniti parlava bene Elisabetta di un'emergenza democratica la vediamo continuamente e in tutti i fronti faccio un riferimento che sembra non entrarci nulla che però mi sembra importante che è quello di queste manifestazioni di piazza che si stanno sviluppando sono partite da Napoli ma il timore è che esplodano un po' in tutta Italia che mi fanno pensare alle rivolte dei detenuti nelle carceri cioè quelle manifestazioni di violenza che è sempre da condannare che però sfociano poi con forza da una disperazione che in qualche misura è da comprendere e quindi per tutte le disperazioni che sorgono dall'emergenza noi ci siamo e continueremo ad esserci un abbraccio a tutti anche a te grazie grazie ciao Vincenzo la 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 Bernardini non ci saluta Bernardini non è raggiungibile in questo momento eh vabbè volevo ringraziarti un attimo ecco sono qui sei stato delle poche parole che hai detto a fine anche di una giornata lunghissima con noi perché abbiamo avuto più di 40 iscritti a parlare di varie parti del mondo persino da Hong Kong oggi se l'avessimo fatta a Campagnano non veniva così bene voglio dire perché non sarebbero venuti da Hong Kong e aspetto sempre Radacione che mi parla stasera da Bangkok per fare degli esempi mi hai commosso Sergio perché mi hai detto che società libera con le cose che fa ha un senso di religiosità sei la terza persona al mondo che mi ha detto una cosa simile uno è stato un professore universitario di Trieste di filosofia il quale mi ha detto in quello che si vede società libera come se ci fosse un filo conduttore che conduce e va a finire sempre dalla stessa parte va a finire sempre sull'uomo e questo non ti dico che piacere mi fece quanto mi fu fatto questa cosa l'altra me l'ha fatta tu questa sera all'improvviso prendendomi quasi all'improvviso perché non mi sarei mai aspettato una cosa simile e un altro è stato un prete è stato un prete che adesso non c'è più perché è deceduto poverino mio grande amico conosciuto a Lourdes che aveva capito perfettamente che cosa significava ragionare nei termini in cui io ragiono di liberalismo senza padroni come lo chiamo io senza padroni e lui stava male già ma con le lacrime agli occhi una sera a Lourdes mi disse fai le cose quasi da preti e io gli risposi mi auguro da preti seri perché non amando i preti e come tu sai avendo il disprezzo più totale di quello che è l'anticrista attuale che si spaccia per il Papa per me potrebbe essere quasi un'offesa ma io capì in che termini lui lo raccontava e quindi questo non è che va a me a complimenti a me e via dicendo va come complimenti ad una piccola operazione culturale nata vent'anni fa con un sacco di cose in testa di possibilità di fare e via dicendo non le ha fatte per mancanza di contributi perché i contributi vanno anche presi saper presi o chiesti come minimo e via dicendo e io per Società Libera da questo punto di vista sono stata la persona più sbagliata del mondo perché io non sono capace di dire a Sergio De Lì anche se lo considero un amico dammi centomila lire per Società Libera al limite arrivo a dire Sergio offri un caffè ma di più di questo non vado e quindi un'organizzazione come dire piena di idee di cose da fare e via dicendo che poi non la realizzate per mancanza di mezzi e via dicendo e anche perché io non ho mai sopportato la gente che si è avvicinata a Società Libera in questi 20 anni come alcuni pugliesi venuti a Società Libera tanti anni fa e via dicendo che mi chiedevano di fare delle cose e poi mi chiedevano sì ma Vincenzo ma se io a Società Libera ci lavoro sei mesi mi do da fare per fare queste cose poi che mabusco detto in dialetto foggiano va beh scusami ma tu stai parlando male di pugliesi potrei anche essere d'accordo perché io sono salentino e quindi è tutta un'altra storia un'altra data ma io ti sto parlando del nord di Foggia ti sto parlando del nord della Foggia ti parlo di Foggia no no ma Foggia è più vicino a Roma che a Lecce ecco non c'entra nulla col Salento e quindi per chiudere il discorso grazie perché hai riconosciuto a un gruppo di poveracci che ho conosciuto a mia volta in questi anni in vent'anni con qualcuno siamo insieme da allora e via dicendo di fare delle cose che più che portarci alla realizzazione delle cose ci portano all'utopia però aggiungo guai a quel liberale che non vive l'utopia è già un uomo morto oppure va bene ti ringrazio perfetto siamo in sintonia anche su questo potrei solo aggiungere sull'onda di un liberale americano che però un mezzo liberale un mezzo radicale questo me l'ha ricordato un detenuto che mi ha mandato una bellissima cartolina proprio da opera un tre quattro mesi fa quando stavo male perché mi ero rotto una gamba e lui mi ha rincorato con una frase bellissima ha detto ricordando un governatore americano ma parliamo della fine del secolo scorso eccetera dice qual è la differenza tra un liberale e un radicale è che il radicale è un liberale che ha superato supera il limite di velocità tu sei un liberale io sono un radicale io mi faccio le cose con eccesso di velocità ma non vuol dire altro che tentare insieme da liberali e radicali che anticipare la realtà e tu sai come che io spesso ripeto e ve lo sono convinto che i veri creatori di realtà tu li chiami utopisti io li chiamo visionari ebbene siamo lì va bene ciao vincenzo un abbraccio ciao ciao saluta Bernardini certo e allora vogliamo continuare perché ci sono dei candidati voglio segnalare che abbiamo con noi sia Francesco Radicioni che Tutten Ghiazzo da Parigi dalla comunità tibetana allora andiamo a Parigi c'è lo stesso orario nostro dobbiamo parlare con questo Radicioni che è un po' discolo perché mentre aspettava noi è sparito un paio di volte e non l'abbiamo più trovata adesso dov'è Radicioni? pronto? pronto? eh si deve smutare che deve fare? mi so ecco non mi devo togliere il muto buonasera a te presidente buonasera è tutto il pomeriggio che faccio non faccio altro che parla bene di te perché ho ricordato quella magnifica sera a Partito Radicale a Roma in cui io stavo con Marco e con Rebbiacader un tentativo impossibile quello fu presidente cioè tentare di moderare il Rebbiacader che parlava in uiguro con traduzione poi in inglese e poi in italiano e appunto e pannella venne fuori venne fuori appunto un tentativo impossibile però io i due li lasciai perdere via di centro e uscii da piazza di torri argentina da largo da via di torri argentina per andare al ristorante con quei due avendo detto ho conosciuto una persona che conosce sia la politica sia la storia e cosa importante che non la conosce nessuno la geografia e questo signore si chiama Radicioni anche prima l'ho detto cose un po' così dopodiché è sparito e io ero preoccupato la parola ti do parla grazie grazie presidente sarò molto breve perché appunto voi siete qui invece disciplinati ormai da quasi quattro ore praticamente io appunto approfittando della diretta ho fatto altro poi vi parlo da Bangkok che sono quasi mezzanotte qui quindi cercherò di essere di essere breve tu presidente hai aperto questa marcia questa maratona parlando di anno zero per i diritti umani citando proprio l'elezione al consiglio diritti umani delle Nazioni Unite di Russia Cina Pakistan ma non solo anche di Arabia Saudita Cuba Uzbekistan insomma una situazione abbastanza preoccupante che ci ricorda quello che in qualche modo è uscito da diversi interventi e cioè proprio di come la presenza di Pechino oggi all'interno delle organizzazioni internazionali sia il vero tema e voi a Roma lo sapete in modo particolarmente bene vista l'operazione riuscita fatta da Pechino in sede FAO con l'elezione appunto del capo della FAO un diplomatico cinese spesso si parla dell'iniziativa Belt and Road poi in Italia i giornali italiani la guardano tutti in modo umbilicale come se noi fossimo davvero il centro del mondo in realtà è bene ripeterlo non lo siamo non lo siamo più la parte europea nella tu prima parlavi presidente appunto della geografia ecco bisogna avere presenti come sono le carte che si vendono le carte geografiche che si vendono a Pechino la scena è al centro di qua ci sta molto chiaro l'oceano Pacifico e l'Europa è semplicemente una penisola molto marginale del molto marginale del continente eurasiatico dove stanno soprattutto investendo i cinesi più che in Europa o in Italia ai porti Trieste Tannot ne sento di ogni tipo è in tutta la regione dell'Indo-Pacifico cioè in quella grande regione del mondo che va dalle Maldive proprio in queste ore è in corso una visita del segretario di Stato Mac Pompeo in quella regione dalle Maldive Pakistan Porto di Guadarra sul appunto nel Presidente nel Golfo fino alle isole Fiji cosa gli garantiscono questi questi paesi microscopici che noi non ricordiamo che noi con cui noi non facciamo diplomazia perché Xi Jinping ogni giorno mi arriva il comunicato della Sinhua che ricorda Xi Jinping ha fatto una telefonata col Presidente del Kirghizistan o appunto di Fiji quelli sono tutti voti all'interno delle Nazioni Unite che quando quella che noi chiamiamo la comunità internazionale fa delle con Europa Stati Uniti fa delle lettere sugli Uiguri ci sta il doppio di paesi che fa capitanati dal Pakistan e pratica per esempio sugli Uiguri e da molti paesi musulmani che dice no Pechino fa bene stessa cosa su Hong Kong abbiamo assistito appunto alle lettere della comunità internazionale che condannavano la legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong e tutta la repressione dell'ultimo anno e dall'altro lato decine e decine di paesi firmatari che dicevano no Pechino fa bene questo è qualcosa che secondo me dobbiamo sempre tenere presente e quando parliamo appunto di politica e soprattutto di istituzioni internazionali anche perché su questo voglio essere rapidissimo a differenza della Russia che è tecnicamente una potenza revisionista secondo me la Cina non è una potenza revisionista è stata una potenza molto abile invece a saper usare le istituzioni create e quelle basate sulle regole tutte dal WTO appunto alle Nazioni Unite ad altre per rovesciarle contro di noi e questo è un cambio di paradigma che dobbiamo conoscere innanzitutto secondo tema di cui parlavi tu ma ne hanno parlato in diversi interventi compreso appunto un collega di Arcipelago Laugai quello dell'informazione è un tema assolutamente cruciale tema assolutamente cruciale tra l'altro a margine della della visita dell'ultima visita di Xi Jinping in Italia a margine della firma del memorandum d'intesa sulla Belt and Road sono stati firmati una serie di accordi bilaterali con molti media italiani tra il China Media Group che è letteralmente la propaganda di Pechino non ministri degli esteri come spesso dei ministri dell'informazione come vengono presentati ma la propaganda di Pechino anzi del partito comunista cinese che ha fatto accordi con con l'informazione primaria innanzitutto cioè quella che usiamo noi giornalisti poi per dare le informazioni penso a Lanza penso a l'AGI che ha un accordo con la l'agenzia ufficiale di Pechino da moltissimo da moltissimo tempo penso anche a Mediaset che ha fatto che spesso per esempio TGCom24 usa i corrispondenti del China Media Group e di medi ufficiali da Pechino per avere e lo abbiamo visto anche durante questa pandemia per avere informazioni su quello che avviene nel paese oltre a questo tu ricordavi l'esempio del Corriere della Sera questa è un'inchiesta che io da qui faccio male come corrispondente dall'Asia per Radio Radicale ma che sarebbe invece particolarmente interessante che facesse qualcuno dall'Italia è l'esposizione della pubblicità sui giornali italiani rispetto alle imprese cinesi penso per esempio al caso di Huawei quanto è quanto è forte tutto questo e quanto poi incide rispetto per esempio al fatto che il Corriere della Sera nomini Xi Jinping personaggio dell'anno qualcosa di cui dobbiamo credo chiederci allo stesso tempo c'è un problema di informazione perché l'informazione non ha soldi banalmente scusami ok vi faccio questo esempio io ho seguito lo scorso anno appunto per Radio Radicale andando tantissime volte ad Hong Kong per seguire le manifestazioni da lì spessissimo ero solo la RAI non è mai stata la corrispondente della RAI non è mai sta per tutta una serie di motivi che adesso non entro nel dettaglio ma non è mai non affinava la Botteri a Pechino esattamente Giovanna ha seguito Giovanna Botteri ha seguito da Pechino le manifestazioni ad Hong Kong molti corrispondenti da Pechino non sono venuti ad Hong Kong perché c'è un problema di soldi perché c'è un problema di priorità rispetto all'informazione non c'è nessun problema per seguire l'ultimo caso di cronaca a pagare la FLAI per andare davanti alla casa dell'ultimo ammazzato in Italia per appunto andare a fare cronaca 24 ore su 24 ci sono problemi di soldi per andare a seguire la politica estera c'è da dire su questo che c'è qualche elemento positivo c'è stato per un lungo periodo in cui parlare di diritti umani ti prendevano veramente parlare di diritti umani in tutti questi paesi della regione ti prendevano veramente per un po' naif oggi lo è molto meno credo che possiamo dirlo con un certo orgoglio non so se quanti di voi hanno visto l'ultima anzi la penultima copertina dell'Economist dedicata proprio alla situazione degli Uiguri io ero piccolo ma ero veramente piccolo quando nel 1997 Olivier Dupuy all'epoca segretario del partito radicale parlava per la prima volta al Parlamento europeo dell'Oxingian del Turkestan orientale della situazione degli Uiguri oggi questo popolo che appunto mi ricordo le risatine varie che c'erano in svariati ambienti compreso quello radicale quando Pannella appunto parlava della questione degli Uiguri oggi invece appunto raggiunge la prima pagina la copertina dell'Economist ne parla il segretario di Stato americano si parla di sanzioni internazionali contro la Cina contro le imprese occidentali che per esempio usano cotone dell'Oxingian mi pare un passo avanti siamo partiti appunto come anno nero ma mi pare passi avanti importanti da tenere presente sull'informazione poi in Cina c'è un problema di visti giornalistici banalmente a Radio Radicale non lo danno l'accredito per stare in Cina e appunto dopo essere stati per tanti anni a Pechino con vari modi ci siamo dovuti trasferire qui a Bangkok e seguire la regione qui da Bangkok oggi l'Australia non ha più nessun giornalista australiano in Cina gli stessi americani dopo una serie di diatribe che ci sono state tra Pechino e l'amministrazione Trump riguardanti i propri giornalisti moltissimi delle migliori firme sulla Cina e dalla migliore informazione che c'era sulla Cina per esempio del New York Times o del Washington Post è stata buttata fuori dal paese questo è un altro elemento da tenere presente quindi soldi e anche accrediti quando si tratta di quel paese in qualche modo per concludere molto rapidamente ne hanno parlato sia l'attivista di Hong Kong nel suo intervento che poi ci parlava da Taiwan che l'attivista Lao che invece ci parlava da Parigi in questo momento e anche questo se non siete ascoltatori di Radio Radicale secondo me non l'avete sentita sono in corso sono in corso delle importanti manifestazioni qui in Thailandia manifestazioni pro democrazia manifestazioni che hanno rotto il tabù della critica alla monarchia che chiedono che chiedono le dimissioni del del primo ministro anche qui di Thailandia ma mi era già successo con Bangladesh con Cambogia tante volte appunto siamo praticamente abbiamo il monopolio come come Radio Radicale come appunto altre associazioni che seguono o provano a seguire con una qualche attenzione questi questi temi e anche lì si tratta di un paese la Thailandia questo da cui vi parlo che è spesso dipinto come la terra dei sorrisi un luogo di villeggiatura un luogo un po' strano molto aperto e molto open mind insomma ecco non lo è qui abbiamo una legge sulla l'esa maestà che prevede fino a 15 anni di galera per chi critica la monarchia che è stata usata in tutti questi anni per silenziare gli attivisti non solo ce la ricordava l'attivista lauda Parigi per l'appunto una serie di attivisti critici della monarchia Thai che avevano che si erano rifugiati in altri paesi della regione come per esempio Laos come per esempio Cambogia sono spariti nel nulla spariti letteralmente nel nulla ma è più ritrovati o ritrovati in alcuni casi nel Mekong con il ventre aperto e riempito di cemento questa è la situazione più ci sono appunto tutta un'altra serie di questioni io ora sto indossando appunto questa maglietta che è la maglietta del democracy lo vedete che è la maglietta appunto del movimento Kuitai gli attivisti ad Hong Kong hanno capito l'importanza di questa battaglia qui in Thailandia e appunto si sono uniti in quella che è la cosiddetta alleanza del tè al latte qualcosa da seguire con grande attenzione anche questo alleanza panasiatica tra tutta una serie di attivisti di movimenti democratici della regione che si muove soprattutto online va seguita è un esperimento trasnazionale secondo me molto interessante e va seguito questo movimento qui in Thailandia anche perché questo paese oltre alle cose che vi ho detto ha anche una storia di violenza politica piuttosto forte l'ultima volta che l'esercito ha sparato sui manifestanti è stato nel 2010 facendo una novantina di morti ha una storia di colpi di Stato insomma vi chiedo davvero e poi vi riporto quello che mi chiedono loro i manifestanti fate sapere questa battaglia in corso qui in Thailandia grazie due cose volevo chiederti tu non so se eri presente poco fa quanto io ho risposto al nostro amico di Hong Kong che ha parlato poco fa in cui diceva molte cose su quella che hai detto tu e via dicendo ma io alla fine del suo intervento ho voluto prendere la parola dicendo che sono preoccupato per la situazione di Hong Kong perché la Cina a differenza di altre situazioni non è un imperio decadente che può perdere a dentellate del suo territorio è un imperio in grande avanzata che pensa da qui a pochi anni dominerà il mondo perché vincerà la battaglia con gli Stati Uniti e via dicendo quindi mai si permetterebbe di dare la benché minima autonomia per non parlare di indipendenza che sta al di là del bene e del male di Hong Kong perché si aprirebbero una serie di altre falli si aprirebbe Macau si aprirebbe il Turkestano orientale e via dicendo è un imperialismo come quello cinese che tende come dire a raggruppare più che disperdere quello che c'ha e vedisi l'Africa e via dicendo non glielo permetterà mai allora spingere molto sui ragazzi di Hong Kong e dire fate mi diamo una mano andiamo per strada facciamo fate meglio dire le manifestazioni e via dicendo questo secondo me li porta o ci porta a un massacro a un bagno di sangue sicuro perché non è la Russia dicevo prima che dice vabbè la Lituania l'Estonia la Lettonia alla fine se ne vuoi andare ma sì andatevene piano piano e via dicendo perché era un impero che stava accadendo è un sistema politico sociale che non c'era più che è tutto l'inverso rispetto all'Unione dei Soviti rispetto alla Cina che alla Cina l'impero ce l'ha è il sistema quello che loro poi possono pensare è il migliore al mondo tanto è vero che fotterà pure gli americani allora se tu sei d'accordo con me di un'impostazione di questo tipo la domanda successiva è la preoccupazione di questo tipo la domanda successiva è ma che si può fare con Hong Kong che non siano le scemenze che si sentono dire in giro andiamo lì spaccamo facimo e via dicendo come prestare il fianco alla Cina e non batte il baleno quindi un movimento che dicevi tu panasiatico con appoggi europei e via dicendo che pone una serie di rivendicazioni che non devono essere né l'indipendenza né l'autonomia spinta e via dicendo ma di qui esiste un mondo che è un mondo in trasformazione in divenire ci volete fare i conti con questo mondo perché per adesso voi siete i vincenti ma da qui a qualche decennio non sarete più i vincenti te l'ho riassunta in napoletano ma cercherò di riassumere la risposta in modo altrettanto sintetico io vedo leggo spesso in giro paragoni con la guerra fredda non sono assolutamente d'accordo lo scenario lo ricordavi tu è completamente diverso l'interdipendenza economica è profondamente diversa tu calcola che ci sono una serie di paesi per esempio l'Australia che è il principale ha nella Cina il suo principale partner commerciale noi immaginiamo se durante la guerra fredda la prima ok quella vera la Francia avesse avuto nell'Unione Sovietica il suo principale partner commerciale cosa sarebbe successo la Cina oggi è la seconda potenza economica del mondo con uno sterminato appunto uno sterminato mercato ed è un dato di fatto possiamo possiamo dire che non sia così ma sarebbe una una bugia e dove tra l'altro sta crescendo il nazionalismo io quando sono andato via dalla Cina nel novembre 2017 dopo dieci anni che sono stato a Pechino sono arrivato in una Cina pre-Olimpiadi che era molto incuriosita dallo straniero dieci anni dopo sono andato via da una Cina che era molto restia rispetto rispetto allo straniero due date anzi diciamo la stessa data è stata fondamentale cioè le Olimpiadi a Pechino del 2008 e poi l'anno dopo la crisi finanziaria globale insomma quella che però da cui loro si sono risollevati in modo molto più rapido e deciso di noi io temo che questa pandemia vista soprattutto dall'Asia insomma possa avere un effetto un effetto simile lo sappiamo ormai la retorica di Pechino è da tempo da mesi il nostro sistema è superiore e questo te lo dicono e questo te lo dicono se tu parli con qualunque cinese te lo te lo te lo dice te lo ripete noi siamo stati in grado di metterla sotto controllo voi parlate di libertà ma parlate di libertà in modo malposto come appunto la libertà di non mettersi la mascherina eccetera e devo dirti che anche vista qui da Bangkok è successo qualcosa di simile a quello che avevo visto appunto 2008 2009 in Cina la l'atteggiamento nei confronti degli occidentali ma non solo dell'occidente ma proprio degli occidentali qui la Thailandia è riuscita a mettere praticamente sotto controllo la pandemia quasi subito ma l'atteggiamento nei confronti degli occidentali oggi è non siete in grado di governare i fenomeni non siete in grado di governare di governare un fenomeno come appunto quello della pandemia cosa che invece appunto è riuscita e io anche lì dico invece di concentrarvi solamente sui numeri cinesi e di dire sono veri sono falsi concentriamoci sui grandi successi che ci sono stati nelle democrazie di questa regione Taiwan la Corea del Sud hanno oggi numeri come quelli cinesi numeri come quelli cinesi praticamente il Giappone? il Giappone sono leggermente più alti ma sono nell'ordine di centinaia al giorno nell'ordine di centinaia al giorno adesso non so gli ultimi vostri quali quali siano democrazie e sistemi misti devo dire anche anche qui Thailandia Singapore hanno gestito in modo decente questa questa crisi insomma questa crisi questa crisi finanziaria questa insomma è un po' è un po' è un po' la situazione e diciamo mica solo grazie alla tecnologia come si dice mica solo innanzitutto avendo dei piani epidemici innanzitutto avendo all'inizio dei piani epidemici sapendo di che cosa si parlava io ero io ero in Cina quando esplosa a gennaio quando esplosa tutta questa questa questione sono tornato a Bangkok che era l'inizio di febbraio e già tutti portavano le mascherine cioè che di fronte a questa a questa misura non ci sia da fare grosso un grosso dibattito insomma cioè che siano necessarie alcune misure l'altra questione che è stata fatta e anche lì attenzione a come la si legge è stata quella di chiudere i confini cioè banalmente la Thailandia è bloccata nonostante il rischio enorme che ci sia per il turismo e quanto questo paese dipende dal turismo 20% più o meno del PIL i confini sono chiusi e anche lì io assistivo da qui a un dibattito surreale sull'Italia in cui dice che ci si divedeva chiudiamo solo ai ricchi o chiudiamo solo i disperati non so su quali su quali basi insomma si sia fatta tutta questa distinzione è tutto molto ridicolo banalmente se io torno in Italia e io mi faccio una quarantena fiduciaria se io dall'Italia quindi a casa se io dall'Italia vengo in Thailandia mi devo fare una quarantena in strutture dello Stato pagando pagando circa 1500 euro io non devo dire faccio il cronista non ho una risposta su quale sia la cosa migliore però insomma se ho messo tu a differenza di tanti stronzi hai l'informazione che richiesta ma infatti io sono rimasto allibito sul fatto che in Italia si parli solo della Cina cioè come se il modello fosse vogliamo contenere la pandemia o è Trump o è Xi Jinping non è così ragazzi non è così sono d'accordo senti diamoci una mano a vicenda quando vuoi no io oggi c'eri quando ho lanciato l'idea di fare una piattaforma nel mondo liberale il quale mondo liberale italiano lo conosci a te tanto bene come lo conosco io non gliene frega un cazzo di tutta sta roba perché loro devono far vedere quante elezioni e le prossime elezioni si possono pigliare tre seggi due seggi così e via dicendo quindi i diritti umani come sempre dico io per il mondo liberale si fermano a Brennero non vanno al di là però io insieme Alessandro Massari un po' di radicali hai sentito pure Sergio Delia poco fa un po' di gente la vorrei mettere insieme e dire signore facciamo una piattaforma facciamo qualcosa in modo che non una alla volta andiamo a confrontarci se esistono come quel bel ragazzo che ha parlato stasera da Taiwan quello l'attivista di Hong Kong quella è gente che io se ci avessi come dire da raggrupparlo subito da qualche parte lo imbottiglierei subito perché aveva delle idee chiare e via dicendo allora con il confronto col mondo occidentale lui non può altro che migliorare perché noi siamo da questo punto di vista siamo più scafati abbiamo fatto più cose capito io non andrei mai con le lance in resto contro la Cina capito i ragazzi di Hong Kong c'è stato un momento che hanno piacato una grossa sbandata perché non si sapeva che volevano fare la rivoluzione il giorno dopo fa la rivoluzione il giorno dopo con i cinesi che hanno ammassato camion e carri armati ai confini di Hong Kong sarebbe stata Budapest dei giorni nostri sì anche lì devo dire è stato te l'ho detto io l'ho seguita proprio tutta ero lì alla prima manifestazione anzi no alla prima non c'ero dalla seconda il 12 giugno fino all'ultima fino a tutto l'assedio al Politecnico ero sempre a Hong Kong lo scorso anno e mi ero fatto nel 2014 la rivoluzione degli ombrelli sempre lì in città e devo dirti che mentre nel 2014 ho visto una grande speranza una grande speranza lo scorso anno mi era soprattutto veramente la disperazione a prevalere veramente la disperazione a prevalere cioè a un certo punto ci avevano provato allora c'era una scritta secondo me bellissima che era comparsa il primo luglio dello scorso anno quando i manifestanti di Hong Kong hanno occupato il consiglio legislativo vale a dire il mini parlamento della città e cioè ci avete insegnato voi che le manifestazioni pacifiche non servono gli hongkongesi sono scesi in piazza a milioni in una città di 8 milioni di abitanti anzi di neanche 8 milioni di abitanti a milioni una manifestazione da 2 milioni di persone abbiamo visto abbiamo visto che che dire abbiamo visto senti allora intanto scampiamoci le mail perché se no io non so dove trovarti assolutamente la mia è facilissima è radicioni francesco tutto attaccato chiocciola gmail punto com facile si è facile la nostra te la mando non peraltro perché se no braccio non mi funziona in questo momento te la mando su questa che poi anche la nostra è facile è info chioccio la società libera punto org c'è il jolly di questa piattaforma liberale nell'estremo nell'estremo oriente perché amico mio io perché ho detto che aspettavo con ansia che tu arrivasse perché ho detto sempre a tutti quelli che ho incontrato i radicali lì c'è Alessandro te lo può dire quella è l'unica che conosce storia e geografia ma me ne sono me ne sono molto appassionato devo dire me ne sono veramente molto appassionato di questa di questa era del mondo molto grazie grazie francesco grazie a voi grazie a voi e scusate la lunghezza ho parlato tantissimo l'ho detto sarò breve Vincenzo riusciamo a far parlare Tupten Ghiaccio da Parigi sì grazie sì presentalo tu dai no no ok scusate la voglio sapere solo vediamo se lo vedo allora presento Tupten Ghiaccio che è l'ex presidente della comunità tibetana in Francia e che parla appunto per la comunità tibetana Don Tuten Ghiaccio che è il presidente della comunità tibetana in Francia e che ha possibile partecipare anche lui ha partecipato a tutte le nostre marce che sono state organizzate a Parigi a video durante the different march freedom march in Paris e in past few years with our vietnamese pro-democratic young youngsters and with all other South Asian members and to this this absence of human right rule of law and as all of you aware of the Tibetan political current situation under Chinese occupation is due to the Chinese want to Tibet long term to disappear on the face of the earth it is the long term calculated and strategy of Chinese government policy towards Tibet now it is proven by the factual situation on the ground on its policy which is lock up and different labor camp and Xinjiang you know there are two millions of Xinjiang people and very concerned and sad news comes out recently from Tibet you know about half of 50,000 Tibetans displaced under Chinese labor camps in the name of the patriotic re-education so all this is new but in Europe you have unfortunately known it under the German Nazi who tried to execute whole entire people like Jewish or other minority in 1940 to 45 and European soul you know so now China want to create a great dominant Asia and later and the name of one road and one belt to extend its colonial interest and to transform all other country Chinese satellite states and those countries who other and Chinese so-called new economic strategy and all those European who want to treat China like a libel and respective partner they are very huge mistake of the calculation miscalculation because China is not a normal state and China run by one party which is predominantly military culture military ideology and they not only rule the people through force and torture and to persecute people and those who are not willing their vision of the country their vision of the development so when it comes to the Tibetan problem it is not only a choice of type of civilization not also a perception of development it is Tibet was a free independent country which underwent a military invasion it transformed a harsh occupation now it is transformed a full fledged colonization so now what Tibetan demand under the his only Dalai Lama leadership and central Tibetan administration is to dialogue through nonviolent approach on the feet of the equality to seek a general autonomy for the more than 6 million Tibetan people so Chinese government now they think the Tibetan issue is just something relevant in the presence of his Dalai Lama they think when the leader charismatic leader of Tibet will not be there for them Tibet will be out of the international sin I think this is a very huge misunderstanding of the history that the Tibet issue is concerned people future of our country future of our civilization also freedom of people's survival so in the history it has been paired with Tibet also invaded and occupied China so I think long term we expect the new Chinese leadership who will have political villains to really handle Tibetan issue through our settled problem through a win-win approach so that is what we are looking for Tibetan issue is not only just a human right issue it concerns Tibetan national sovereignty it is territorial integrity it when it is broke up by Chinese envision than all other problem human right absence of human right and human dignity and Tibetan lost the freedom and right to rule their own country so that is the heart of the problem so many Western democratic countries of course you should have diplomatic ties with China and the name of the international codice and business interests etc but as far my observation last 20 years in Europe since Chinese adhesion and the WTO they did lot of promise that they would respect the international standard for human right international standard of the rule of law international standard of mutual understanding etc but and effective and the real practically China always use as you know recently so first international media wolf wire diplomacy which consists only to threat other countries if they don't adopt China's point of view and then they don't go on the Chinese path then they threat every country so I think I am very sad to learn two years ago that Italian government accepted to send its international port to the Chinese society and as well as some gesture and grace was happening but it is not only just economic dominance it will now China use under its diplomatic missions like Confucius Institute which seeking influence to influence Western democratic world's academic language academic vision to make transform China's image into a positive rule you know so Western intelligentsia now speak of China likewise as a reliable alternative source the world China purpose is a totalitarian regime without any basic human right and basic civil and political right that is what is exactly in China so we have to know those people who live in a free country like Europe America North America Australia Japan India we should realize and we should wake up if we don't want to go under night more of the authoritarian role and single court role and single party role we should wake up and fight for our freedom to safeguard our rights and also we must show our solidarity with the people of Xinjiang with the people who fight underground and Hong Kong and we should show our solidarity our support with Taiwan and we should also not forget this future political destiny of 6 million Tibetan people who has been sacrificed before the so-called multinational international economic interest so I'm really really happy even though I don't understand what you have been saying in Italian language but what I saw is that you have you you are quite critical what China is doing and international sin and Chinese arrogance China's wolf wire diplomacy which threat physically and psychologically mount a lot of pressure on other countries if they don't be like Chinese vassal country or like Chinese satellite countries so I think we are at the beginning of the trouble so we should mark our antenna constitute and international coalition to counter counter measure against this totalitarian regime and support all the democratic force of Chinese people and China and to prevail that peace and security and freedom should prevail in China and Tibet should recover its freedom and Xinjiang and Hong Kong they recover a certain degree of democracy and freedom that is the heart of our involvement in this fight against liberty regime so I hope that you understand what we quest for last 60 years we are looking for a free Tibet Tibet should rule by Tibet and development of Tibet should base according to the aspiration of Tibetan people without any interference without imposition of Chinese colonial role that is our request you know sorry I have to interrupt you because we have only five minutes I would like to say one note of conclusion that I would like to thank you Italian society and other NGOs members from radical party other NGOs who defend human rights across the world and to give me this platform to say few words on the on the plight of Tibet issue so thank you very much Maria thank you thank you thank you hello I here did I Sergio Rovasio c'è ancora l'abbiamo stancati tutti Sergio no non c'è non c'è Sergio e allora Luca Guzzardi c'è ancora non lo vedo no allora come si chiama Alessandro Massari chiuda la fine insieme a me facciamo parlare a Simone l'attanzio che l'ho visto che c'è buonasera buonasera a tutti non so è un po' tardi vi rubo un 3-4 minuti e vi vi dico il il mio pensiero ho sentito molte cose interessanti e tante tra l'altro già anticipano quello che vorrei dire io parto tra l'altro con un qualcosa di noto la carta dei diritti europei che con la clausola di condizionalità richiede il rispetto ai diritti umani per i paesi che chiedono di stipulare accordi commerciali con l'Unione Europea a prescindere da quanto detto basta però ricordare il volume dell'interscambio commerciale tra Europa e Cina per capire come tale limitazione siano puramente formali così dunque come fosse un dato di fatto seppur affronti la prima libertà fondamentale negati in più di un quarto dei paesi del mondo e di cui soffrono centinaia di milioni di persone non si dovrebbe restare inerti l'Europa credo dovrebbe mobilitarsi ponendo la difesa dei diritti umani come priorità nei rapporti internazionali sia di natura politica che commerciale oppure logicamente dovrebbe abolire la clausola di condizionalità permettendo anche in linea teorica ai paesi che non rispettano i fondamentali diritti umani di stipulare accordi commerciali con l'Europa stessa la cancellazione della clausola di condizionalità preserverebbe quantomeno la credibilità dell'Europa stessa aspetto questo non trascurabile in quanto in assenza di credibilità il dialogo risulta vacuo e privo di efficacia per non parlare poi di eventuali nuove clausole o addirittura un timatum che l'Europa potrebbe vedersi costretta ad operare in situazioni di emergenza risulterebbero non credibili a prescindere nonostante nonostante la logicità del ragionamento pare comunque evidente che nel mondo non vi sarà stabilità fin quando assetti politici unità territoriali e identità dei popoli saranno imposti occorre dunque che in occidente le piazze si riempiano di donne e uomini consapevoli che milioni di persone ancora in questi anni hanno perso libertà e vita donne e uomini consapevoli che adoperarsi per la difesa e diritti umani e difendere anche i propri diritti individuali l'autodeterminazione dei popoli e libertà individuali dovrebbero inoltre essere tra i cardini di una concezione politica di chi con giusto orgoglio si richiama ad una visione occidentale del mondo l'occidente pena l'inesorabile e irreversibile declino sullo scacchiere mondiale deve scuottersi e mobilitarsi concretamente per denunciare la mancanza di libertà di cui soffrono persone popoli e minoranze a centinaia di milioni di uomini infatti negato il diritto di libertà personale di parola di pensiero di religione e di autodeterminazione come detto sarebbe bello riempire le piazze di gente consapevole ma non sarebbe comunque sufficiente è indispensabile che le istituzioni internazionali assumano una concreta posizione a tutela della libertà ovunque essa sia in discussione su questo punto come ricordato durante il suo intervento anche da Vincenzo Società Libra più volte ha rivolto un appello al Parlamento europeo affinché istituisca la giornata europea per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi è vero questo sarebbe solo un piccolo passo del cammino ma di estrema importanza in quanto è molto più semplice mantenere un moto che promuoverlo fatto un passo è molto più semplice compierne un altro e poi un altro e poi un altro ancora fino a quando il gusto del camminare del marciare per l'appunto non prende il sopravvento portando tutti a intravedere la meta sospirata credo che la stella polare di questo cammino dovrebbe essere la consapevolezza che se nel ventunesimo secolo le libertà fondamentali continuano a essere legate o limitate allora qualcosa non funziona a livello delle relazioni internazionali la tanto declamata difesa delle libertà individuali dell'autodeterminazione dei popoli e della dignità delle persone è sempre subordinata nella pratica a priorità di tipo politico economico e commerciale le istituzioni se fossero lungimiranti e coerenti non dovrebbero considerare secondario di basso profilo la salvaguardia di diritti umani nei rapporti tra gli stati il pianeta credo sia evidente ha fame di libertà e occorre nutrirlo con la libertà politica che è il principale presupposto per la stabilità e la coesistenza occorre dunque quanto prima assicurare la libertà religiosa e linguistica fondamentali elementi per la salvaguardia delle rispettive identità questo presuppone il rispetto delle proprie diversità e il rispetto delle minoranze interne solo così si potrà lavorare per la comprensione reciproca mentre al di fuori di queste convinzioni di questo metodo troveremo solo conflitto mi hai sentito Simone Simone ti sento ora ti ho ringraziato e mi scuso per l'orario che abbiamo fatto però voglio dire come hai visto è stata dura ce ne sono ancora sette o otto che devono parlare non so quanto parleranno e via di cento spero che il compenso ti sia piaciuto c'era molto da ascoltare ho preferito ascoltare che parlare visto l'interesse allora noi tanto ci sentiamo presto la prossima settimana e commenteremo volentieri grazie grazie a te adesso possiamo dare la parola in attesa di Marco tu parli Marco sì ci sono Vincenzo eccomi qua guarda no non parlo perché abbiamo fatto questa lunga maratona e non vorrei appesantirlo ulteriormente e allora dovrebbe parlare Massari che lo teniamo ultimo Rovasio mi dispiace perché è andato via Rovasio e Guzzardi che è arrivato addirittura per primo aspettiamo un attimo un secondo non riesco più non riesco più a i messaggi le cose non mi hanno visto una agenda che non qui ci sono cose che non funzionano più cd e fg se no facciamo iniziare intanto ma Alessandro su Alessandro vado io intanto mentre stai intanto ti ringrazio Vincenzo perché l'aver organizzato la marcia online secondo me è stata un'opportunità per ascoltarci meglio per ascoltarci tutti e per avere anche tra noi persone che magari non avremmo potuto potuto ascoltare e io ho ritrovato che devo dire un sacco di amici di società libera io qui intervengo con il triplo tessera sono un iscritto di società libera sono un militante di più Europa sono un militante di radicali italiani ma che ne so ti faccio un esempio Francesco Radicioni tu hai raccontato un episodio quando vi ha visto organizzare con Marco Pannella per di accadere quelle marce beh io me lo ricordo quando lui giovanissimo si metteva a studiare cinese e nel partito eravamo tre che avevamo compreso la potenza corruttiva della Cina erano inizio di tre generazioni il più giovane era Francesco c'ero io in mezzo e c'era Roberto Cicciomo e Sere intorno anche tra noi era difficile individuare quello che sarebbe stato e la religione della libertà quell'animo religioso che si connota che si connota tutti noi insomma noi siamo dei liberali perché ce l'abbiamo senza voler citare Crocio ma poi tornerò pure sulla libertà religiosa perché è la prima delle libertà che tutte fonda perché se è vero che noi siamo persone diverse ci confrontiamo però poi dopo dobbiamo andare a proporre delle azioni io da radicale qui intervengo dicendo che appunto è necessario elaborare a lungo come è stato fatto poi bisogna fare delle azioni concrete e però bisogna anche apparlarsi alle istituzioni che sono fallite effettivamente c'è un problema grosso innanzitutto io ricordo quando alla fine della guerra fredda ci fu alcuni pensatori liberali come Kuyama che teorizzavano la fine della storia perché il modello occidentale sembrava avesse vinto in quegli anni insomma nel 1990 la prima guerra in Iraq nel 91 Kaskalurz dopo dieci anni noi ci siamo ritrovati con l'entrata della Cina nel DTO e che questo sia la causa scatenante della potenza cinese è evidente perché un certo mondo occidentale superata la battaglia con la Russia l'ex urs ha considerato finita le battaglie per il liberalismo non era così e quando voi raccontate come in Cina sia possibile calpestare i diritti umani alla persona è perché purtroppo esistono antropologie culturali quello è un paese che non ha mai conosciuto di verità che sacrifica le persone umane e questo è un problema grosso anche perché se noi andiamo ad immaginare qual è il problema il problema è che le democrazie liberali hanno perso forza noi abbiamo il Democracy Index che vede solamente 22 paesi al mondo che fanno parte dell'ONU che hanno una piena democrazia e rappresentano il 5,7 della popolazione mondiale queste sono le persone abituate a diritti e libertà l'Italia è al 35esimo posto per bassa cultura politica e per regali della politica e qui il ruolo dell'informazione sia all'interno dell'Occidente che nei luoghi dove non esiste democrazia e quindi è impossibile poter poter avere un quadro chiaro poter capire come agire tu ti riferivi giustamente alla necessità di stare attenti quando si invita a resistere diciamo così il il popolo che in questo momento Hong Kong è vessato però lì effettivamente il virus ha apposto poi a un certo punto un blackout dell'informazione io ti voglio ricordare che dentro Radicali Italiani noi ci blocchiamo per questa popolazione in particolare saluto Potenzia De Grazia che ha fatto 12 giorni di sciopero della frame che termina oggi con delle manifestazioni davanti ai consolati perché immediatamente noi abbiamo iniziato ad usare la rete la rete è un mezzo neutro può essere usato dai russi o dai cinesi per riuscire ad arrivare a influenzare le elezioni in Brexit o negli Stati Uniti o con il 5G riuscire a controllare i sistemi democratici e di sicurezza dei paesi oppure si può usare per far sviluppare idee diritti libertà e noi questo abbiamo provato a fare abbiamo lanciato una campagna To Have That Matters perché ci sono 12 ragazzi che effettivamente sono scappati da Taiwan sono stati arrestati e non si sa più che cosa abbiano fatto e le leggi liberticide voi le avete detti qual è il problema che non c'è l'ONU ma l'ONU non c'è mai stato prima c'era il potere di Veto con le grandi potenze questo è rimasto e nel frattempo c'è stata un'erosione delle democrazie liberali che sono diventate al massimo democrazie e basta dove 51 vale 100 e poi tutti gli altri non contano non contano nulla quindi che cosa si fa? si fa in modo che si cerchi di aiutare queste persone noi abbiamo invitato Di Maio a fare in modo che se un giovane che riesce a fuggire da Hong Kong chieda richiesta d'asilo in Italia si possa fare adesso non viene attuato e a mio avviso questo è grave la Germania lo fa poi vi dirò perché perché rispetto alla libertà ho qualcosa da dirvi ma l'Unione Europea quando è stata emanata la legge liberticida che vuole mettere diciamo in discussione tutti i diritti che Hong Kong hanno e che il motivo per il quale scendono in piazza perché loro la libertà l'hanno conosciuta non sono cinesi che non hanno mai avuto libertà sono dei cinesi che sono stati a contatto con il mondo occidentale lì hanno conosciuto la libertà i diritti di libertà essendo battersi e però la legge poi economica impera noi abbiamo avuto il presidente del consiglio UE la commissione van der Leyen l'altro rappresentante e va bene ma insomma una risoluzione del Parlamento che ha invitato a far giudicare dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA qualche cosa che parte dalla ex Jugoslavia dei grandi laghi arriva lì e la Cina ha condannato le misure UE perché appunto come dite voi c'è la forza dell'economia non è più come l'URSS e che facciamo però i dazzi di Trump è quella la via perché poi bisogna capire qual è il metodo con il quale noi riusciamo a a governare queste cose intanto denunciare la neutralità della comunità internazionale questo l'ha fatto più Europa e Maborino in particolare ma tutta più Europa il colpevole silenzio del nostro governo e cercare di portare avanti nelle istituzioni che ancora funzionano le regole le istituzioni la Corte cercare di trovare qualche cosa e io prendo ad esempio un'istituzione che tu ritieni diciamo decisamente arretrata rispetto alle esigenze l'Unione Europea e poi ancora delle regole dei tribunali che possono usare che possono essere usati per tutelare i figiati lascio perdere tutti i problemi di definizione la lingua la precolarità nazionale religione ma c'è proprio un problema di norme noi abbiamo la convenzione di Ginevra che è quella sui rifugiati e poi la carta dei diritti fondamentali dell'Ue che è la carta di inizio che in fondo è la prima carta che nel terzo millennio ha riproposto questo tipo di diritti i diritti nei nervi dell'uomo la dignità umana la libertà l'uguaglianza la solidarietà e l'articolo 21 ha il principio di non discriminazione ecco quella è la cosa che fonda un po' tutta la nostra azione noi non ce lo diciamo ma insomma questa cosa che ci accomuna è che l'uomo non può essere lupo per l'altro uomo e la discriminazione fondata sulla minoranza nazionale è qualcosa di particolarmente odioso è particolarmente odioso e considerate che nel preambolo di questa carta c'è proprio scritto apertamente che noi abbiamo una responsabilità anche verso le generazioni future in questo momento in cui i principi liberali i diritti di libertà si stanno erodendo noi abbiamo la necessità di farli conoscere per trasferirli perché il diritto proprio il preambolo del trattato di inizio finisce così il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità e delle generazioni future noi dobbiamo insegnare il metodo della libertà perché questo non si esaurisca e sta retrocedendo drammaticamente in tutto il mondo anche nel mondo occidentale che pensavamo più progredito ma dico di più le corti i diritti le regole sono necessarie ed esistono la convenzione di Ginevra recepita nella come detto nella carta di inizia non protegge tutti e l'Unione Europea ha previsto una cosa in più la protezione sussidiaria quando c'è un ragazzo che fugge da Hong Kong e non viene protetto dall'ordinamento nazionale italiano con le leggi fatte da Salvini e sapete quello che è accaduto ebbene qui si fa un passo in più si dà uno stato per i rifugiati o per le persone avanti titolo a beneficiare della protezione sussidiaria noi gliela diamo questa protezione e una delle tante cose è proprio quella basata su la provenienza all'interno del paese d'origine di una discriminazione basato su appunto questa minorità e qui si tutelano le persone non tutelate dalla convenzione di Ginevra e quindi c'è proprio una cosa importante ma poi come va a finire questa cosa? si può attuare? beh sì e siccome la libertà nasce come libertà religiosa vi racconto come in una sentenza la corte europea di giustizia europea la sentenza numero 5 settembre del 2012 abbia tutelato una particolare categoria di islamici che in Pakistan sono assolutamente discriminati per la loro fede in un diciamo in una setta diversa perché Islam è più diviso del cristianesimo al suo interno ebbene due persone che facevano parte di una setta minoritaria protestavano il loro credo sono stati minacciati di morte sono stati picchiati sono stati sbattuti in carcere non potevano fare propaganda sono fuggiti e la corte tedesca gli ha detto ma non avete le condizioni per lo status di rifugiato perché insomma serve una violazione forte della religione non basta che voi siate stati diciamo messi in pericolo perché vi viene vietato di praticare in pubblico quella religione no è stato considerato un atto persecutorio e quindi in appello è stato considerato ragionevole individuare nella figura dello status di rifugiato a quelle persone che per il diritto internazionale quello che noi conosciamo non avrebbero avuto e insomma cosa dire io credo che con grande forza perché la libertà ha sempre avanzato lentamente le catene sono sempre state pronte a frenarci e a bloccarci però le iniziative basate su una condivisione forte di quello che noi intendiamo oggi per libertà per democrazia per progresso per solidarietà puoi trovare degli strumenti concreti e tu proponi di incontrarci ancora per poter essere presenti io ti ho raccontato come noi su Hong Kong ci siamo mosse abbiamo usato internet come ci siamo andati a studiare le carte dentro più Europa per capire se i trattati che adesso scusa se sì se i trattati e le direttive si legittimano ad essere in grado di proteggere queste persone e noi ci ritroviamo poi magari con una maggioranza che prima era fatta da Lega e Cinque Stelle adesso le Cinque Stelle e PD queste cose fanno fatica a digerirle quindi battendoci anche in casa nostra ci battiamo anche per i popoli oppressi perché noi dobbiamo riuscire a fare questo se non possiamo andare da loro almeno coloro i quali vengono da noi pensiamo ad essere poter aiutati io mi fermo qui nel 15 senso perché ti ho detto quello che ho ascoltato è stato particolarmente interessante e spero che possa essere utilizzato come base di partenza per proseguire nel futuro rincontrandoci tutti insieme magari non solo una volta l'anno ma questo mezzo è potentissimo è eccezionale tu sei diventato un abilissimo utilizzatore di Zoom quindi perché non ritrovarci tutti insieme per proseguire poi questo cammino che porti a cose concrete come piacciono a noi liberali che poi vanno in strada marciando mischiati tra loro senza porre delle differenze ecco la mascherina grazie mille caro amico Alessandro volevo solamente visto che siamo in chiusura devono parlare solo due o tre amici che ti è sembrato tutta la serata però ti ho detto particolarmente interessante io ho preso cinque pagine d'appunti e ho detto ma guarda le cose che ci sono da fare perché quando vi sentivo parlare della Cina e di tutto quello che è stato l'evoluzione del mondo occidentale ricordiamoci che in questo momento gran parte del degrado mondiale è dovuto da una sovrastima delle proprie capacità da parte dell'Occidente noi stiamo erodando i nostri principi e siamo superati tecnicamente da stati dove la libertà non c'è quindi noi dobbiamo ripristinare con forza delle iniziative che mettano al centro la libertà come sono state enunciate io per esempio sentivo prima Simone che parlava degli interscambi commerciali cioè se i dazzi gli sembrano una cosa che non abbiano funzionato però la via della sanzione economica perché non quella è la via perché noi gli abbiamo aperto la strada alla Cina per poter fare io te lo dico proprio chiaramente quando parlavo con Francesco nel 96-97 vedevo quant'erano le divise prodotte dai cinesi e vedevo un mondo di militari da lì si capiva che sarebbero intervenuti sul manifatturiero facendo politica di dumping perché così hanno iniziato non sono iniziati con 5G hanno iniziato vendendoci i vestiti a un prezzo più basso di quello nostro e se non lo vedi prima poi dopo è tardi è assolutamente tardi quindi da qui sono aggiunte delle evocazioni che devono fare in modo che non faccio adesso la sintesi perché sono talmente tante le cose che sono state lì credo che noi ci dobbiamo rincontrare per rendere questa chiacchierata che è stata una chiacchierata che è spaziata un focus che individui uno o due obiettivi da portare avanti con forza perché il prossimo anno la prossima marcia si possa dire che noi nel frattempo abbiamo fatto questo in libertà allora noi a più presto visto che dobbiamo usare questi strumenti io lancio lì l'ho già lanciata l'idea oggi dove fare una riunione fra vari gruppi che poi vedremo e via dicendo per la piattaforma liberale sui diritti umani questa deve essere la formula in cui dobbiamo dire 4, 5, 6 cose che vogliamo fare in contrapposizione a tutti quelli che si occupano dei diritti umani ma o perché se ne occupano per finta o perché se ne occupano per partito presa a secondo delle aree geografiche voglio dire l'estrema sinistra si occupa dei diritti umani se parliamo di amici di pelle nera se sono di pelle bianche si hanno gli occhi a mandorle e vengono massacrati dai cinesi non gliene frega nulla a un certo tipo di sinistra europea purtroppo è così ma bisogna dirlo si venga sempre purtroppo è così da sempre purtroppo è così da sempre infatti e via dicendo comunque a più presto ci sentiamo poi domani e domenica mi devo curare il braccio rotto devo fare qualcosa lunedì martedì ci dobbiamo sentire perché ti devo dire un pa' di cose importanti e salutami Giannuzzi che ha fatto una grande operazione grazie l'hai capito? sì sì grazie e che non mi aspettavo lo farò con piacere bene e poi digli che ne andrò a mettere il telefono ero pure a lui certo lunedì martedì ci sentiamo va bene ci conto mi inserisco un attimo per due note tecniche la prima chiedo a Blanca e Alessandro se per caso hanno il contatto di Sergio Rovasio e se me lo possono fare avere e la seconda è poiché la riunione era programmata fino alle 8 e potremmo sforare un po' siccome siamo neofiti non sappiamo se si interromperà o no vi metto un nuovo link nel caso in cui si dovesse interrompere io ve lo metto speriamo di no che non serva se cade tutto noi ci facciamo il suo nuovo link adesso possiamo possiamo continuare che ore sono 18-10 e poi era 10 allora Guzzardi il professor Guzzardi va bene che ci parla dalle lande della Germania e via di cento se ne è andato è tornato sta ancora qui adesso noi gli complichiamo la vita mi senti? Guzzardi Luca Luca? o no e ora stava qui l'ho visto io ci sta ci sta deve solo attivare il microfono Luca a te la parola Luca grazie grazie Vincenzo ma io intanto voglio ringraziarvi perché ho imparato moltissimo in quello che sono riuscito a sentire e poi mi sono dovuto assentare per diciamo motivi di famiglia perché ho una giovane combattente per la libertà in casa a limita di 5 mesi che ovviamente schiavizza noi per guadagnarsi la sua libertà ma è giusto così no io vorrei fare soltanto un piccolo ricordo di Giulio Giorello perché è stato amico di molti di noi perché io ho avuto l'occasione di frequentarlo moltissimo negli anni dell'università già da studente e poi poi anche da collega e perché è stato un grande combattente per la libertà che ha appassionato molti giovani anche al dibattito sulla libertà e in particolare sulla libertà dei popoli è stato Giulio che mi ricordo in una in una camera d'albergo di Napoli ha iniziato così a parlare a parlarmi degli uiguri e poi Giulio ha guidato una delle marce della libertà insieme a Rebia Kabir che ha contribuito anche grazie all'impegno di Vincenzo a portare in Italia Giulio mi ricordo aveva una grandissima passione per la libertà del popolo irlandese e è riuscito anche a trasmetterla questo mi ricordo anche a lezioni insisteva moltissimo perché per lui era un po' diciamo l'idea stessa di libertà quella quella lotta per la libertà che è durata moltissimo tempo e che in alcuni casi dura ancora e Giulio non negava certo anche le esasperazioni di quella lotta da una parte e dall'altra per lui era un po' il simbolo di tante altre lotte per la libertà e ovunque si doveva insistere per la libertà lì Giulio c'era dava il suo contributo se riusciva appena riusciva andava a sinistra a destra per tutta l'Italia insomma e poi l'altra grande sua passione era la libertà che era legata agli altri due era la libertà di religione la libertà di religione che paradossalmente a un certo punto Giulio alla fine degli anni 90 inizio dell'anni 2000 non mi ricordo bene che anni era forse era 2004 2005 aveva trovato anche una sorta di slogan che è il titolo è diventato il titolo di un suo libro molto fortunato anche se breve però estremamente intenso di nessuna chiesa cioè Giulio credo che quello che ci abbia insegnato almeno ha insegnato a me è che per garantire la libertà di religione lo stato deve essere di nessuna chiesa che non vuol dire che debba essere ateo l'ateismo di stato no è una religione di nessuna chiesa vuol dire che non deve privilegiare negli uni negli altri deve semplicemente lasciare i liberi di fare la loro strada e invece sempre più spesso vediamo gli stati di ingerirsi nelle chiese di ogni tipo e accettare ingerenze altrui insomma tutto questo per dirvi che Giulio avrebbe sottoscritto in pieno le parole che diceva Vincenzo all'inizio di questa lunga camminata e cioè che non ci sono tante libertà ce n'è una sola la mia libertà è la tua questo era il messaggio di Giulio Giorello che credetemi a me manca un sacco penso che manchi a tutti noi a tutti quelli che l'hanno conosciuto però il ricordo più bello è quello che avevo scritto in chat prima di andare via da questo punto di vista no surrender non arrendiamoci mai e continuiamo a lottare per le cose che ci stanno più a cuore e grazie di avermi dedicato questo spazio che volentieri ho dedicato a Giulio perché di mio non saprei che altro dire insomma se non i suoi insegnamenti noi ringraziamo io in modo particolare ringrazio te perché negli ultimi anni abbiamo fatto un po' di cose mi riferisco per esempio ai premi ai cataloghi che tu hai scritti a proposito dei premi abbiamo fatto alcune cose che da una parte mi hanno lasciato molta soddisfazione qualcuno un po' la mare in bocca visto l'ultimo convegno sulla libertà che c'ho qui ancora che ricorderai alla banca popolare di Milano e via di cento con cui un po' di fraintendimenti e via di cento poi la malattia di Giulio e via di cento ci ha portato anche un po' lontano e io sono rimasto di sasso a sapere la cosa dovunque è stato possibile mi sono adoperato per scrivere qualcosa in suo ricordo ma da un punto di vista la verità non dal punto di vista del coccodrillo già preparato in attesa del defunto e quindi mi sono permesso di dire che un figlio aveva un brutto carattere perché è pessimo credo che questo sia una delle cose che gli riconoscono tutti sia i suoi amici sia i suoi nemici sono cose che non si scrivono nel momento in cui muori e mi ha fatto piacere che oltre a te che mi scrivessi subito quella nota anche che mi guardo Boncinelli mi mandò un'email dopo averla letta quelle cose che avevo scritto proprio a caldo e ce l'ha scritto solamente bravo Vincenzo si vede che gli era piaciuto pure a lui il fatto che mi ero dedicato al carattere di Giulio o di altre cose e vabbè io mi piacerebbe fare qualcosa in nome suo perché sai come tu che hai dato molto al Premio Internazionale della Libertà sai quanto io ci tenevo che venissero fuori con i cataloghi sui premiati come tu c'eri quanto è passato o eri andato già via è passato a salutarci Sergio Delia di Nessuno Tocchi Caino poco fa no ero già andato via no lui mi ha fatto uno dei più bei complimenti a me società libera e via dicendo quanto mi ha detto vedi Vincenzo le cose che tu fai in particolare che sta marci e via dicendo ha sempre qualcosa di religioso certo naturalmente non detto per religioso non non legato a qualche religione in particolare poi sa mi conosci di questi tempi io penso da cattolico non è pure più un papa visto che un pazzo siede siede sulla soglia di Pietro e via dicendo io non mi riconosco ma anche in questo ma il senso religioso nel senso che non è rivolto agli uomini non è rivolto per vendere non è rivolto per acquisire consensi non è rivolto per presentarti alle elezioni come tutta una serie di personaggi che dicono di rifarsi al mondo del liberalismo fanno in effetti perché gli interessa far loro sta roba società libera io mi sono sempre voluto rapportare con gente che la pensasse come me da qui la sfortuna di società libera perché se non ti rapporti a qualcosa che tutti possono godere nel senso buono o approfittare nel senso più cattivo di un lavoro di un gruppo di persone via dicendo la gente dice ma che ci vado a fare vado a perdere il mio tempo se non posso subito materializzare qualche cosa perché potere non c'è e io non sono mai stato dalla parte del potere perché qualcuno che passo di me mi ha messo in testa evidentemente che il liberalismo è la contrapposizione del potere è il cane da guardia del potere direbbe anche Antissoli e quindi ho mantenuto questa società libera su questo livello quindi scarsa fortuna perché non ti leghi con nessuno non sei capace a cercare degli aiuti economici nei confronti di nessuno non sei non sei buono a fare piacere a nessuno e quindi la gente dice che bella associazione fa delle belle cose belline pure e via dicendo però però finisci là quindi dicevo mi ha fatto piacere Sergio Delia che mi ha detto che quello che fa la società libera in qualche modo è io c'ho qualcosa di religioso perché c'è qualcosa di pulito innanzitutto di pulito c'è qualcosa che non attiene al guadagno terreno non è che lo vogliamo fare il guadagno in cielo quanto andremo ma è religioso e filosofico nello stesso tempo perché non lo fai per te lo fai per gli altri come se tu facessi una testimonianza l'altro giorno un amico mi ha detto qui il mondo va a ramengo ci avevamo il covid ci avevamo la disoccupazione ci avevamo qui ci avevamo lì e tu fai ancora le marce a libertà e via dicendo e io gli ho detto ma se non facessi questo io sarei che cosa sarei peggio di quello che fai business fai gli affari fai le cose e via dicendo questa è la mia vocazione una vocazione perdente lo so e via dicendo ma come minimo è una vocazione di testimonianza non te la porto più a lungo perché se no mi commuovo già mi ha commosso Sergio stasera però facciamo ancora delle cose insieme inventiamoci qualcosa anche per Giulio visto che adesso dicevo a Massari con un gruppo liberale al di là di società libera mettiamo insieme una piattaforma liberale su cui parliamo dei diritti umani senza incappare in quel modaiolo di sinistrismo che loro se non sono di pelle scura come se poi non ci avessimo nulla contro la pelle scura però io mi batto per quello che c'è la pelle scura per quello che c'è l'arancione per quello che c'è gli occhi e bandola e per gli uuri e naturalmente mi commuovo per ognuno di queste di queste specificità umane nel momento in cui si trovano a mal partito tu invece hai la difesa dei diritti umani sono divisi a compartimento stagno io mi occupo di quello lì quindi lo si occupa di quello lì e via dicendo e poi siamo tutti divisi praticamente da nulla perché siamo divisi sicuramente non interessa perché io voto Trump perché Trump è contro le femmine contro i negri contro tutta questa roba e via dicendo e quindi io non posso votare Trump e allora io voto contro quella voto a favore di quel lato perché quella è tanto una brava persona io aggiungo un po' rincoglionito perché c'è 80 anni e via dicendo e nelle grinfie di Obama e dei Grinton e via dicendo che negli ultimi tempi negli ultimi anni hanno fatto tenuto la presidenza non hanno fatto che sganciabombe in tutto il mondo dove fare prima avere arabi hanno messo scombiglia a tutte le parti non conoscendo la politica estera come è tradizione americana americane sono bravi anche un po' a casa l'ora e via dicendo ma quanto mai hanno vinto una guerra dopo la seconda guerra mondiale dovunque sono andati hanno fatto facotto e poi sono dovuto andare via perché in Vietnam hanno fatto quello che hanno fatto in Afghanistan hanno fatto quello che hanno fatto c'è nulla e via dicendo però nessuno riconosce a Trump poi ti faccio una parentesi naturalmente nessuno riconosce a Trump che cosa che questo tenta a ritornarli a portare indietro i soldati americani non vuole che combattano tanto in Afghanistan non serve difficilmente attacca attacca guerra da qualche parte e via dicendo po' se minaccia l'Iran qua la mattina la sera e via dicendo però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e allora essere liberali significa rifiutare un concetto molto semplice non si può essere a favore sempre e comunque di una situazione di un gruppo di persone di una persona in cui individui tutto il bene lì e tutto il male lo individui esattamente dall'altra parte perché questo non è più significato essere libero questo significa fare partigiano di professione questo per dirti anche che a me Trump non si è affatto simpatica obbligere a schiaffi per come si veste per come cammina per le cose che dice e via dicendo però tutto il male non sta su Trump perché la famiglia le due famiglie dall'altra parte e ne hanno fatte di casino negli ultimi tempi sul piano geopolitico internazionale guerra di qua guerra di là senza conto che non allora se uno si permette di dire mi affido agli americani a questo punto beh se vince Trump vuol dire hanno eletto l'hanno voluto eleggere gli americani se vince quel lato hanno voluto eleggere quel lato ma non mi sognerei mai di dire sta tutto il male dall'altra quindi chiudo poi l'argomento congresso del partito radicale quattro anni fa di radicali italiani a Roma io vado parlo posto città libera alla fine scendo dal palco e c'era un giornalista di radio radicale che è ancora qui quindi lo può testimoniare radio radicale e mi dice unita facciamo una piccola intervista parliamo un attimo del convegno a cui ha parlato e poi dice sa la prossima settimana era inizio di novembre ci saranno le elezioni in America che ne pensi e mi ha detto io iniziai dicendo guarda non so chi vincerà in America a mio avviso potrebbe vincer l'uno e l'altro perché la signora femmina c'è da lì c'è da lì un po' di cose potrebbe fare un po' di elettorato femminile e via dicendo quell'altro il candidato maschio e antipatico e via dicendo ma a me sembra che però nei confronti degli americani parla un linguaggio un po' nuovo non l'avesse mai scritto quello lì perché poi l'ha scritto l'ha mandato su radio radicale capito mi sono pigliato un sacco di vaffanculo come un liberale non si permette di dire non che lui è a favore di Trump ma una settimana prima delle elezioni mette in dubbio che deve vincere la Clinton ecco il partigiano quello che già sa chi deve vincere chi ha vinto e viene dicendo non riesce a essere ateo laico scusa non riesce a essere laico e mi affido al mondo io guardo osservo me ne faccio un'idea ma l'idea però non porto mai sempre male qui e tutto bene qua perché questo è l'inverno il paradiso che non ci appartiene non ce ne frega più nulla hanno fatto sto sproposito ecco no scusa se posso soltanto chiusare i liberali non hanno il paradiso vedono soltanto il purgatorio non mettono nessuno in inferno non mettono nessuno in paradiso ma il purgatorio sa che ci stanno tutti insomma i liberali diceva sono fallibili sono fallibili è vero sono fallibili quindi voglio dire aspettiamo la prossima la prossima fallibilità capito che ci mette in crisi quello che abbiamo fatto fino a oggi questo è anche vero mi piace la tua la tua definizione del purgatorio e vabbè e quindi dicevo caro Luca torna presto qualche volta da lì assolutamente 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 comunque scrivi qualche cosa voglia visto quante newsletter mandiamo e via dicendo scrivi una newsletter su quelle di Parate o l'India tu che sei uno di quelli la libertà in India che significa? gli occidentali capiscono che cosa è la libertà in India manco per niente perché la libertà per gli occidentali è andare a Porto Rotondo e buttarsi a mare penso che più di là non arrivano capito? senza mascherina se non quella da sub e via dicendo la libertà per me è stata attraversare l'Europa a piedi su questioni di paura non so andato dove vai tu sai che non pido l'aereo le cose e via dicendo però ho la soddisfazione di dire che sono andato tre volte davanti e indietro dall'Italia a Santiago di Campostella e una volta sono andato dall'Italia dal passo del Gran San Bernardo a Canterbury quindi l'Europa l'ho fatta sia in senso orizzontale sia in senso verticale e ho capito qualcosa camminare ti fa capire anche l'altra grande scuola infatti nessuno cammina ti racconto solo questo e poi chiudiamo qui c'era un mio amico Pagano un mio amico che purtroppo non c'è più in società libera e via dicendo allora quando andai il primo anno a Santiago di Campostella a ritorno lui mi chiedeva come andava Enzo Miani e che c'entra adesso non sei andato a casa pronto? ci hanno lasciati soli qui pronto? non sei solo Vincenzo siamo tutti qua ora ti sei chiuso pure il microfono Vincenzo cercavo di fare qualcosa vabbè dico questa cosa a Luca e via dicendo e allora gli dissi senti l'anno prossimo vieni pure tu con me mi fai compagnia perché io ci vado un'altra volta e via dicendo e lui mi chiese ma esattamente quanti chilometri su quelle che hai fatto tu quest'anno che sei partito da da Roncisvalle e sei andato lì a Santiago io sono 750 chilometri e lui mi dite in faccia buonariamente perché era un grande amico che purtroppo non c'è più e mi disse senti Vincenzo ma tu ti rendi conto che 750 chilometri sono un po' più da Napoli fino a Milano ma fa piedi e tu immagina la mattina che io esco da casa mia con un zaino addosso si affaccia a mia madre con un bacco e mi chiama e dice ma dove hai questo zaino addosso e via dicendo io che gli devo dire ma faccio 750 chilometri sono un po' più di più da Napoli fino a Milano e quello non mi fa venire perché quello chiama subito la croce rossa e capite ma che sei scemo cammino per 750 chilometri capite mentalità meridionale tipica e via dicendo state a casa mia figlio mio capito capito Luca e così non è pronto ma che ho fatto qui ho chiuso il microfono l'ho aperto ma per ritornare a Luca dove ti vedo può salutarti io ti vedo Fincenzo li vedo tutti vedo Maria vedo Vlanca vedo Alessandro vedo Sommar allora capito scrivi qualche news qualche cosa va bene promesso qualche volta fai anche dici ti attacchi ai twitter si mi piace qualcosa ma mandalo pure tu uno twitter visto che capito partecipate di più capito non deve essere una cosa ecocentrica sta cosa va bene ci sentiamo al telefono grazie 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 a voi grazie di cuore grazie grazie Luca anche per il non mollare il Venezuela libero di bene non molla poi Gesù e me siamo maggioranza ovunque voi non mollate mai io adoro il Venezuela sono stato tanti anni fa in Venezuela allora parla con Branca io non sono messato lei è di là è una meravigliosa sì molto bene era c'è un eco un ecocidio in atto forse il più grande al mondo io l'ho capito c'è che regista posso sì sono qua Vincenzo allora la situazione è questa siamo alla nostra quinta ora più o meno quinta ora esatta devo dire se posso fare una brevissima considerazione quella che la marcia di quest'anno è stata diciamo diversa rispetto a tutte le altre non abbiamo avuto il piacere di poter fare quel pezzettino di via francigena però in compenso ci siamo concessi cinque ore piene di dibattito cosa che non saremmo mai riusciti nella nella forma nella forma precedente quindi se se non ci sono altri interventi interromperei la registrazione c'era c'era Maria che doveva doveva allora chiamo mentre parli chiamo Mario Domini l'eremita che ci fa un breve intervento via telefono che lui non ha veramente whatsapp perché né telefono né interventi c'è un cazzo che non ce l'ha perché è remita lo chiamo subito allora non c'è se intanto vuoi parlare di un marco no scusa rovasio sentite io voglio solo aggiungere grazie per la segnalazione che hai fatto di Trump rovasio non siamo riusciti il futuro del venezueli in questo momento dipenderà dal 3 novembre scusa non c'hai il telefono di rovasio tu blanca blanca il telefono di Sergio non ce l'hai non ce l'ho veramente e niente a Domeni non prende il telefono quindi io posso solo farvi sentire l'ultimo messaggio sempre locale di Veronica Aurofino che era la coordinatrice dei gli artisti africani per la democrazia in Africa e ecco ve lo faccio sentire lo cerco ma Comini c'è Comini? no io lo vedo e allora io non lo vedo come vai non lo vedo però non cioè non lo vedo in video ma lo vedo presente ma presente ci sono non lo vede in video lo vede presente presente è dove? a casa tua sta ci sta ci sta collegato mi sentite? mi senti? adesso ti sento ma ti vorrei pure vedere aspetta eh che sto in macchina adesso parteggio ecco qua manda su come? no ce l'ho con Maria manda due minuti che devi mandare ah sì si sente? datemi due minuti che salgo a casa così sono più noi guardiamo una cosa vai ok buongiorno e volevo partecipare alla vostra conversazione dando uno sguardo all'Africa Africa è una terra piena di sole di speranza una terra sacra ricca piena di tutto ed espropriata di tutto una terra madre dell'umanità dove in questo momento sta succedendo di tutto sta continua sta succedendo di tutto sotto l'indifferenza appunto noi vogliamo partecipare per essere vicino a questi paesi e quindi anche con la nostra manifestazione che faremo manifestazione culturale che faremo il 30 ottobre alla piazza del Panteo insieme a dei musicisti africani ed altri artisti vogliamo manifestare a sostegno dei diritti umani contro la violenza e l'indifferenza contro la violenza nelle carceri e l'indifferenza del mondo ovunque e queste violenze devono finire devono finire e infatti tutto quello che sta succedendo in Africa perché i giovani sono stanchi di questi dittatori che continuano a distruggere questi paesi e a distruggere le nuove generazioni e anche qui devo dire che non è un bel momento quindi noi siamo artisti quello che possiamo fare è essere in piazza e manifestare con la nostra musica e essere vicino sperando che ci ascoltino il nostro messaggio di pace e della musica grazie veronico rufino va bene allora dobbiamo aspettare Comini chi c'è di marzo qui allora Evaristo chi è credo che sia Evaristo Cicatiello di Laogari se posso approfitto per cioè mi sono commosso approfitto approfitto più volte mi sono commosso perché sono incontri dove difficilmente si riesce ancora a parlare di questi argomenti quanto lo faccio negli ambienti che frequento anche politici è veramente difficile c'è poca sensibilità e ci sono quei pregiudizi di quello che diceva lei prima una sorta di partigiano dove si vede tutto il male da una parte o all'altra o contro di me o con me o contro di me la cosa più importante è che questi incontri danno coraggio a continuare ancora perché sinceramente io mi sentivo sempre più inutile in questa lotta perché purtroppo i poteri sono grandi e credo che dia forza un po' a tutti a tutti gli attivisti che sono sensibili a questi temi e quindi forse è la cosa più importante questa che siete riusciti a a trasmettere veramente vi ringrazio di cuore ok ok finito grazie aspetta aspetta non te ne andare aspetta chiamalo tu chiamalo tu pronto? no non te ne andare perché ritenevo estremamente interessante perché è bello semplice quello che dicevi bello semplice è vero e quindi come dire ma posso chiederti una cosa naturalmente sei libero in che parte politica dici che hai fatto pure sta fregando io non ho trovato quella sensibilità perché chiaramente ci sono altri valori che condivido la parte politica di maggioranza che in questo momento c'è ah Conte e compagna sì un po' sì sì però ripeto anche lì a me non interessa non ho nessuna mira né politica né altro è soltanto che ho condiviso delle idee dei valori che non ho trovato nelle altre forze politiche quindi ecco perché però ci sono stati dei cambiamenti se non si fa un passo indietro lascerò anche anche diciamo questo no questa linea che pensavo potesse essere veramente un sogno da da portare tu segui i twitter di Società Libera? sì sì mi segui? perché io io lì spesso parlo di Conte e naturalmente ne parlo ma no il twitter no pensavo al sito no anche sul sito ci trovi i twitter qualcosa sì però frequentale un po' di più perché io ne parlo male poi quanto ci vediamo ti farò omaggio di un libro in cui delle volte parlo su Conte ma in minima parte perché io mi guarderei bene da fare un libro sul Conte il libro parli di politica internazionale e via dicendo però qualsiasi cosa tu voglia fare al mondo in politica se no poi la sconti la paghi a lungo andare e via dicendo tu devi avere davanti dei leader di qualsiasi partito esso siano ma che abbiano una consistenza abbiano anche un po' di cultura perché non fa male ma abbiano una consistenza e una capacità di portare a sintesi alcune cose che vanno fatte per forza e quindi se no si prende una massa di chiacchiere e via dicendo non ne viene più fuori e via dicendo io come avrei potuto il capire penso tutto il male possibile immaginabile di uno come Conte perché ho iniziato a parlarne male quando ancora doveva fare il governo con la Lega e poi quanto l'ha fatto il governo con la Lega ho continuato a parlarne male e poi ne parla ancora ancora più male dopo che ho fatto il governo con il PD ma è legato a un piccolo episodio vedi quanto tu ti trovi davanti uno che vuole essere un leader in un paese specialmente occidentale in cui ci dovrebbe essere un certo tipo di gente accorta e via dicendo in cui presento un curriculum in cui ci sono due tre imbrogli nel curriculum e via dicendo tu capisci che non vai da nessuna parte perché poi a lungo andare poi lo vedremo nel corso di questo lockdown prossimo e via dicendo tu hai una classe dirigente che non riuscirà a tenere il popolo perché non ha nessuna stima il popolo non ha nessuna stima di questa classe dirigente e quanto parlo così non parlo solo Conte che imbroglia il curriculum parlo anche di quelli che vanno contro Conte cioè parlo da signora Meloni e parlo del signor Salvini quindi io non è che parlo male di Conte perché poi devo parlare bene di quegli altri anche perché come dicevo prima nel discorso che facevo con mio amico Guzzardi il liberalismo non può legarsi da nessuna parte perché se no andrebbe a fare l'agile troppo in un partito non andrebbe a fare il liberale il liberale deve capire deve studiare possibilmente deve indicare se ne è capace e non deve mai andare a cercare i voti perché nel momento in cui va a cercare i voti ti dico che fai un'altra cosa quindi questo può dire che se io parlo male di Conte non è che parlo bene di Salvini e così di seguito ma adesso però mi avete cambiato suo gesto perché mentre parlavo con lui mi ritrovo davanti Comini dove è finito il mio amico con cui stavo parlando di Lau Gai sto qua sto qua è come che è uscito quell'altro che non vedete non so se mi spieghi comunque quando avremo modo di incontrarci quando finirà a Stamburiano e via dicendo io ti devo regalare un libro tu segui un po' le cose su non molto voglio dire su quelle di Twitter ci vuole cinque secondi a leggerle ok ma tu sei a Roma o a Napoli a Napoli ma dove che ci siamo conosciuti noi l'anno scorso alla marcia sono venuto io anche a relazionare per il laureato ecco mi ricordavo non mi ricordavo l'anno scorso ma mi ricordavo alla marcia alla marcia l'anno scorso il capo in testa di Lau Gai che fa? sta cioè continua imperterrito nella nella missione che cioè nella possibilità di informare di cercare di quanto più possibile informare soprattutto perché c'è molta disinformazione quindi sensibilizzare questi tempi però ripeto purtroppo non è facile non è tu le ricevi le newsletter settimanali di Società Libera? no non mi arrivano dammi l'indirizzo che te la faccio arrivare sì allora Evarci Evarci che sono le iniziali di nuovo il cognome Evarci Evarci io vi ricordo che poi comunque questa qui viene registrata e sarà magari magari ce lo scriviamo in chat l'indirizzo e se ce l'ha boh io ce l'ho già Evarci lo passo te lo passo te lo passi tu vabbè cioè io volevo soltanto dire che giusto perché poi andrà su Radio Radicale su Libere TV no giusto per rendere il domino pubblico hai ragione Marco hai ragione è bellissimo per me non ho proprio e ti chiami Evaristo in tutti i casi di Cicatillo Cicatillo ma proprio napoletano eh sì sì ebbè siamo pure mezzi paesani sono di Salerno ah sì siamo campani va bene va bene ti saluto e ci penso sentiamoci presto ok grazie Comini eccomi allora mi associo anch'io ai complimenti perché è venuta molto bene anche ora si è arrivato non mi imbrogliate no io sono qua dalle 5 anzi alle 4 e mezzo di 4 e mezzo quindi già ti sei perso la mia introduzione quindi non ti puoi complimentare con me va bene va bene ma ho sentito i tuoi interventi dopo va bene va bene no mi è sembrato molto molto interessante anche i vari interventi insomma l'ho trovato e poi effettivamente come diceva prima Marchese c'è stato modo di fare un dialogo più articolato rispetto e non avremmo fatto dopo una marcia di 5 km sicuramente quindi quello e poi la cosa che a me è piaciuta maledettamente è piaciuta il fatto che mi sono potuto ascoltare l'attivista di Hong Kong che mi parlava da Taiwan mi sono potuto ascoltare il giornalista di Radio Radicale che mi parlava da Bangkok no i francesi che parlavano da Parigi quanto diavolo trovi una cosa fatta così capito diciamo che la differenza rispetto alla marcia a Campagnano è che lì a fine marcia c'è i piedi in fiamma e qui abbiamo gli occhi rossi sì e c'è il velo che ti fumano poi vedo che c'è rimasto Gianni creare una piattaforma dove dibattere sui diritti umani è una cosa interessante insomma come diceva prima mi riallaccia a quello che diceva prima Alessandro cioè che questo incontro ha dato luogo a tanti spunti e sarebbe interessante fare degli incontri su base mensile no scusate vedo colacione Marco Marco deve essere lui che deve parlare Gianni colacione lo chiamiamo vediamo se ci sente se ci ascolta lo vedo qui vuol dire no 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 c'è il microfono spento c'è la telecamera chiusa quindi ah quindi se n'è andato praticamente no no c'è potrebbe dorme ma non non si vede non si vede non si vede e invece scusatemi l'ignoranza voi che siete esperti Radio Radicale perché mi ha scritto Falconio no dice grazie Olita grazie Vincenzo non ti preoccupare ma ci ha mandato in diretta o in differita come si fa a vedere studiatelo sicuramente ha registrato e manderà te lo dico subito perché poi sono andato sul programma di oggi sul palinsesto e c'era scritto 15 marcia internazionale libertà sì però anche questo non assicuro chi andava in diretta o in differita sì sicuramente hanno registrato e poi quindi non siamo andati in diretta la prima pagina di Radio Radicale la dà come live cioè diretta ah sì sì e come hanno fatto a prendere 5 ore del loro palinsesto sicuramente una parte comunque quello che è importante è che abbiano registrato tutto perché così almeno possiamo divulgare grazie al loro sito che Radio Radicale comunque infatti ormai riesce a raggiungere con l'online tante persone quante stanno nei scusa è qui ancora presente Radio Radicale su Zoom perché lo vedo qui Radio Radicale sì stiamo andando in onda ho appena aperto sul telefono e stiamo in onda pochi minuti di differita pochi secondi pochi secondi vabbè non ho capito scusate l'ignoranza la telecamera di Stefano di Stefano questo che c'ha Stefano è una persona prudente avrà fatto due collegamenti distinti sì ma vuol dire è da oggi che si ha messo quella cosa lì con la fotografia sì è la sua fotoprofilo sì sì ma lui chi è? lui è proprio la persona che per Radio Radicale sta registrando il tour ok adesso però non roviniamo la registrazione di Radio Radicale non voglio sapere è che si chiama Stefano Marella sì o Stefano Marella è un altro Stefano Marella Stefano Marella lo vedete che c'è anche Stefano Marella sì sì è su due collegamenti Marco Marchese è la sua fotoprofilo Maria sei andata? no no ma c'è tutta sta gente qui c'è ancora Guzzardi c'è anche Enzo Miani ricominciamo Enzo sono qua ma mi sto dividendo fra voi e il telegiornale sì allora visto che sta qui Enzo il mio braccio non esiste più eh l'avrai sfruttato troppo eh no domani ne parliamo perché se no andiamo su Radio Radicale capito? no così facciamo visita ortopedica su Radio Radicale mi sembra troppo per Radio Radicale volevo dire domani ci citiamo e poi ci provo così vedrai che ti convinco che colpa tua come fa il governo va bene allora quando c'è un minuto diecinue di tempo mi chiami tu Enzo domani mattina ti lascio riposare un po' ti faccio dire fatta grossa sì infatti poi c'è qui ciao Enzo ti saluto per ora perché seguo un attimo cosa dice Conte perché sono curioso di sapere come ci vuole terrorizzare ancora se può ecco poi c'è Simone Lattanzio ancora qui come ti è sembrato Simone Lattanzio è giusto il tempo di togliere di mettere il microfono molto interessante credo di avere anche imparato qualcosa dunque adesso più tardi proverò a ripetere qualcosa a mia moglie per vedere se ho veramente capito vabbè intanto tua moglie è più brava di te io a tua moglie ora che mi ricordo quanto è venuta la presentazione del libro l'anno scorso mi chiese e gli dissi che gli avrei mandato le newsletter dell'ambasciata americana poi non glielo più girate ahia ecco perché ecco perché ero nervoso negli ultimi mesi vabbè gliele girerò comunque tu la prossima settimana vieni a casa mia e ne parliamo volentieri grazie vincenzo dimmi volevo dire che si è parlato molto di Cina oggi si è parlato di libertà conculcata secondo me ai popoli di minoranza ma prima di tutto ai cinesi che come qualcuno ha detto oggi giustamente non hanno neanche mai conosciuto libertà e democrazia come forse nemmeno i russi si può dire il problema però è un altro qualcosa si può fare noi in Italia dire che per esempio la svendita dei porti ai cinesi non ci sembra una politica intelligente visto che abbiamo a che fare con un paese il quale non ha le garanzie di democrazia di rispetto del lavoro minorile del rispetto delle minoranze del rispetto anche delle proprie stesse cittadinanza in campagna nelle campagne come assistenza sanitaria e tutto il resto quindi quello si può fare è una cosa concreta che si può mobilitare e sicuramente si troverebbe anche molto consenso e allora il libro mio l'hai avuto da troppo poco tempo ma io l'ho avuto da dieci giorni non sono riuscito ancora prima lascia bene da troppo poco tempo la prima parte si occupa dei quadri e del tuo partito il tuo partito repubblicano vecchio perché non esiste più io non ho nessun partito ho aiutato accuratamente di scrivermi a qualsiasi partito adesso parliamo di quello lì l'ultimo che abbiamo conosciuto quello che esisteva è quello che esisteva tu tralascia pure quella parte lì dedicati alla seconda parte del libro se vuoi perché parla solo di politica estera e vedi quanta roba trovi nei cinesi in Asia in Asia ma mi chiedevo cosa possiamo fare noi qua non solo dicendo che i cinesi sono imperialisti e espansivi come un loro morale il problema è cosa possiamo far noi gli spiegano come si sono comportati e come continuano a comportarsi in Africa di conseguenza sai già come ti dovresti difendere qui cioè i porti non li dovresti dare ho capito ma qualche volta bisogna anche far sentire la voce perché magari molta più gente di quella che segue un dibattito interessantissimo come quello di oggi molta più gente finirebbe a dire beh su queste cose puntiamo i piedi e non è una questione di destra e di sinistra è una questione anche di se non puoi relazionarti alla pari con chi non ha il rispetto nemmeno nelle proprie regole dei diritti elementari che noi magari qualche volta perdiamo ma che sono almeno formalmente sancitti c'è una buona differenza capisci ok saluto Blanca ciao Blanca ciao Blanca io ti saluto perché voglio sentire quali altre cose ti propongo ogni tanto ricordare che esistiamo quando parliamo ci sono stati nominati tantissimi popoli ma è la situazione che viviamo quindi è un riflesso di ciò che la comunità internazionale e tutte le sinistre soprattutto a livello quasi che universale sostengono quella tirannide a Maduro quanto lo cacciate quanto lo cacciamo a Maduro bene Maduro appunto nell'ultima intervista mi ha fatto Liberi.tv quando mi hanno chiesto ho fatto questa domanda ho detto si rinforzerà e con il sostegno dell'Unione Europea alla opposizione attuale che è a livelli di corruzione inimmaginabili per cui il Venezuela perderà tutta la catena petrolifer che aveva negli Stati Uniti SIDGO perché non sanno più come pulire la pentola ecco il continuismo e sono come ho detto all'inizio la quarta zampa che stabilizza perfettamente penso che Maduro si rinforzerà se vince Trump avremo uno spiraglio un interstizio micromolecolare di speranza questo è comunque Aires Venda la battaglia è condivido anche io anche perché se vince Bay Biden ha abbandonato ogni speranza sì no in pieno continente perché adesso con questa vincita abbiamo nuovamente Evo Morales in Bolivia la Kirchner in Argentina la situazione in Nicaragua Centro America con anche questo per l'attuale presidente del Salvador Messico con AMLO il Papa che alleggia che alleggia su tutto il continente sudamericano bene ma tu sai che Aires Venda è totalmente antivaticano con il pronunciato con la legge e lo gira Vincenzo bene difatti ma lui è pacciamama Cristo Gesù è uno scemo e poi è stata la sua magnifica dichiarazione poi animista dunque spero che tantissimi cattolici trovino nelle chiese evangeliche la prateria dove andare a capire ed imparare dalla parola del Signore che non torna mai vuota ciò che deve essere per noi cristiani seguire Gesù ti ringrazio e viva Gesù e la gloria sia per lui per tutto ciò che gli hai dato ad oggi grazie Vincenzo il paradosso sentivo l'amica Bianca Briceno e viene un po' da commuoversi a vedere cosa è successo e succede ancora in Venezuela che era un paese che poteva essere ed era anche più prospero e come in fine conti per tatticismo in Europa e in Italia si guardi a tutto questo con delle partigianerie che chiudono gli occhi davanti a tutte le altre cose che soffre il popolo venezuelano ma la domanda è ma è possibile che dobbiamo sperare che vinca un Trump che è un personaggio disinvolto pur di avere che non vincano persone che vanno a dare a braccetto con il peggio che c'è nel mondo io mi chiedo la sinistra democratica dove è finita è sparita non è più di sinistra democratica c'è la sinistra e la destra ho capito è un bel disastro perché io francamente per Trump non è che sbaglio però saremo costretti a sperare che vinca Trump per il Venezuela per i cinesi in Europa per tutto che mi sembra quello che ci regala alla sinistra è l'obbligo di scegliere Trump rispetto al peggio e non è non è il massimo no non è il massimo affatto non è affatto il massimo va bene non dico altro per dire che veramente si interebbero vergognare tanta gente anche di casa nostra va bene ti saluto e ti saluto e scusate se ogni tanto mi sono ancora intromesso a domani a domani a domani bene Vincenzo auguri per tutti bene Vincenzo vuoi fare una breve chiusura così no volevo vedere solamente il coso qui volevo salutare Gianni ma con la cione ma non è possibile no non c'ha non c'ha risposto per chi è non dov'è Maria o dico a te Salah può darti mi confondo io Salah buonasera ah eccolo lì eccomi buonasera sono Salah Cabraoui un giornalista siriano regista voglio parlare in memoria di mia moglie Alessandra Mulas che è andata via il 3 settembre mi dispiace lei come noi siamo parlare di punto di libertà lei ha parlato sempre di un punto di libertà per i siriani che adesso viene qua in Europa io sempre parlavo di libertà ma sei arrivato tardi sei arrivato adesso no no io sono qua del 4 dalle 4 sì aveva avuto il contatto da Dechen vero? perché Dechen mi ha detto che invitava qualcuno che aveva conosciuto Alessandra o forse no non era proprio nell'elenco Salah Maria non era nell'elenco no con Gianni no no mi dispiace è venuto di Gianni e dalle 4 come è rimasto nascosto lì? comunque voglio parlare di questo punto che lei ha parlato sempre che il peccone siriani normalmente chi voleva venire qua in Europa non ha il vista normalmente quando vuoi venire normale con vista con soldi con tutto per visita o per altra cosa non posso farlo ma come rifiugiati posso farlo non è difficile viene col mare senza problema e gli altri che vogliono venire qua senza problemi senza altre cose tutto pulito non posso venire questo è un punto importante che posso mettere sulla luce qua dentro la politica di Italia per esempio ho capito e quindi a quanto tempo sei qui? sono al 4 senso al tempo che hai parlato tutto il decino sono qui su Zoom sono qua in Italia sono qua in Italia per due anni due anni che fai studi qui studi no io sono fotografo lavoro come fotografo come fotografo sì e dove sei a Roma a Roma sì posso chiedere di che religione sei? di che religione sei? sì in Siria sono adesso io non credo io io non credo di tutte le religioni ma sono un parte musulmano un parte cristiano ah interessantissimo così in parte è un parte hai fatto la pace di Francesco un poco e un poco ah guarda è molto interessante quello che dici perché non esiste poca gente che pensa così o sei cristiano o sei musulmano o sei ebreo ma un poco e un poco no sì ecco e come mai non lo so che posso fare questa cosa e voglio chiedere una cosa che è possibile non lo so per fare qualcosa il nome del mio moglie Alessandra Mulas perché non lo so che tutti riconosce lei lei è lavorata tanto tempo per libertà di tante regioni come Siria come Libano come Afghanistan è lavorato sempre per il Medio Oriente sì e dove lavora? non lo so che lei lei ha fatto lavoro in Siria Afghanistan Libano Iraq e adesso dove sta? lei è morta è andata via il 3 settembre è morta? sì mi dispiace e c'è c'è i figli? no no non c'è i figli ho capito e per questo voglio fare qualcosa in memoria di lei e adesso vediamo in Siria io ho parlato con un amico lui voglio vuole mettere il nome suo su un 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 di Siria che è liberata dai terroristi non ho capito il nome dove lo vuoi mettere su? il nome di Alessandra lo metti dove? lui vuole mettere come mettere il nome di questa aerea il nome di Alessandra capito? ah vuole dare il nome di questa aerea un'area un'area su capito eh anche che bisogno qualcosa che possa aiutarti per fotografo per altre cose così sono disponibile e come sei arrivato a Società Libra? a noi come sei arrivato? qua in Italia? no no qui stasera a noi questa sera a Gianni a Gianni a lui sì esattamente chi è Maria? Gianni Davalle di Laogai ah con Laogai sì ho capito ho capito ho capito senti Maria prendiamo e facciamoci dare indirizzo come ti chiami scusa mi chiamo Salak Cabravi è troppo difficile no io lo vedo il nome e cognome li vedo e ce lo puoi scrivere in chat così non lo diffondiamo il tuo indirizzo e-mail certo certo tanto ma con la chat non va diffusa vero? Salak Calabravi ecco qui Salak Calabravi ecco metti Salak Calabravi Siriano Maria se no poi non ti dimentichiamo intanto Gianni Colacione saluta tutti grazie ha lanciato ha mandato un messaggio in chat Gianni Colacione va bene va bene voglio salutare tutti anche io molto interessate tutto che ho parlato oggi vediamoci cerchiamo di vedere appena è possibile cerchiamo di vederci a Roma appena è possibile perfetto grazie va bene grazie a te grazie a te grazie arrivederci va bene e allora noi abbiamo chiuso qui la serata è stata lunga è iniziata alle 3 è finita alle 9 6 ore basta bisogna solo staccare sì volevo approfittavo che c'era Alessandro Comini io volevo dire una cosa Simone dobbiamo vedere quanto fare la riunione su quell'altro argomento noi capito Maria sì quanto la volete fare non lo so in settimana ma questo organizziamoci con calma Vincenzo perché altrimenti poi diventa una cosa operativa che c'è la registrazione e tutto quanto quindi sì va beh allora ci vediamo la prossima settimana e decidiamo quanto dai sì sì va bene grazie grazie a tutti a tutta la società libera a te in particolare Maria e Vincenzo ciao Blanche ciao a tutti di questo ciao Vincenzo grazie grazie per la traduzione e per l'assistenza pronto volevo dire volevo dire solo una cosa poiché la giornata è uscita così bene con tanti spunti tanti interessi e via dicendo al di là che sarà su Radio Radicale quindi sul nostro sito dopo e quindi su Libri TV e via dicendo io ne farei tre paginette capito in cui presentiamo questa serata e ora la mandiamo a tutti gli aderenti agli iscritti su Città Liber ai professori agli amici capite perché poi non tutti vanno a vedere Radio Radicale avete capito come si fa a scuola sicuramente anche chiunque si interessi di politica la guarda e l'ascolta però avere un documento ragionato da parte nostra che sia anche di guida per chi ci vuole seguire in questo percorso che abbiamo lanciato di piattaforma è utilissimo e quindi fa una specie di sunto capito si una volta fatto io l'ho posto sul blog di Aireswain va bene io però non ho materiale io qui solo l'elenco di quelli che hanno parlato poi io non ho materiale alla gente che cosa ha detto vabbè basta che tu chiedi i contributi a chi ha parlato e poi se si riguarda ti mandano non me ne vengo più fuori così o aspettiamo che va su Radio Radicale e da lì cerchiamo di di tirare le somme no? per ringraziare ulteriormente Radio Radicale c'è pure un sistema di trascrizione automatica Radio Radicale quindi ti renderà più semplice tutto il lavoro perché una volta che lo pubblica c'è anche la trascrizione automatica e noi potremo prendere tutto quanto quello che è più interessante bravo allora aspettiamo aspettiamo che c'è sta viva Radio Radicale via lo dico così viva Radio Radicale il partito radicale tra stazionale e traspartito società libera e Venezuela libera democratica e cosciente va bene viva viva noi allora ok buonanotte a tutti me ne vado ciao a tutti buonanotte grazie per la splendida marcia Radio Radicale ciao ciao ciao